Buongiorno a tutti, iniziamo questa maratona che abbiamo organizzato insieme a Francesca Scopelliti della Fondazione Enzo Tortora, Fondazione Internazionale, che ha sicuramente come principale obiettivo e scopo quello di ricordare la morte di Enzo Tortora, avvenuta il 18 maggio del 1988, ma anche perché con Enzo Tortora, già nel 1987, dopo le vicende che ahimè tutti conosciamo, partì una campagna per quella che si definì una battaglia per una giustizia giusta e perché, lo ricordiamo con una doppia valenza, perché quella battaglia che dura ormai da parecchi anni, da più di 30 anni, è una battaglia che ancora non ha condotto a nessun risultato pratico, se vogliamo essere realistici. C'eravamo riusciti con un referendum nel 1987 insieme ai radicali, saluto qui tra l'altro Rita Bernardini, e avevamo proposto un referendum sulla responsabilità civile dei giudici, referendum che ebbe un plebiscito, anzi forse uno degli ultimi referendum che ebbe anche il quorum, e con il quorum anche un plebiscito, referendum che però fu tradito dal Parlamento e ahimè bisogna dire anche dal governo di allora, con una persona che io ho sempre ammirato e stimato molto, ma che in quell'occasione rappresentò una grande delusione, che era il ministro Vassalli, Giuliano Vassalli, ma insomma con la complicità del governo e del Parlamento fu fatta una legge che tradì il senso profondo di quel referendum e da allora insieme a tanti abbiamo continuato per anni a cercare di fare una battaglia per garantire in questo Paese la possibilità di parlare di giustizia giusta. Non ci siamo ancora riusciti e perché oggi abbiamo preso questa iniziativa? Perché nel filone dell'obiettivo di raggiungere delle riforme che ci possano allineare al concetto di giustizia giusta, all'appuntamento del 12 giugno con i cinque referendum che sono rimasti, purtroppo la Corte Costituzionale non solo ha fatto fuori il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, cosa abbastanza singolare perché era un referendum di minore impatto rispetto a quello che fu presentato nel 1987, però le cose in questo Paese vanno così, diciamo nel 1987 la responsabilità civile dei magistrati può essere sottoposta al referendum, nel 2020, 2021 anzi, non può essere sottoposta al referendum. Purtroppo sono stati fatti fuori anche due altri referendum che erano quello sulla legalizzazione dell'eutanasia e quello sulla legalizzazione della coltivazione della canapa che certamente avrebbero aiutato il raggiungimento del quorum, purtroppo gli effetti negativi della guerra si scatenano anche sulla informazione del nostro Paese, per cui di referendum sostanzialmente a distanza di un mese non se ne parla, ma noi pensiamo che quello sia un appuntamento straordinariamente importante per compiere un pezzetto di quel passaggio per arrivare a una giustizia giusta. Non è risolutivo perché ci sono tante cose, almeno per come la penso io, dall'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale al tema, ci sono tante questioni, ma quei cinque referendum con la custodia cautelare, con la riforma del CSM, con la legge Severino, insomma ci sono comunque un pacchetto di questioni che sicuramente possono far fare un passo in avanti a questo Paese. Ecco allora, noi oggi vogliamo e ringraziamo tutti coloro che si avvicenderanno a questo microfono, in questa maratona che andrà avanti fino alle 18, lasciatemi ringraziare anche oltre a tutti gli operatori della stampa, delle televisioni, Radio Radicale che ci registra e credo ci manderà anche in onda in talune occasioni, ringrazio ovviamente tutti coloro che prenderanno parte a questa maratona e uniti sicuramente nel ricordo di Enzo Tortora, ma soprattutto della sua battaglia per una giustizia giusta che per noi ha in questo momento come primo appuntamento importante quello del 12 giugno con il referendum. Quindi grazie a tutti, adesso passo la parola a Francesca Scopelliti. Grazie, grazie, grazie a tutti voi, mi unisco ai ringraziamenti di Roberto Giacchetti. Il 18 maggio del 1988, 34 anni fa, moriva Enzo Tortora, tumore ai polmoni, si disse. In realtà la causa della morte fu quella bomba al cobalto che gli era scoppiata dentro 5 anni prima, il 17 giugno del 1983, quando la procura di Napoli spiccò un avviso di garanzia. Fatto senza una prova, senza un riscontro, senza nulla, proprio nulla, solo la parola di due pentiti, fu arrestato e sbattuto in galera. Lui, uomo mite e perbene, fu presentato come l'alcapone della criminalità organizzata, ma a dispetto di chi lo voleva criminale, lui si riconfermò uomo di alta e specchiata moralità e a dispetto di chi lo voleva vittima, lui si fece leader di una nobile battaglia per la giustizia giusta e dominò quel male che lo aveva colpito perché aveva degli appuntamenti irrinunciabili, imprescindibili. Voleva portare in Europa la denuncia del sistema penale italiano e per questo si candidò con Marco Pannella, andò al Parlamento europeo, assolse questo compito e quando poi fu condannato a 10 anni si dimise e tornò in galera. Voleva denunciare il degrado delle carceri italiane, ahimè un tema di grande attualità che oggi è affidata soltanto alla passione radicale di Rita Bernardini che è qui con noi e che ringrazio. Voleva che venisse riconosciuta la sua completa estranetà ai gravi reati contestati, fu assolto prima in appello e poi in cassazione con formula piena. Voleva tornare in Rai al suo pubblico e dire a tutti i suoi telespettatori che lui era una persona per bene che non aveva mai tradito la loro fiducia. Voleva portare al successo, come ha detto Roberto Giacchetti, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati, un referendum vinto con oltre l'85% ma tradito da una legge inadeguata quanto inapplicata. Assolti questi compiti, quella bomba al cobalto gli è esplosa dentro. Enzo Tortora è morto di mala giustizia, non di vecchiaia, non di malattia. E in un paese civile, in uno stato di diritto, credo che questo sia inaccettabile. Sciascia quando morì disse che non sia un'illusione. Ahimè, è stato ancora peggio. E a questo anche si aggiungono poi le considerazioni di Giuliano Ferrara che nella prefazione del libro che raccoglie le lettere di Enzo scrittemi dal carcere, Ferrara che dice e ogni tanto penso, mia cara Francesca, che morendo di passione e di dolore il tuo Enzo ha perso tutto e si è perso a tutti ma ha guadagnato l'oblio su quel che sarebbe accaduto. Cioè la situazione è molto peggiorata. Prima di morire Enzo mi ha affidato questa fondazione che porta il suo nome per la giustizia giusta, un'eredità pesante, difficile e onerosa, ma che ho cercato di portare avanti con tutte le mie forze. E ho cercato, questo sì, soprattutto di evitare che il nome di Tortora si dimenticasse perché il tentativo di tutti, giornali, magistratura, politica, era quella che il nome di Tortora svanisse nel nulla. Beh, questo non gli è riuscito e ogni anno sono riuscita a ricordare questo triste accadimento. Ma quest'anno avevo bisogno di qualcosa di più. Ecco perché mi sono rivolta a Roberto Giacchetti. Perché volevo qualcosa di più? Devo dire la verità, per paura. Per la prima volta ho paura che si sia arrivati a un punto di degrado di non ritorno. Io ho vissuto in presa diretta la vicenda di Enzo Tortora. Ho vissuto la sofferenza, la rabbia, la delusione, l'amarezza, il dolore di Enzo per quello che stava accadendo a lui e per quello che lui pensava potesse accadere a chiunque. Ma non ho mai avvertito così limpidamente il degrado giustizialista che stiamo attraversando. Nell'83 ho pensato che l'arroganza accusatoria si consumasse su Tortora perché era personaggio famoso e perché, come scrisse Enzo, i suoi magistrati per salvare la loro faccia, fottono me. Oggi no. Il comportamento della magistratura, di quella associata, di quella che comanda, maimè, anche di quella che tace di questi ultimi anni è allarmante per la tenuta democratica e costituzionale. Non ho mai visto una contrapposizione così determinata e arrogante contro il provvedimento di un ministro della giustizia. Non ho mai visto un così sfacciato controllo, direi, dominio sulla politica. I magistrati rimproverano la cartabbia di voler eliminare la loro indipendenza. La verità è che loro vogliono il controllo della classe politica, così come vogliono il controllo dei mezzi di informazione. Nell'83 TV e giornali riportavano notizie cattive, false, che erano le veline della procura, scritte e riportate senza nessun controllo. E hanno cannibalizzato in questo modo un uomo per bene. Ma accanto a loro c'erano anche degli anticorpi. C'erano Leonardo Sciascia, c'era Enzo Biagi, c'era Montanelli, c'era Giorgio Bocca. Oggi trionfa il travaglismo e basta. Che è il megafono appunto della magistratura più corporativa. Per questo ho pensato che la memoria di Tortora nel 2022 meritasse qualcosa di più. Perché Enzo avrebbe potuto darci anche una mano. E così, con Roberto Giacchetti, che non finirò mai di ringraziare per avermi aiutata e confortata in questa iniziativa, abbiamo deciso questa giornata, una maratona oratoria, per dire in sostanza rendiamo onore alla memoria di Enzo, andiamo a votare il referendum sulla giustizia. Sono cinque quesiti gentilmente concessi dalla consulta, che sono però sempre temi fondamentali, temi importanti per una buona riforma del sistema giurisprudenziale. Guardate, io, tanto poi ci sarà chi li ripete, ma voglio sottolinearne soltanto tre, perché sono tre referendum, tre quesiti che riguardano direttamente la vicenda di Enzo. La divisione delle carriere. Enzo fu condannato il 17 settembre del 1985, ma quella sentenza era stata già scritta il 17 giugno dell'83, il momento dell'arresto. Perché c'era una connivenza, una convivenza tra i di Persia e i di Pietro, che erano i procuratori, e il giudice Luigi Sansone. Non poteva essere diversamente. E la conduzione del processo lo conferma. Il limite, l'altra voce, che è il limite dell'uso della custodia cautelare. Beh, guardate, il virus degli errori giudiziari, di cui l'Italia porta un triste vanto, un triste record, il virus è proprio nella carcerazione preventiva. Se tu vieni arrestato, in primo grado vieni condannato, perché appunto il magistrato deve salvare la sua inchiesta e la sua reputazione. E poi terzo elemento, ed Enzo infatti fu arrestato senza prova. Terzo quesito che tocca direttamente Enzo, la valutazione dei magistrati. Oggi sono tutti eccellenti, il 99% dei magistrati sono perfetti, perché la valutazione è fatta all'interno da altri magistrati. I latini dicevano canis canem. Ecco perché con il referendum si chiede che nella commissione di valutazione ci sia anche con un rappresentante dell'avvocatura e del mondo accademico. E allora mi avvio a concludere qual è oggi il senso di questa giornata. Che vuole ricordare Enzo? Andiamo a votare il referendum senza se e senza ma. Sarà lui ad accompagnarci. Naturalmente c'è chi si oppone, ma a chi dice che sarà difficile raggiungere il quorum, perché i quesiti concessi dalla consulta sono quelli meno popolari, più difficili da spiegare, più tecnici. Io dico che non è così, basta saperli spiegare. E d'altronde non ci si può arrendere prima ancora di provare. Io ho conosciuto Pannella, Pannella non si è mai arreso, ho vissuto accanto a Enzo, Enzo non si è mai tirato indietro. Anzi, come diceva Gio Belusci, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Basta spiegarlo ai cittadini. E a chi dice che le materie affrontate del referendum si possono risolvere in Parlamento, beh, dico che mente sapendo di mentire. L'hanno confermato recentemente con la riforma Cartabia, ma ancora più nasconde una mara verità che non dovrebbe appartenere alla sinistra italiana. E cioè togliere il diritto referendario ai cittadini per favorire la casta della magistratura. Non è da sinistra. E a chi dice che i testi sono impropri, sono scritti male, inadeguati a risolvere il problema, beh, dico che anche questo è un pretesto. I testi, una volta che hanno avuto l'approvazione del popolo, si possono riscrivere, correggere, modificare, valorizzare, migliorare. D'altronde, nella mia esperienza di parlamentare in Commissione Giustizia, io non ho mai visto l'approvazione di una legge scritta bene. Tant'è vero che subito dopo, erano necessari, bisognava ricorrere alle norme per un'interpretazione autentica della legge. E concludo. Marco Pannella mi ha lasciato in eredità un bellissimo insegnamento. Marco Pannella, del quale bisogna ricordare, proprio domani ricorrono i sei anni della sua morte. E che va ricordato per la sua grandezza politica e sociale. Ai quanto manca Pannella alla politica. Beh, Pannella diceva sempre una frase che per me è diventata una filosofia di vita, un grande insegnamento che dovrebbe essere di tutti noi. faccio quel che devo, accada quel che può. Io sono per lo Stato di diritto e quindi io andrò a votare il referendum. Andrò convintamente, proprio accompagnata da Enzo Tortora, per onorarlo e ricordargli il merito di quello che ha subito e di quello che ha fatto. D'altronde, non era Cicerone a dire che la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi? E ancora, non era Primo Levi a dire che chi dimentica il passato è condannato a riviverlo? Ecco, io voglio ricordare Tortora e non voglio che si ripeta il caso Tortora o di tutte le altre vittime della giustizia. Troppe per una democrazia basata sul diritto. Il 12 giugno votate e fate votare sì ai 5 referendum per la giustizia giusta. Grazie. Bene, grazie a Francesca. A questo punto questi erano i due interventi introduttivi di coloro che hanno imbastito questa iniziativa. Salutiamo le prime persone arrivate. Prego Fabrizio Cicchitto che oltre a essere persona che quel periodo lo ha vissuto in prima persona per l'appunto è anche un amico, è stato deputato per molti anni è anche deputato di Forza Italia e quindi lo prego di venire a prendere la parola. È arrivato poi il direttore del Corriere Sport Alessandro Barbano c'è il vice direttore di Radio Leopolda e nonché parlamentare d'Aliavia Marco Di Maio e poi come abbiamo detto c'è Rita Bernardini arriveranno mano a mano vedo anche il dottor Giacalone che saluto e do la parola a Fabrizio Cicchitto. Confesso di aver fatto un tragico errore prima di venire qua quello di aver riletto tra ieri sera e stamattina i due libri di Tortora con Francesca e con Silvia. Bene, la rilettura di quei testi devo dire che è angosciosa perché dà il senso profondo di quello che è avvenuto ma non solo di quello che è avvenuto ma che poi, diciamoci la verità si è ripetuto in modo esponenziale successivamente. Ma c'è un punto di queste lettere che mi ha colpito perché lo correlo a un'altra cosa. Quando Tortora dice chi siamo rispetto a questi PM delle spazzature e ritrovo questo termine in termini diversi nella memoria lasciata da Cagliari quando si è suicidato che ha detto chi siamo? Stiamo in un canile spazzatura, canile questi sono i termini della questione carceraria che Rita Bernardini abbastanza solitaria sta portando avanti ma sono i termini della grande questione politica e penale. Io devo stare un po' attento a misurare le parole perché non so quante querele ho avuto da magistrati sul terreno del dibattito politico e culturale ma comunque io ho l'impressione non faccio un discorso da giurista ma leggendo questa roba come è stata costruita quella operazione io parlerei di una tipica associazione a delinquere di una tipica associazione a delinquere che ha associato alcuni PM alcuni pentiti e qualche pezzo della magistratura giudicante associazione a delinquere che ha fatto un assassino perché non mi si venga a dire che Tortora è morto in seguito a chi lo sa è morto in seguito a quella bomba a Cobbato che poi abbiamo visto ha effetti su tante persone perché toglie le difese immunitarie ma il punto però è un altro il punto è che noi siamo arrivati da allora poi con il momento del 92-94 alla presa del potere da parte della magistratura da parte dei PM in primo luogo PM correlati a un pezzo del sistema informativo italiano con una bella battuta violante che è alle origini di questa cosa però la prendo come un'autocritica lui ha detto fra le varie divisioni dovremmo dividere la carriera dei PM e quella dei cronisti giudiziari cosa sacrosanta ma noi abbiamo avuto una presa del potere politico di un pezzo di magistratura questa cosa si è dipanata fino ad adesso e adesso questo potere è imploso imploso in materia in modo inglorioso perché a un certo punto come sempre capita si è dopo aver eliminato cinque partiti attaccato Berlusconi attaccato pure un pezzo di PD e così via a un certo punto si sono attaccati fra di loro e hanno usato per liquidare una questione perché lì la magistratura è sempre stata guidata da una intesa fra il centro e la sinistra a un certo punto quel matto di Palamara ha cambiato alleanze e l'ha fatto con la destra a quel punto hanno deciso che la questione andava liquidata però non hanno usato un cecchino che avrebbe fatto un lavoro selettivo hanno usato il Trojan cioè la bomba atomica perché la bomba atomica con quel cosa hanno messo in evidenza non solo hanno colpito Palamara ma Palamara era un uomo del sistema hanno messo in evidenza il sistema certo che se il Trojan fosse stato introdotto precedentemente ne avremmo sapute delle belle perché adesso stavamo già in una fase calante e allora è implosa la magistratura ma non è che c'è uno sbocco positivo questo è il punto su cui voglio concludere perché guardate questa gente ha fatto uno sciopero fallito peraltro e che dall'indice che c'è un qualche elemento di autocritica ha fatto uno sciopero fallito su una legge molto morbida quindi se a loro non va bene la legge cartabbia significa che hanno in sé un'arroganza del potere pazzesco e questo sciopero è andato però come è andato ma guardate la questione però al di là di tutte le altre cose o viene affrontata alla radice con la divisione delle carriere e la divisione dei CSM perché attenzione non è tecnica questa è il cuore del problema perché i pubblici ministeri controllano tutte le associazioni dei magistrati e controllando tutte le associazioni dei magistrati controllano anche i CSM malgrado che loro sono minoranza numerica ma gruppo leninista che guida tutto quanto e controllando i CSM qua non è solo la storia vanno al bar insieme altro che loro controllando il CSM fanno la carriera della magistratura giudicante e quindi c'è un vincolo perverso da una parte il vincolo associativo dall'altro lato i rapporti con un pezzo del mondo giornalistico quanti giornalisti hanno fatto carriera perché avevano il PM che gli passava pacchi di cose e abbiamo appreso adesso che addirittura c'erano tre pool c'era il pool dei PM c'era il pool dei direttori di quattro giornali e ultimamente abbiamo appreso che c'era un altro pool più popolare quello dei 20 cronisti giudiziari ecco se tu venivi infilato in questa cosa la sentenza era già fatta allora concludo per dire ringrazio Giacchetti e Francesca per aver fatto questa assemblea ma attenzione se non si affronta una questione tutto il resto va bene ma se non si fa saltare là se non si arriva alle divisioni della carriera noi non faremo non riusciremo mai a modificare una situazione che adesso è arrivata però al punto terminale nel senso che mentre nel 92-93 ci avevi cartelli che dicevano Di Pietro facci sognare oggi tutti quanti hanno presente che incubo è capitare nelle mani di questi di questi signori in una situazione nella quale siamo partiti mi riferisco a Tortola da un'associazione a delinquere che ha prodotto anche un assassino grazie bene grazie a Fabrizio Cicchitto adesso la parola al vice direttore di Radio Eropold e parlamentare Italia Via Marco Di Maio poi avvisiamo chi ci sta ascoltando che prenderanno la parola due direttori di giornale Alessandro Barbano che è direttore del Corriere Sport e l'amico Giacalone che è direttore spero che ci sia eccolo lì della ragione prego Marco grazie grazie Roberto grazie a Radio Eropold grazie alla Fondazione Enzo Tortora per questa giornata importante una maratona che abbiamo voluto a cui stiamo partecipando perché pensiamo che sia importante alzare quel velo di silenzio che ha coperto l'appuntamento referendario del 12 giugno e che copre molto spesso i temi della giustizia diventando e trasformando il dibattito attorno alla necessità di modificare alcuni aspetti del funzionamento della giustizia in Italia o come una battaglia di carattere ideologico o come qualche cosa che i politici portano avanti semplicemente per tutelare se stessi non è così la nostra è una battaglia di garantismo la nostra è una battaglia di garantismo soprattutto motivata dal fatto che benché possa sembrare lontano dalle sensibilità e dagli interessi dalle attenzioni dei cittadini non è certo un tema popolare non è certo un tema facile però un tema che riguarda molto da vicino la qualità della nostra democrazia e i referendum del 12 giugno sono un'occasione per dare un segnale per fare un passo in avanti per rendere la nostra giustizia più giusta come diceva Roberto poco fa nel suo intervento ma anche per mettere un mattone in più nella costruzione di uno Stato di una Repubblica più garantista di una Repubblica più vicina alle esigenze dei cittadini ma soprattutto più vicina ai valori costituzionali del garantismo ad esempio quando si parla in questi referendum di abrogare la legge Severino soprattutto in quella parte che prevede che basti una condanna in primo grado per far decadere un amministratore pubblico si fa un servizio al garantismo perché non è possibile in uno Stato di diritto che basti dove si presume almeno per quello che è scritto nella nostra carta che tutti si è innocenti fino a sentenza definitiva quindi la presunzione di innocenza non è possibile che un amministratore pubblico perché condannato in primo grado magari nemmeno per un reato di una grande rilevante entità debba decadere o venga sospeso dalla propria carica questo è un punto molto importante così come lo è lo ricordava poco fa Fabrizio Cicchitto il tema della separazione delle carriere è un argomento che abbiamo affrontato più volte a livello parlamentare mai si è riusciti a arrivare a una diciamo a qualche cosa di definitivo a qualche cosa di concreto ma bisogna insistere su questo tema e bisogna insistere non perché si è contro la magistratura bisogna insistere proprio perché si è a favore dei tanti magistrati per bene che sono la stragrande maggioranza dei magistrati che non vogliono e che non accettano determinate logiche ma alle quali talvolta sono costretti a piegarsi è perché una magistratura che ha una separazione chiara dei poteri tra quella giudicante e quella requirente è una magistratura che recupera credibilità che i cittadini sentono più vicina alle proprie esigenze di essere tutelati come prevede la nostra carta costituzionale noi abbiamo il dovere di parlare di questi referendum ma soprattutto di andare avanti anche oltre la data dei referendum per tenere alta l'attenzione sulla necessità di una riforma della giustizia di interventi in ambito giudiziario che siano più concreti più vicini più rispondenti a quanto previsto dalla nostra carta costituzionale pensiamo a quante sentenze di assoluzione hanno reso giustizia molti anni dopo e nel frattempo si sono consumati interi processi unicamente sui media unicamente sui giornali sui siti di informazione sui social intere campagne politiche si sono basate su questo carriere politiche non solo giudiziari carriere giornalistiche non solo giudiziari si sono costruite sul cortocircuito che si è innescato negli ultimi anni attorno alla gestione della giustizia e della magistratura e questo ci richiama anche io credo lo dico non solo da parlamentare ma anche da giornalista a un maggior senso di responsabilità della categoria dei giornalisti e anche qui alla necessità di rompere il cortocircuito tra una certa parte della magistratura una certa parte dei media che strumentalizza in maniera inaccettabile violando io credo in più circostanze le garanzie previste dalla nostra costituzione unicamente con l'obiettivo di massacrare a livello personale a livello umano avversari politici o avversari di altra natura credo che questo non faccia parte di un paese che si può definire civile non possa essere parte del nostro patrimonio di comunità e credo che oggi siano arrivati più che mai i tempi di mettere mano a questi temi noi ci abbiamo provato ci stiamo provando continueremo a provarci in sede parlamentare finché sarà possibile l'occasione del referendum però è un'occasione importante quantomeno per aprire un dibattito pubblico nel nostro paese che appunto viene tenuto sotto un velo di silenzio io trovo inaccettabile e il nostro contributo il contributo che noi oggi vogliamo dare è un contributo a squarciare questo velo a far parlare di questi argomenti a promuovere la partecipazione al referendum a promuovere la partecipazione e a votare sì a questi referendum perché l'abrogazione di queste norme non sono un atto contro qualcuno ma sono un atto in favore della nostra cultura giuridica della nostra convivenza civile dei nostri valori costituzionali quindi penso che questa iniziativa ben si inserisca in questo solco noi l'abbiamo sostenuta sia come Radio Leopolda sia come Italia Viva in maniera molto convinta ma qui non c'entrano le sigle dei partiti qui c'entrano i convincimenti personali e i valori che sono trasversali alle appartenenze politiche che vanno oltre le appartenenze politiche qui in ballo c'è una partita che riguarda l'interesse e il futuro di tutto il paese la qualità della nostra democrazia la qualità della nostra convivenza civile ripeto non è una azione contro una categoria come qualcuno vuole far credere con scioperi io credo anche un po' discutibili per usare un eufemismo cioè sì un potere dello Stato sciopera contro un altro potere dello Stato che ha legittimamente fatto il proprio dovere peraltro con una riforma che noi abbiamo considerato molto anacquata molto all'acqua di rose che non affronta la riforma della giustizia approvata qui alle nostre spalle in Parlamento poche settimane fa noi ad esempio non l'abbiamo votata perché l'abbiamo considerata non diciamo rispondente alle reali esigenze di riforma ecco però noi dobbiamo ristabilire una situazione di normalità e l'ultima cosa la voglio dire a proposito della politica nel momento in cui la politica ha abdicato al proprio ruolo altri hanno occupato quello spazio nel momento in cui la politica ha abdicato al proprio ruolo e ha piegato la testa a determinate logiche altri hanno occupato e preso le leve del potere in maniera impropria in maniera non democratica e non trasparente io credo che oggi nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e senza fare battaglie contro qualcuno o contro determinate categorie ma a favore del rispetto dei nostri valori costituzionali sia un dovere per chiunque abbia cuore la nostra Repubblica chiunque abbia cuore i valori scolpiti nella nostra carta costituzionale battersi non solo per il referendum del 12 giugno ma battersi per i temi che quei referendum pongono non è solo una questione dei quesiti referendari è la necessità di tenere acceso un dibattito nel nostro paese che in troppi vogliono invece sopire chiudere e smorzare quindi per questo invito tutti a partecipare al referendum a votare sì ai quesiti ringrazio ancora la fondazione Tortora e Radio Leopolda per questo impegno e tutte le persone che parteciperanno a questa maratona buona giornata a tutti grazie grazie a Marco Di Maio anche per le sue parole e il suo impegno io però lo chiedo a lui oggi e lo chiederò a tutti i parlamentari che parteciperanno qui che bisogna costituire da qui al 12 giugno eventi nei propri collegi elettorali perché non è solo la convinzione personale ma è convincere il nostro elettorato questo ci rende forti quindi adesso do la parola ad Alessandro Barbano che è direttore del Corriere dello Sport Alessandro un bel gol grazie io penso che Francesca questa celebrazione è molto importante e molto forte perché che cosa noi stiamo raccontando qui stiamo raccontando sicuramente uno dei più grandi errori giudiziali della storia ma stiamo anche celebrando uno spartiacque simbolico della giustizia italiana perché io credo che nel 1983 quel 17 giugno l'arresto di Tortora inaugura un passaggio chiave della storia dell'azione penale nel nostro paese e cioè il salto che avviene dal reato al reo dalla colpevolezza alla pericolosità dal diritto alla morale dalla prova al sospetto quello che inaugura la vicenda di Tortora è questo slittamento che purtroppo è il male dei mali a cui tutte le questioni che qui stiamo affrontando e discutendo dalla separazione delle carriere dalla ebollizione del quesito della reiterazione del reato nell'adozione delle misure caterari dall'abrogazione della legge Severino tutte queste vicende fanno riferimento a questa matrice comune nel 1983 Tortora finisce in carcere e è al centro di una persecuzione certamente perché come ha detto Fabrizio Cicchitto c'è un'associazione criminale ancorché travestita di legalità che si incarica di trasformarlo in un bersaglio ma anche perché il diritto offre a questa organizzazione uno strumento straordinario non si condanna più per un fatto che costituisce un reato no perché la legislazione speciale si è insinuata all'interno della democrazia ha iniziato a corrodere i meccanismi dello Stato liberale ha trasformato un codice penale che era il codice Rocco un codice fascista ma di ispirazione liberale in uno strumento che piano piano diventerà uno strumento illiberale perché l'eccezione surroga la regola perché il diritto dei cattivi per esempio il diritto delle confische e dei sequestri che non si fonda sulla colpevolezza ma si fonda su presupposti di pericolosità valutati soggettivamente sostituisce il diritto liberale che si fonda sulle prove perché il ruolo dei pentiti che di questo diciamo di questa architettura sono un'architrave straordinaria esprimono un giudizio sempre più piuttosto che raccontare fatti il giudizio sull'uomo condanna tortora il pregiudizio sull'uomo e questo inaugura una stagione purtroppo che continuerà nella nostra democrazia continuerà anzitutto per mano del legislatore perché per esempio figure di reato come il traffico di influenze o per mano della digiurisprudenza perché figure di reato come l'associazione il concorso esterno di un'associazione mafiosa sono figure che non hanno più alcun riferimento con i fatti ma hanno riferimento con valutazioni soggettive indotte da pregiudizi e a questo si è ridotto il diritto italiano e il punto definitivo di questa parabola è avvenuto nel 2017 nell'inconsapevolezza collettiva quando il codice antimafia che è un codice sulle misure di prevenzione che riguardano confischi e sequestri adottate nei confronti non di persone colpevoli ma di persone innocenti perfino di persone assolte sulla base di un giudizio soggettivo di pericolosità quel codice viene steso ai reati contro la pubblica amministrazione fino al peculato quindi che cosa fa? diventa la norma ordinaria è l'eccezione che sostituisce la regola ecco perché la vicenda di Tortola è simbolica perché ci racconta dove inizia questo processo distorsivo che fa slittare la democrazia italiana su un piano assolutamente illiberale ecco contro questa deriva oggi abbiamo lo strumento del referendum di cui celebriamo l'opportunità e di cui raccomandiamo l'adesione e la partecipazione convinta non perché evidentemente il referendum possa da solo d'amblè risolvere tutti i mani della giustizia non perché possa riavvolgere questo nastro che è andato abitandosi in 40 anni di eccezionalismo giudiziario ma perché il referendum testimonia una volontà la volontà della maggioranza degli italiani di cambiare e testimonia quanto riduttiva quanto barginale purtroppo sia stata fin qui l'azione riformatrice dei governi animati anche dalle migliori intenzioni ma poi di fatto vincolati dai veti incrociati dalle pressioni corporative di un apparato di potere che è un apparato di cui fanno parte spezzoni della politica spezzoni dell'amministrazione della burocrazia pubblica spezzoni della magistratura spezzoni del volontariato che difende a spada tratta il diritto dei cattivi il diritto dei pentiti il diritto del sospetto il diritto delle confische dei sequestri senza giudicato o con un procedimento che è un procedimento senza garanzie ecco di questo referendum è singolare che proprio la misura più idonea è più opportuna perché parla contro questo slittamento e questa tendenza cioè l'adozione della custodia cautelare sulla base del presupposto del rischio di reiterazione del reato adesso spiegherò perché è singolare che questa misura venga avversata dai partiti come il PD per esempio la cui testimonianza contraria ai referendum è un atto storico che suona come una vergogna per un partito che si proclama nei confronti a difesa dei deboli e finge di ignorare che sono i deboli le vittime della custodia cautelare che riguarda in Italia ogni anno migliaia di innocenti allora il presupposto della reiterazione del reato si fonda su una finzione giuridica che assume la colpevolezza come il paradigma narrativo della democrazia perché tu mi metti in carcere sul presupposto che io possa ripetere il reato ma non hai provato che io il reato l'ho commesso quindi se assumi il sospetto del mio reato come il fondamento di una misura afflittiva che suona con una condanna anticipata tu di fatto stai assumendo il principio di colpevolezza come il cardine del processo logico che anima il processo penale questa misura oltre che incostituzionale è irragionevole è illogica è irrazionale e non si presta ad alcuna giustificazione neanche a quella adotta in questi giorni è frutto di una falsificazione secondo la quale l'eliminazione del requisito farebbe liberare tutti gli autori di stalker e di violenze domestiche e di femminicidi perché sappiamo bene che non è vero che la modifica dell'articolo che disciplina i riscuiti della custodia cautelare non elimina questa condizione per i reati che riguardano la violenza e la Cassazione ha detto che per la violenza si intende perfino l'abuso dei mezzi di correzione quindi la protezione dell'incolumità pubblica è garantita la verità è che questa misura fonda il potere del sospetto e il potere di chi sul sospetto ha costruito la sua egemonia culturale e politica sulla democrazia italiana la responsabilità che il PD assume di fronte a questa scelta è di una gravità epocale e il suo segretario se la porterà sulla coscienza perché rappresenta un partito che dichiara di difendere i deboli e invece contro i deboli approva una logica securitaria una logica autoritaria che guarda caso trova la stessa corrispondenza nei partiti della destra sovranista e della destra appunto securitaria questa è una vergogna contro questa vergogna io mi auguro che i cittadini scendano in campo e che questa memoria straordinaria che la tua il tuo impegno Francesca la memoria di Enzo Tortora serva a illuminare le coscienze serva a portare volontà di cambiamento e a testimoniarla perché questo è un momento storico nella quale ciascuno di noi non solo i leader dei partiti ma ciascuno di noi ciascun cittadino ha la possibilità di dare un segnale di dire forte forte che il cambiamento non solo è necessario è indifferibile perché veniamo da 40 anni di barbarie e ne abbiamo piene le tasche grazie 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 ad Alessandro con la speranza che la sua passione e le sue parole possono arrivare in tutti gli stadi nazionali adesso do la parola a Davide Giacalone che è il direttore non so se dell'ultimo prodotto editoriale ma so che comunque parliamo di una perla di cultura e di garantismo grazie Davide grazie a voi grazie a voi posso perché c'è Conrad la linea d'ombra che è fondamentale allora intanto grazie grazie per questo invito l'avete chiamata maratona ma in realtà più che una maratona è una staffetta è una staffetta tra persone che possono avere opinioni diverse ma si riconoscono in uno stesso mondo culturale del diritto e dei diritti in questa staffetta proverò a portare il testimone su un solo aspetto perché poi su tante cose un solo aspetto l'informazione è stato qui autorevolmente detto che bisogna interrompere il cortocircuito tra le procure e il giornalismo cioè le procure e l'informazione vi permetto di dissentire non è un cortocircuito è un elettrodotto è un normale livello di comunicazione ed è basato su un principio culturale che la fa da padrone ed è il principio della presunzione di colpevolezza lo spettacolo è solo lo spettacolo dell'accusa lo spettacolo è lo spettacolo della colpevolezza Tortora il caso Tortora fu una tale eclatante dimostrazione di questo che in un paese civile chiunque si fosse avvicinato alla professione della magistratura o alla professione del giornalismo ad ogni accusa ad ogni mandato di cattura avrebbe dovuto ricordare quello che era successo a Tortora e dire non bisogna ricommettere lo stesso errore e invece dopo il caso Tortora e tanti altri casi di questo tipo ci si avvicina alla professione del magistrato e alla professione del giornalista dicendo devo trovare lo sbocco dell'elettrodotto se no non farò mai carriera questa è l'inciviltà del paese ed è un'inciviltà profonda tant'è che se voi aprite i giornali di questi giorni seguite la storia giudiziaria non solo dal punto di vista dei coinvolti politici arrestato lo stupratore arrestato il ladro arrestato il truffo o mai che arrestassero uno innocente come fai tu a sapere che è lo stupratore e ce l'hanno arrestato c'è scritto nel mandato di cattura nel mandato di cattura c'è il presupposto di un'indagine manco di un rinvio a giudizio ma quella è lo spettacolo dell'accusa io devo raccontare che poi posso anche raccontare che all'incirca il 50% di quelli che vengono arrestati vengono prosciolti o riconosciuti innocenti ma questo non fa spettacolo questa roba qui è una roba incistata profonda che si lega a un'altra questione che è più sul fronte giudiziario ma cosa dovrebbe fare il giornalismo l'informazione non parlare dei reati non parlare delle sconcezze non parlare di quello che capita certo che dobbiamo parlarne ma il compito principale di chi fa informazione è scoprire dov'è il marcio non copiare il mandato di cattura vedo davanti a me Fabrizio Cicchitto possiamo le cose che ha scritto potete prendere in libreria l'ultimo libro di Paolo Cino Pomicino qualche cosa l'ho scritta sul caso Telecom non so Fabrizio come si regoli ma quando si scrivono queste cose che descrivono un reato in capo ad altri tu lo fai leggere prima agli avvocati perché dice dovessi passare dei guai per quello che sto scrivendo una volta che lo pubblichi mi avevano raccontato che c'era l'obbligatorietà dell'azione penale tu hai pubblicato una ipotesi dove ci potrebbe essere un reato qualcuno dovrà indagare non ci hanno mai filato di pezza raccontiamo da 25 anni che l'inchiesta mafia appalti è stata insabbiata alla procura di Palermo e a cura del procuratore capo di Palermo e non ci fosse un'anima che ti dice ti querelo ti denuncio oppure indago allora questo è il tema è l'elettrodotto dell'inciviltà l'elettrodotto della presunzione di colpevolezza l'elettrodotto dell'audience della carriera che la faccio con questo e concludo sapete chi sono i peggiori di questo elettrodotto i peggiori di questo elettrodotto sono quelli che prima ci fanno carriera e poi ti spiegano che è un sistema marcio ci sono quelli che prima colorizzano la magistratura con le correnti e poi ti scrivono un libro dicendo ma bisognerà finirla con le correnti nella magistratura ma Dio ti benedica sono quelli che hanno fatto i copisti delle procure durante l'epopea di mani purite e oggi pubblicano i libri dicendo è una rivoluzione fallita no sei un reazionario fallito solo che hai fatto carriera noi dobbiamo se non c'è coscienza di condannare questo noi questa inciviltà ce la porteremo dietro sempre ed è questo il profondo problema culturale di questo paese di cui l'espressione politica è solo e soltanto il cascame ultimo vi ringrazio grazie a Davide Giacalone parole sempre sante e adesso Andrea Pabbarana il nostro indignato speciale sposto un po' all'ombra perché se no grazie a tutti grazie soprattutto a Francesca che ci hai dato questa nuova opportunità a Rita a tutti gli amici io vi dico subito una cosa nella cartella clinica del cittadino Enzo Tortora c'è scritto che è morto dice me ah no scusami c'è scritto che il cittadino Enzo Tortora è morto per un tumore è vero succede purtroppo nella vita succede ma nel libro di storia c'è scritto un'altra cosa che Enzo Tortora che ci siamo abituati molti negli anni a definire un uomo per bene è stato ucciso dall'ignominia di coloro che lo hanno messo in carcere ingiustamente sulla base di falsi pentiti sulla base di false dichiarazioni e sulla base di un convincimento da parte di alcuni magistrati che hanno fatto formidabili carriere mentre il corpo di Enzo Tortora si trasformava in polvere questo è la realtà Enzo Tortora è stato ucciso sono parole forti? va bene quando uno viene ucciso in genere c'è un mandante e chi sono i mandanti? guardate che i mandanti stavano là dietro molti dei mandanti stavano là dietro e molti dei mandanti delle tante cose che ha detto il mio amico Giacalone con il quale condivido la collaborazione lui è il mio direttore in questo caso al quotidiano La Ragione è indignato speciale con RTL 125 il mio lavoro a TG5 tutti sapete la grande profonda affettuosa amicizia che ha legato per tutta la vita il mio direttore Clemente Nimmuna Marco Pannella ecco diciamolo con franchezza i mandanti non li abbiamo individuati sono contento di avere visto questa mattina dico vecchio amico ma in quanto vecchio amico non perché vecchio lui Fabrizio Cicchitto con il quale abbiamo tante volte parlato collaborato scritto eccetera io ho scritto un libro sulle casuiddette tangenti rosse gli impuniti storie uomini di una giustizia di parte edito dalla casa editrice Bietti che purtroppo non c'è più sono stato querelato e vi posso assicurare che ho finito di pagare la querela pochi mesi fa perché dovetti chiedere un prestito ad una banca sia Fabrizio sia Davide hanno giustamente sottolineato il tema di quel tubo si parla molto oggi di tubi di quel condotto che passa dalla procura non dimentichiamoci dagli uffici dei GIP cioè dei giudici delle indagini dei primi minari che non sono sostituti procuratori ma sono giudici per arrivare poi ai funzionari che sono quelli che operano sul campo perché come ho sempre sostenuto non è il magistrato in persona che consegna al giornalista l'atto l'atto può arrivare da tante parti compreso quello di un avvocato avversario piuttosto che Valentino ne abbiamo parlato di questo i canali sono pressoché infiniti bene io ho fatto parte del pool dell'epoca di Tangentopoli grazie a Dio non di quella di Tortora che ho sempre difeso e abbiamo fatto anche uno speciale a Canale 5 con Francesca con tanti altri amici che ha avuto un grande successo io ho fatto parte del pool di quei giornalisti perché i nostri editori avevano interesse a fare quel gioco noi stronzi loro colpevoli come ha scritto in maniera esemplare da far leggere nelle scuole Paolo Cirino Pomicino Santoro disse in una trasmissione sull'Ucraina mi sogno di notte Andreotti io mi sogno Cirino Pomicino la sua intelligenza la sua arguzia ma anche soprattutto la concretezza delle cose che racconta bene sono passati tanti anni sono passati più di 30 anni stiamo per fare dei referendum gli ennesimi referendum sull'ennesimo argomento la separazione delle carriere le porte girevoli una riformicchia quella per carità con tutto il rispetto per il ministro Cartabia una riformicchia una riforma così insomma tanto perché la si deve fare ma voi pensate veramente che quella roba lì passerà io credo di no ho visto dei sondaggi l'altra sera del mio amico Mentana non mi pare che sia andando tanto bene lo sforzo dovrà essere enorme non solo e non soltanto per il ricordo per la celebrazione per la memoria dei personaggi che sono stati coinvolti loro malgrado nel gorgo dell'ingiustizia di quelli che io sulla ragione ho definito non i giustizialisti e quella è un'altra roba un'altra categoria non ci interessa è più un dibattito politico ma dei giustizieri che sono coloro che celebrano o dovrebbero celebrare la giustizia con la G maiuscola e invece operano con una pratica che li porta a una giustizia con la G minuscola tutto questo noi lo dobbiamo fare anche se qui non siamo in migliaia ovviamente ma ora di questa sera sicuramente ci sarà stato un aumento delle persone e qui chiudo lo dobbiamo fare per i cittadini per il nostro popolo per noi italiani in nome di Enzo Tortore in nome di Marco Pannella in nome di tanti che si sono battuti negli anni nel giusto e nello sbagliato io a Marco dicevo spesso guarda Marco tu dici dieci cose io otto non sono d'accordo per due farei qualsiasi cosa per te lui rideva si fumava con la destra il Toscano con la sinistra la Goloise e gli è andata anche bene perché in fondo ha avuto una vita lunga e meravigliosa quindi viva Enzo Tortora e soprattutto viva l'Italia grazie grazie mille grazie Andrea e allora adesso interrompiamo questo elenco di maschile e introduciamo la voce femminile di Silvia Fregolent deputata di Italia Viva grazie buona mattinata come sempre grazie a Radio Leopolda che ci sta seguendo a Roberto Giacchetti che ha organizzato questa maratona il 18 maggio non è una data che può passare inosservata per chi ama la giustizia per chi crede nella giustizia proprio perché che fra qualche giorno ricorderemo il giudice Giovanni Falcone poi più in là Borsellino quindi proprio per la buona giustizia che noi oggi dobbiamo ricordare Enzo Tortora perché accanto la buona giustizia che fa il suo corso magari anche in Sordina c'è in questo paese una cattiva giustizia c'è stata nel caso di Enzo Tortora e c'è ancora magari di persone meno famose ed importanti che magari non finiscono nei titoli di qualche giornale ma che vivono magari interi mesi agli arresti in carcere da innocenti e alla quale poi una giustizia vera cioè una riabilitazione della propria persona non viene data perché noi oggi ricordiamo Tortora che come dire ebbe l'opportunità di andare in televisione e dire dove eravamo rimasti quante persone invece comuni non possono farlo e allora proprio per loro che il referendum del 12 giugno deve andare bene proprio per le persone che non hanno la possibilità di avere prestigiosi avvocati di avere telecamere di avere titoli di giornali negativi prima con qualche trafiletto dopo ma il trafiletto magari arriva invece c'è la moltitudine di persone che non avranno la possibilità di avere il trafiletto magari avranno degli articoli che li dipingono come dei mostri e la vita completamente distrutta allora il referendum del 12 giugno è un referendum di civiltà di civiltà nei confronti anche della buona magistratura che guarda caso non è andata a scioperare qualche giorno fa il 46% di adesione non è mai capitato soprattutto dopo anni di mancati scioperi allora per la buona giustizia per la buona magistratura occorre che il 12 giugno le persone vadano a votare e facciano raggiungere il quorum sarebbe stato bello avere altri quesiti perché probabilmente soprattutto i giovani sarebbero stati più sollecitati ad andare a votare ma mi riferisco proprio a loro il mio collegio a Torino mi chiedeva chi mi ha preceduto prima Angelo Burzi che è stato un consigliere regionale di Forza Italia ha deciso dopo una condanna di togliersi la vita come ultimo atto di denuncia verso una giustizia che lo ha tenuto in graticola almeno dieci anni dieci anni di processo dieci anni sono troppi per la vita di una persona sia in pubblica che no e quindi chiedo ai giovani lo so che magari oggi questi argomenti vi sembrano lontani e che magari avreste preferito altri quesiti come quello sulla cannabis ma proprio oggi voi dovete fare la differenza in una materia come quella della giustizia che invece è una materia delicata che vi riguarderà molto più da vicino di quanto voi non potete pensare quindi andate a votare fate raggiungere il quorum fatelo e oggi è il miglior appello che possiamo fare ricordando una persona straordinaria come Enzo Tortora grazie grazie a Silvia e adesso darei la parola a Roberto D'Alessandro un regista e attore teatrale con il quale lo posso dire in anteprima stiamo pensando mettendo a punto un progetto teatrale insieme anche all'avvocato Frazzitta prego Roberto grazie ci spostiamo verso l'ombra perché il caldo ecco abbassa magari un po' la cassa che dire non sono molto preparato io ho approcciato per la prima volta a Tortora quando fui chiamato Zaccaro per far parte di un film che ne parlavo un uomo per bene dove interpretavo Barra un criminale un criminale che denunciava la gente dalla cella chiamava le persone gli diceva mi devi pagare una tangente se no ti denuncio e dice ma io non ho fatto niente e va bene ho denunciato 80 800 800 801 non cambia nulla e questa andava avanti e lo sapevano i giudici quello che stava succedendo eppure lo lasciavano fare all'epoca non avevo una precisa coscienza di quello che facevo e di quello che era stata la vicenda Tortora poi ultimamente con Frazitta mi ha detto quest'idea di questa e mi ha affascinato sono andato a rileggere tutto il caso e i libri le lettere scritte da lui sia a Francesca che a Silvia e mi sono ammazzato di pianti leggendo quelle lettere per la profonda ingiustizia che veniva fatta su quest'uomo che aveva poco più della mia età quando purtroppo se n'è andato è andato via perché sopraffatto da un'ingiustizia così grande c'è la dimensione della tragedia greca questa roba cioè è impensabile che una persona onesta come Tortora in carcere doveva subire l'evidente ingiustizia da parte di questi giudici che sapevano di fare quello che stavano lo sapevano lo sapevano e lo usavano come metodo cioè ci serve perché tanto acchiappiamo anche quei criminali magari il concetto per arrivare ai criminali poteva essere anche giusto ma valeva può essere giusto arrestare cioè far vivere un'ingiustizia così grande a un essere umano per acchiappare li chiamano effetti collaterali noi acchiappiamo quelli i criminali ci cade qualcuno che è innocente vabbè a Roma si dice sti cazzi ma non può essere ci fosse anche un innocente che soffre di un'ingiustizia non vale mille colpevoli arrestati e poi in quel caso fu fatta proprio deliberatamente questa cosa tant'è che ci sono stati dei giudici pentiti di quella roba è una cosa veramente io adesso sono venuto qua perché mi ha invitato Francesca e sto studiando su questo caso mi faceva piacere starci ma io di questo referendum non ne sapevo nulla sono una persona di cultura medio alta mi interesso di politica se non sapevo nulla io significa che è già un fallimento questo purtroppo perché non vogliono che si sappia sono andato adesso a leggere qua sopra ho letto che giustamente il presidente del consiglio superiore della magistratura sono tutti contrari non vogliono fare questa cosa perché non gli va eccetera leggo anche chi è appoggiato dalla Lega io dico pure un orologio rotto due volte al giorno dice la verità con la Lega non ci farei nulla ma è insieme però questa è una battaglia che vale la pena fare e mi meraviglia che non ci siano i 5 stelle perché sono entrati in Parlamento proprio per cacciare i corrotti e quelli indagati adesso ci sta questo quesito e questi non parlano ma che schifo è la politica italiana ma come è possibile che su una roba del genere non si riesca a mettere d'accordo è una roba allucinante io non so che fare perché combatto per cause perse da sempre bisognerà lottare ma con i denti e le unghia bisognerà convincere tutte le persone buone e giuste di questa nazione che pure ce ne saranno che questa è una causa giusta da combattere e vincerla finalmente quindi il 12 giugno adesso l'obiettivo è quello non nella memoria del grande Enzo Torda che ogni volta che pronuncio il suo nome mi sale sul magone ecco nella memoria di questo grande uomo che il suo sacrificio non vada perso siamo ancora qui a ricordarlo il 12 giugno bisognerà quelli che sanno convinciamo combattiamo bisognerà combattere 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 grazie grazie a Roberto d'Alessandro e adesso con un deputato di Italia Viva andiamo nella scena del crimine sulla scena del crimine perché arriviamo a Napoli grazie Francesca non te ne andare resta resta qua con me resta qua con me perché io oggi invece di utilizzare una retorica mutuata dalla mia esperienza di avvocato ho deciso di fare una verifica di quanto può essere attuale Enzo Tortora oggi e fra le varie missive che ti ha inviato all'epoca ce n'è una che alcuni stralci voglio recuperare perché lo capirai da sola se un cittadino sbattuto in galera innocente processato e condannato appena i normi sulla sola parola di criminali pentiti se dunque osa protestare allora salta su da una delle correnti della nostra beneamata magistratura il solito disinformato colonnello in toga che accusa la citazione e testuale di screditare l'immagine di una giustizia impegnata sul difficile fronte della criminalità organizzata ma che c'entra di invoglia di dirgli voi mi parlate di giustizia e io grido all'ingiustizia io vi parlo dei diritti di ogni cittadino e voi mi rispondete gargarizzando retorica è un sistema che occorre cambiare e noi osiamo metterlo in dubbio osiamo negare per esempio che magistrati incapaci o palesemente pervicacemente immersi in un dialogo privilegiato con i loro pentiti magistrati che disprezzano le prove la ricerca dei riscontri più grossolani e gli stessi diritti della difesa mietano gli stessi applausi godano degli stessi consensi usufruiscano dello stesso rispetto di cui godono invece magistrati onesti scrupolosi professionalmente preparati io attraverso le parole di Enzo Tortora che è un'icona non soltanto della giustizia per un laureato di fine anni 90 e un riferimento rispetto alla sua professionalità io ho sofferto durante la modifica dell'ordinamento giudiziario quella che abbiamo licenziato alla Camera e che adesso sta al Senato ho sofferto perché chiedevamo più merito e meno corporativismo e questo ci è stato negato Francesca e guarda quanto è attuale oggi Enzo Tortora in Italia bisogna attendere sempre qualcosa ancora dice una volta il tram una volta il rimborso IVA una volta e qui si rivela la cultura del disprezzo nella quale il paese è immerso cultura del disprezzo che noi oggi vediamo anche sui social quindi si è amplificata enormemente rispetto al 1983 che la libertà la dignità la salute l'onore di un uomo o di una donna sottoposte a strazio abbiano giustizia e risarcimento Enzo Tortora non risparmiava nessuno in questa stessa missiva ancora aggiunge un avvocato di quelli a vongole di quelli che festeggiano offrendo il caffè al pubblico ministero ha persino osato dire che se si fosse dedicato molto meno tempo alle indagini su Tortora forse gli errori sarebbero stati minori e il colmo su di me e qui sta una delle tante vergogne non si è fatto il minimo accertamento benché fosse addirittura dai miei difensori implorato ma l'uomo che parlava di una giustizia impegnata sul fronte non ha torto si tratta proprio di fronte di terminologia militare è una giustizia per campagna e giustizia all'ingrosso che può concedersi tutto anche il massacro del diritto in nome della nobiltà del fine Machiavelli però un Machiavelli malletto in certe procure e con la sanguinosa scorciatoia dei pentiti fa strage di civiltà giustizia di guerra dunque e quindi plotoni di esecuzione questo era Enzo Tortora poco dopo il suo arresto in una delle lettere che ti ha inviato e che per me oggi rappresenta l'attualità del momento storico e della tragedia che noi viviamo e voglio concludere perché avevo programmato un brevissimo intervento perché le parole di Tortora devono avere la priorità oggi a 34 anni dalla sua morte voglio concludere ringraziando tutti quegli avvocati e quei magistrati che non si stancano mai di studiare i loro processi che interpretano la loro funzione come un servizio voglio ringraziare magistrati come Morello che non si è stancato all'epoca di capire quanto fosse innocente Enzo Tortora grazie a tutti grazie grazie a Lello Vitiello e adesso proseguiamo c'è un altro giornalista amico che ci è venuto a trovare per Luigi Battista sapete che è stato editorialista del Corriera Sera per tanti anni ora scrive su Huffington Post e che però sicuramente ha qualcosa da dirci su Enzo e sulla battaglia sulla giustizia grazie grazie a voi innanzitutto io vorrei dire delle cose molto brevi una piccola premessa personale se posso perché sarebbe stato qua sicuramente mio fratello Domenico avvocato che è molto impegnato nelle battaglie garantiste che purtroppo ci ha lasciato una settimana fa quindi un po' di emozione sono qui diciamo anche un po' al posto suo se posso dire e vorrevo dire soltanto tre cose la prima sento come una ferita personale da giornalista insomma persona che ha scritto e lavorato per i giornali il fatto che sul caso Tortora il giornalismo italiano ha scritto una delle sue pagine più nere forse la pagina più nera in assoluto lo spirito di branco contro l'uomo isolato e poi la totale subalternità nei confronti delle tesi dell'accusa totale non rispetto nei confronti della difesa e delle persone che vengono stritolate dal meccanismo giudiziario il tutti contro uno il fatto di spacciare per libertà di stampa un lavoro da passacarte e di appunto totale subordinazione nei confronti diciamo della magistratura questo per me diciamo è stato l'atto fondativo perché poi negli anni si sono viste tutte le conseguenze e questa cosa secondo me è appunto una ferita che non riesce a essere sanata la seconda cosa che vorrei dire è che mi colpisce dire asimmetria è forse sin troppo poco ma insomma la totale divergenza di destini che tutta questa storia ha avuto questa tragica storia Enzo Tortora è morto è vittima di questa macchinazione giudiziaria non è un errore giudiziario di una macchinazione giudiziaria e i magistrati che ne sono stati responsabili mentre la loro vittima è morta sono stati tutti più o meno promossi e la loro carriera non ne ha minimamente risentito sulla base di quei fatti ci fu un referendum sulla responsabilità civile che venne totalmente disattesa da una legge che praticamente ne negava i principi però oggi rimane questo senso di profonda ingiustizia e del fatto che i responsabili di quella macchinazione non sono non sono stati sanzionati ma addirittura sono stati premiati e questo è un secondo scandalo il terzo scandalo e finisco qui è il silenzio assoluto che si ha che tutta l'informazione soprattutto l'informazione del cosiddetto servizio pubblico sta attuando nei confronti dei prossimi referendum la stragrande maggioranza delle persone in Italia non sa nemmeno che questo referendum ci sarà questo è il punto quindi diciamo non voglio essere pessimista però attendiamoci molto perché poi non tutti seguono diciamo le iniziative e questa cosa anche i giornali sull'onda oramai i giornali sono diventati diciamo da alcuni anni a questa parte monotematici i giornali e l'informazione in genere i talk show non ne parliamo insomma oramai diventati una cosa insopportabile per cui diciamo dopo uno barra due anni di totale di copertura totale da parte della pandemia dei vaccini come del resto è anche giusto però di una certa copertura però era monotematico adesso in questi mesi si parla esclusivamente si parla si straparla diciamo perché ci fossero delle buone trasmissioni di informazioni ce ne sono due o tre ma per il resto è straparlare nel senso che c'è una specie di casting dove ci sono degli attori che fanno finta di discutere dicendo sempre le stesse cose e questa cosa ha totalmente cancellato l'attenzione nei confronti di questi referendum che hanno ricevuto anche un sacco di firme io non so perché sinceramente non so come si fa a bucare questa cappa di silenzio però io penso che da qui al giorno fatidico o noi cerchiamo di far capire l'importanza di questi referendum poi ho visto anche le dichiarazioni di alcuni partiti lasciarei perdere o si fa questo oppure andremo incontro a una profonda delusione e questa secondo me sarebbe una battaglia perduta sarebbe una battaglia che non farebbe onore anche alla memoria di Enzo Tortora e sarebbe una vittoria implicita per chi ancora vuole mantenere intatto lo strapotere di una magistratura del tutto ignara dei principi fondamentali dello Stato di diritto grazie grazie a Pigi Battisti adesso parla do la parola a Giampaolo Catanzariti un avvocato con il quale condivido la terra di nascita e il terreno culturale del garantismo radicale a te la parola grazie grazie Francesca intanto ci tenevo ad essere qui per una serie di ragioni nel nome di Enzo Tortora sicuramente ma in un'occasione anche molto importante che è quella referendaria del 12 giugno ma Enzo Tortora cui sono legato anche personalmente perché ricordo quella campagna referendaria fu una campagna referendaria che mi coinvolse da neo maggiorenne fu il mio primo voto referendario e partecipai davvero in maniera convinta a quella campagna referendaria e poi perché ritengo doveroso e intanto ringrazio Radio Leopold perché è un'iniziativa davvero importante nel momento in cui è calata davvero una cortina di ferro un muro di silenzio o un muro di gomma come ci hanno abituato a dire sui referendum del 12 giugno vedete oggi tra tre giorni farà 22 anni che il popolo italiano è stato chiamato a votare il referendum sulla giustizia grazie al partito radicale ancora una volta oggi saremo chiamati grazie al partito radicale a votare il 12 giugno vedete è un momento davvero importante oggi ne sentiamo davvero di tutti i colori di tutti i colori sui referendum del 12 giugno mi fanno sorridere davvero i detrattori del referendum del 12 giugno prima ci dicevano no perché avete proposto il referendum con la con la lega di Matteo Salvini ma personalmente l'ho detto avrei raccolto le firme anche con la NM pur di arrivare all'appuntamento elettorale del 12 giugno primo poi addirittura oggi vediamo questa campagna di disinformazione per spingere i cittadini a non recarsi alle urne e ci viene detto soprattutto da alcuni giornali e da alcuni ambienti che sono davvero ambienti di sistema di mantenimento di quel potere irresponsabile irresponsabile perché non risponde a nessuno e se un potere in una democrazia non risponde a nessuno sicuramente è un potere irresponsabile e pericoloso dicevo oggi ci dicono ma i quesiti sono di un estremo tecnicismo bisogna essere avere un dottorato in giurisprudenza per comprendere guardate io credo che me lo possiate insegnare voi che avete più esperienza di me io penso che non ci sia stato un referendum in cui i cittadini italiani siano stati chiamati a parte quello Repubblico Monarchia a scegliere se volete il pane o la focaccia è chiaro che essendo un referendum approcativo inevitabilmente c'è un certo tecnicismo ma il dato davvero fondamentale che dovremmo far comprendere ai cittadini è che al di là del quesito tecnico vi è un aspetto sostanziale politico davvero rilevante perché è inaccettabile che nel nostro paese esistano una persona su sei che si trova detenuto in custodia cautelare senza una condanna definitiva perché è inaccettabile che nel nostro paese uno su tre sia detenuto nella fase delle indagini preliminari addirittura secondo l'ultima relazione parlamentare del 2020 nel solo 2020 su 100 cittadini arrestati 11 o quasi 12 sono stati riconosciuti arrestati in maniera ingiusta perché non si giunse a una sentenza di condanna eseguibile allora capite che per noi è davvero inaccettabile e poi ancora una volta io sento alcune forze politiche non parliamo dei 5 stelle che loro si dicono a favore della democrazia diretta a favore dell'istituto referendario è però una proposta di legge di iniziativa popolare con 77 mila sottoscrizioni di cittadini promossa dal partito radicale dall'unione delle camere penali sulla separazione delle carriere giace in parlamento e addirittura si era tentato un colpo di mano per cancellare la possibilità di discutere su una proposta di legge di iniziativa popolare o ancora di più quando sento il PD affermare che le riforme si fanno in parlamento guardate che le riforme si fanno in parlamento è una banale ovvietà ma che questo parlamento possa fare delle riforme è una amara certezza e constatazione questo dobbiamo dirlo con molta forza e voi lo sostenete di Italia Viva ho letto che Renzi parla di un parlamento che non ha competenza che non ha autorevolezza certamente questo è un vero problema ma come possiamo accettare che le riforme le faccia questo parlamento che in realtà propone delle contro riforme guardate l'ergastolo stativo che cosa hanno fatto invece di dare un senso alle indicazioni della Corte Costituzionale e della CEDU su una riforma che riguardava l'intero catalogo delle ostatività e dei reati che cosa si sono posti il problema di fare la controriforma di un ergastolo stativo cioè riproporre l'ergastolo stativo io credo che la partita sia fondamentale e soltanto queste iniziative possono dare la possibilità ai cittadini di recarsi alle urne perché il 12 giugno nel nome di Enzo Tortora nel nome di una giustizia giusta sia necessario esprimere cinque si convinti per cui sollecitiamo tutti quanti e grazie della vostra iniziativa grazie grazie ci vuole un atto di coraggio cari amici perché ormai siamo arrivati e inutile non possiamo andare dentro i palazzi e quindi veniamo ritorniamo sotto il sole così ci abbiamo anche il nostro sfondo diamo la parola e lo ringraziamo molto per essere qui con noi a Giuseppe Di Benedetto che è presidente della fondazione Naudi peraltro con lui abbiamo fatto anche la campagna su un altro referendum però era un referendum sul quale votavamo contro che era quello per il taglio dei parlamentari e quindi lo prego davvero di prendere la parola grazie non ho capito se il sole è per me poi gli altri tornano all'ombra che succede allora grazie 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 Francesca grazie a Radio Leopolda e gli amici che mi hanno invitato a questa giornata io sono qui Francesca per un motivo preciso per chiedere scusa per chiedere scusa quasi 30 anni di distanza al nome dell'unico partito in cui ho sempre militato perché come dico a mia moglie io da 30 anni sono vedovo del partito è lo stesso partito cui militava Enzo al momento del resto cioè il partito liberale io voglio chiedere scusa perché lì il partito liberale ha sbagliato profondamente ha sbagliato tranne qualche esponente del partito ricordo Gianmarco Brenelli qualche altro amico Enzo Tortora non ha avuto quella immediata solidarietà quel rapporto di vicinanza che era doveroso rispetto a quello che è successo e dunque sento forte su di me su di noi quelli che restiamo di quel periodo questa necessità il partito liberale ha sbagliato e ha anche pagato guarda ha anche pagato quell'errore quell'errore di quel giorno noi siamo qui oggi a parlare di referendum a ricordare Enzo Enzo Tortora io ci ho parlato pochi giorni prima dell'arresto ero in consiglio nazionale lui era con me in consiglio nazionale e lo invitavo in Abruzzo dove in quel momento mi trovavo a vivere a svolgere attività politica per cui ho un ricordo vivido di quei giorni e anche di Enzo ecco molti italiani anche più giovani ricordano Enzo Tortora ad esempio per la famosa frase la frase che lui ha usato quando è tornato quando è tornato in televisione a distanza di alcuni anni la frase famosa con cui tutti lo ricorderete è dove eravamo rimasti ecco Francesca dove eravamo rimasti diciamo anche da dove Enzo l'ha tratto perché forse non molti lo ricordano magari quasi nessuno lo sa e eri dicebamos di Luigi e Inaudi il giorno in cui tornò a scrivere sul Corriere della Sera perché Enzo era stato un uomo colto e non ho alcun dubbio che chi lo ha ispirato in quella battuta da cosa da chi è stato ispirato è stato ispirato da quella frase di Luigi e Inaudi noi siamo qui per ricordare una vergogna del paese però ahimè da quella vergogna il paese non si è ancora risollevato quello che l'Italia ha subito in questi 30 anni io parlo dal 1992 se risaliamo a Tortora andiamo ancora qualche anno indietro alla vicenda di Tortora è una fase di vergogna che non si è ancora conclusa io credo nonostante lo sforzo che tutti stiamo facendo ovviamente ho dichiarato a chiunque che voterò 5 sì che non sarà neanche sufficiente il referendum andiamo tutti a votare voteremo 5 sì siamo consapevoli non dobbiamo illudere nessuno che non sarà quella quello il momento risolutivo io spero che comunque vada a finire l'ho detto agli organizzatori ho detto questa volta dobbiamo dire Presidente Giacchetti che conteremo i sì invece che contare invece che contare il quorum che contare i partecipanti al voto questa volta dobbiamo contare i sì e sapete perché dovremo contare i sì perché dobbiamo chiedere a tutti i partiti che si esprimono in un senso nell'altro quelli favorevoli ovviamente di inserire i temi referendari nel programma elettorale come si fa in ogni paese europeo normale cioè di inserirlo e di dire se vinceremo le elezioni queste saranno le prime battaglie che andremo a fare questo si fa in un paese civile perché i referendum vanno benissimo ma sono importanti le assunzioni di responsabilità e noi voteremo io l'ho sempre detto guardate ahimè non voto da più di vent'anni perché è tutto politico come me è una violenza inaudita tornerò a votare quando un partito metterà al primo punto del suo programma la separazione delle carriere non c'è alcun dubbio perché su questo mi sento di dire che l'Italia può tornare ad essere un paese normale cosa ci ha insegnato la vicenda Tortora intanto che in quel caso il problema non è stato non sono stati solo i pubblici ministeri non è stato solo l'accusa ricordiamo le vergogne dell'accusa e le vergogne dei giudici sulla vicenda fino alla conclusione che è quella che sappiamo e dunque però in quel momento in quel momento eravamo ancora qua ci sono molti colleghi che lo sanno bene ante codici ante riforma del codice ante riforma Vassalli eravamo nell'83 cosa abbiamo risolto con la riforma Vassalli quello che ha portato il codice di procedura penale dal rito inquisitorio al rito accusatorio purtroppo molto poco come Francesca sa molto poco ci aveva illusi tutti quella riforma ma è una riforma incompiuta è una riforma incompiuta anche nel successivo articolo 111 della Costituzione che a sua volta è stato riformato ed è incompiuta perché chi giudica e chi accusa sono ancora dei colleghi fanno parte dello stesso ordine ora il referendum è un segnale formidabile ma siamo consapevoli che ad esempio per una definitiva separazione delle carriere qui voglio ricordare un altro amico che non c'è più che tu hai conosciuto molto bene Giorgio Stracquadagno Giorgio con cui abbiamo fatto anche battaglie referendari dice a Giuseppe dobbiamo sostenere non solo la separazione delle carriere ma anche la separazione dei palazzi io ho il mio studio professionale non è dentro il palazzo di giustizia anche Giorgio mi ricordo perfettamente lo dicevamo qui dove siamo in questo momento sosteneva la separazione dei palazzi vadano nel palazzo della pubblica accusa a stare i pubblici ministeri siano nel palazzo di giustizia e giudici allora ripeto quello che è avvenuto e concludo sulla vicenda dopo la vicenda Tortora qualcuno ha detto beh ma grazie a quello la riforma del codice la responsabilità civile dei giudici non è indispensabile perché diciamoci francamente amico Giacchetti la responsabilità civile ha influito quasi zero sulla oggi lo sciopero che hanno fatto ieri non hanno il coraggio di dirlo guarda ma lo dicono a quattro occhi è stato su un punto che invece colpisce profondamente il sistema e il punto è il fascicolo delle performance cioè quello che consente finalmente quello che consente finalmente all'unico funzionario pubblico che in Italia non può essere valutato giudicato è il giudice perché il giudice ha imparato da Caterina Caselli che nessuno mi può giudicare ecco il fascicolo delle valutazioni è stata ed è una riforma importante che speriamo giunga a compimento allora per fare tutto ciò andremo a votare 5 sì invitiamo tutti ad andare a votare soprattutto ma anche a votare 5 sì anche nel nome di Enzo Tortora direi soprattutto nel nome di Enzo Tortora per quello che brevemente ho voluto dire in questo mio intervento grazie ancora agli organizzatori a Benedetta Radio Leopolda per questo invito allora adesso altri interventi Lucia Annibali e poi Gianfranco Spalaccia che è arrivato qui tra noi e noi siamo felicissimi che ci ha raggiunto vai Lucia grazie grazie buongiorno a tutti questo sole mi acceca un po' ma va bene lo stesso grazie a chi è presente in piazza grazie anche a chi ci ascolta da Radio Leopolda grazie a Roberto Giacchetti e comunque alla nostra radio per dare voce a tutti noi a tante storie un abbraccio oggi a Francesca Scopelliti in questo giorno particolare io credo che la giustizia abbia fortemente profondamente a che fare con l'essere umano con le persone con le loro storie anche di sofferenza e di sacrificio e non è un caso che da qui ai prossimi giorni ricorderemo persone che hanno segnato fortemente la storia del nostro paese con la loro sofferenza e il loro sacrificio quindi Enzo Tortore i giudici Falcone e Borsellino quindi parlare di giustizia per me è parlare di esseri umani parlare delle loro storie quindi metterei sempre al centro la persona con le sue sofferenze io credo fortemente che la giustizia debba essere riconciliazione debba essere ricomposizione possa essere in realtà un luogo e un'occasione anche di rinascita di ripensamento di se stessi e quindi è sempre importante conservare l'umanità noi come gruppo di Italia Viva come partito non ci siamo mai risparmiati sui temi della giustizia non siamo mai rimasti incastrati in logiche di maggioranza ma abbiamo sempre fatto sentire la nostra voce per una giustizia a misura di persone e la giustizia è anche però senso di responsabilità perché dobbiamo sempre ricordare che i giudici magistrati hanno nelle loro mani il potere ultimo di decidere sulla libertà delle persone sul possesso delle loro cose e anche sulla reputazione delle persone e quindi questo potere deve essere sempre maneggiato con grande cura e sempre tenendo conto della vita dell'uomo e della persona il 12 giugno è un appuntamento molto importante abbiamo i referendum forse è vero che i quesiti non sono poi così chiari sono molto tecnici ma non credo che dobbiamo in questo caso soffermarci su questo trattiamo temi che sono da sempre cruciali per la storia del nostro paese su cui la politica latita da sempre quindi è importante andare a votare è importante dire che tipo di giustizia di sistema giustizia vogliamo se vogliamo rimanere così con una giustizia lontana dalle persone con una giustizia che non è all'altezza della sua funzione oppure se vogliamo dire fortemente che vogliamo una giustizia diversa fuori dalle logiche di potere ma veramente a misura dell'essere umano noi come gruppo daremo il nostro contributo lo stiamo facendo anche oggi per ricordare innanzitutto che esiste un appuntamento referendario daremo il nostro contributo anche per informare sui quesiti referendari invitiamo tutti quindi a partecipare alla vita democratica del nostro paese e quindi andate a votare e votate sì l'augurio è che poi quanto prima si possa discutere anche in modo libro in modo aperto e in modo umano di un tema un po' scomodo che è il carcere però che è un mondo un luogo affascinante che mette davvero alla prova tutti noi come società e come cittadini quindi grazie per essere qui con noi per partecipare a questo desiderio di una giustizia davvero giusta e a dimensione umana e mi raccomando andate a votare il referendum votate sì ciao a tutti e buon proseguimento grazie 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 a Lucia Nibali e allora a questo punto io sono molto felice di avere qua Gianfranco Spadaccia ora ovviamente insieme a Sergio Rita noi abbiamo conosciuto e combattuto insieme ai radicali la battaglia per Enzo Tortaro ovviamente insieme a Francesca ma Gianfranco rappresenta un pezzo fondamentale del partito radicale che prese poi la decisione di prendersi in carico la vicenda tortora di candidarlo all'elezione e di seguirlo in tutta la fase processuale Gianfranco Spadaccia grazie ma in genere per ragioni di salute e per l'età cerco di limitare al massimo e di evitare anche se possibile gli impegni pubblici gli interventi in pubblico anche per non esibire la vecchiaia che ormai è arrivata tutta insieme negli ultimi mesi nell'ultimo anno ma non potevo dir di no a Francesca quando mi ha chiesto di intervenire stamattina a questa commemorazione di Enzo Tortora all'attualizzazione alla riattualizzazione alla riproposizione che intorno al nome di Porto delle battaglie che intorno al nome di Tortora abbiamo combattuto per il diritto per la giustizia giusta per lo Stato di diritto perché il caso Tortora negli anni 70 alla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 è stato il caso emblematico di una involuzione della giustizia italiana che creava delle vere e proprie operazioni giuridico-mediatiche di vera e propria macelleria giuridica e giudiziaria è stata l'epoca delle leggi speciali è stata l'epoca di un pentitismo condotto senza nessun criterio e senza preoccuparsi di nessun riscontro Tortora è stato vittima di tutto questo ed ha avuto la capacità grazie al partito radicale e con il partito radicale di ribellarsi a tutto questo e di fare del suo caso della sua singola sofferenza della sua individuale resistenza al potere giudiziario una battaglia di tutti e per tutti una battaglia di carattere generale per l'intero paese c'era stato un anno prima il processo 7 aprile un anno prima o due prima adesso non ricordo con precisione il processo 7 aprile e fu il capostipide di questi processi di macelleria giudiziaria il procuratore di Padova Calogero si inventò letteralmente si inventò senza avere alcun riscontro e contro ogni evidenza l'imputazione di banda armata per autonomia operaia l'autonomia operaia poteva avere aspetti terroristici e anche l'utilizzazione caso per caso di metodi violenti ma sicuramente non aveva nulla a che fare con quello che gli imputò il procuratore Calogero essere la direzione strategica delle brigate rosse la prima risposta a tutto questo a questa deriva giustizialista che conosceva la giustizia italiana e che travolgeva le garanzie dello stato di diritto abbiamo compiuto una prima scelta drammatica anche perché fra noi e lui non c'era una grandissima sintonia politica proponendo Tonni Negri candidato nelle liste radicali fu eletto e fu una risposta comunque importante anche popolare alla deriva giustizialista della giustizia del mondo giuridico italiano purtroppo ci è andata male quella battaglia che Tonni Negri doveva combattere in favore del paese e in favore anche del suo gruppo politico che era stato tutto coinvolto dalla imputazione di Calogero con l'accusa di direzione strategica delle brigate rosse in tutto questo quello che venne fuori quello che si determinò fu la necessaria fu uscita dall'Italia perché altrimenti sarebbe stato rimesso in galera con l'assenso della maggioranza del Parlamento e una volta andata in Francia contrariamente a quello che si era impegnata a fare non chiedere a Mitterrand di essere estratata per soli reati comuni ma chiedere la completa statuzione e lasciò i suoi compagni Emilio Vesce tutti gli altri dell'autonomia operaia in galera rimanendo a Parigi l'anno successivo riproponemmo la questione con Enzo e ci andò meglio Enzo volle fare del suo caso personale della sua sofferenza personale un momento di scontro generale del Paese per richiamare il Paese tutto non solo le sue classi dirigenti non solo i suoi magistrati non solo i suoi politici non solo i suoi parlamentari e i suoi ministri alla necessità di tornare alla Costituzione alle garanzie della Costituzione alle garanzie dello Stato di diritto è stato un grande leader della battaglia della giustizia e io gliene sono grato ancora oggi perché il suo ricordo è un ricordo luminoso che tuttora illumina il percorso difficile che dobbiamo compiere contro un uso distorto della giustizia perché badate il problema rimane aperto basta leggere le prime pagine dei giornali basta leggere ciò che è accaduto nei rapporti fra il ministro della giustizia e Cattabia che si è preoccupato dopo gli scandali di questi mesi e dopo il caso Palamara si è preoccupata di fare modeste moderatissime riforme che valessero a superare il vulnus continuo che la magistratura italiana soprattutto attraverso i suoi pubblici ministeri sta infliggendo al diritto su questo c'è stata una sollevazione fatto quotidiano gli giustizialisti di ogni risma che sono presenti a fase alterna nella destra italiana che è garantista a senso unico garantista con i propri garantista con i ricchi e giustizialista con la povera gente e con la gente normale ma purtroppo questo giustizialismo si estende anche a una parte consistente della sinistra al populismo del Movimento 5 Stelle e allo stesso Partito Democratico di Letta ebbene siamo qui per dire che la questione rimane aperta e rimane aperta anche con i referendum e io sui referendum non sono entusiasta dell'alleanza che è stata fatta con Salvini garantista a senso unico però voterò quei referendum che comunque sono uno strumento che non bisogna lasciar cadere che bisogna cercare di portare a complimento e di onorare con il voto sono qui per ricordare Enzo Rottola per dire grazie a Francesco Pelliti che ci obbliga ogni anno a ricordarci per ricordare quegli episodi del passato ma anche per dirvi che quel passato non è chiuso quel passato non è non abbiamo voltato pagina ma si è in forma nuova attuale ancora più pericolosa si ripropone e dobbiamo combattere e dobbiamo cercare di ritornare alle garanzie della Costituzione viva Enzo Tortora viva le battaglie radicali viva lo Stato di diritto viva la Costituzione italiana non manomessa da magistrati e politici proditori grazie grazie a Gianfranco spadaccia vieni Francesca che non so chi deve adesso do la parola a due vecchi amici ormai che hanno preso a cuore il problema delle vittime della giustizia costituendo un'associazione intitolata a loro sono una coppia diciamo di fatto associativo e fra l'altro hanno anche recentemente scritto un libro intitolato proprio Cento volte in giustizia grazie grazie Francesca grazie prima di tutto per l'invito grazie all'onorevole Giacchetti alla Radio Leopolda e alla Fondazione Tortora per averci permesso invitato qui a partecipare a questa maratona oratoria il ricordo di Enzo Tortora e a sostegno dei referendum del 12 giugno Francesca sa che il lavoro che abbiamo iniziato oltre 25 anni fa con l'associazione errorigiudiziari.com e con il collega Valentino Maimone è nata preso spunto dalla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora anche noi con la nostra attività quotidiana di sensibilizzazione sul tema degli errori giudiziari degli innocenti in carcere cerchiamo di dare il nostro contributo per una giustizia più giusta questa maratona è cominciata alle 10 e terminerà alle 18 quindi durerà 8 ore bene sapete che al termine della maratona dopo 8 ore un innocente è finito in carcere è stato assolto e viene risarcito questa cosa accade tutti i giorni da oltre 30 anni una persona in carcere innocente e risarcita ogni 8 ore vuol dire che sono 3 al giorno 3 al giorno significano 1000 all'anno sono numeri sono numeri che da brividi e tutto questo si ripete ogni giorno da 30 anni questa è la fredda contabilità delle ingiuste detenzioni che da oltre 25 anni con la nostra associazione andiamo sbandierando sui siti partecipando a convegni scrivendo libri scrivendo articoli sui giornali docufilm tutto per sollevare una discussione su un tema quello delle ingiuste detenzioni e dell'abuso della custodia cautelare che secondo noi rappresenta una delle emergenze più sottovalutate più trascurate del sistema del sistema giustizia dicevamo di 1000 persone all'anno che si ripetono ormai da 30 anni e infatti quest'anno abbiamo superato la soglia dei 30.000 innocenti finiti in carcere e indennizzati per avere un'idea di quanti siano 30.000 persone basta pensare a una cittadina alla popolazione di una cittadina come Assisi o come Camaiore oppure alle tribune dello stadio olimpico la tribuna Montemario e la tribuna Tevere gremite per una partita di cartello come è stata l'altra sera per la finale di Coppa Italia diciamo tutti quegli spettatori oltre 30.000 persone rappresentano le persone che da oltre 30 anni sono finiti in carcere ingiustamente e sono state indennizzate ma questi 30.000 innocenti finiti in carcere ingiustamente rappresentano possiamo dire la punta dell'iceberg del problema perché nessuno tiene in conto degli innocenti che sono finiti in carcere però non sono stati indennizzati di questi le statistiche non ne tengono conto e noi di errori giudiziari di questi innocenti finiti in carcere non indennizzati nel corso del tempo nel corso degli anni ne abbiamo incontrati tantissimi e li abbiamo suddivisi in tre categorie chiamandoli i cosiddetti innocenti invisibili e queste tre categorie sono rappresentate da i cosiddetti disgustati dalla giustizia cioè da magistrati con avvocati si rifiutano di presentare la domanda anche perché sanno che alla fine l'indennizzo che potrebbero ricevere è comunque irisibile ricordiamo che sono previsti 235 euro e spiccioli per un giorno di custodia cautelare e la metà 117 invece per gli arresti domiciliari dopo i cosiddetti disgustati della giustizia abbiamo catalogato un'altra fascia di innocenti invisibili vale a dire i cosiddetti dissanguati dalla mala giustizia da coloro che hanno subito una carcerazione giusta un processo sono stati assolti però non hanno più le risorse per poter rivolgersi ad un legale e presentare la domanda per ingiusta detenzione inoltre ci sono la terza categoria sono i cosiddetti respinti per un cavillo cioè tutti coloro che pur presentando la domanda per il risarcimento per ingiusta detenzione se la vedono respingere perché secondo i magistrati con il loro comportamento hanno contribuito a farsi applicare la misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e di questi sappiamo che più o meno sono le domande che vengono respinte dalle varie corti d'appello si aggirano tra il 50 e il 70% ogni anno dunque ai 30.000 indennizzati di cui parlavamo prima dobbiamo aggiungere altri 20-25.000 raggiungendo la cifra mostra di 55.000 innocenti finiti in carcere senza colpa voglio chiudere con una citazione il mio intervento una citazione dal nostro docufilm prodotto dall'associazione errori giudiziari dal titolo Non voltarti indietro che racconta la storia di cinque ingiuste detenzioni che racconta appunto la storia di cinque ingiuste detenzioni uno dei protagonisti nel corso della sua testimonianza dice che quello che è successo a me può capitare a chiunque e io sarei chiunque ecco il 12 giugno pensiamo a queste parole perché quel chiunque perseguitato ingiustamente dalla giustizia potrebbe essere uno anche di noi grazie ora passo la parola al mio collega Valentino Maimone dell'associazione errori giudiziari mi unisco anch'io naturalmente ai ringraziamenti a Francesca Scopelliti all'onorevole Giacchetti agli organizzatori perché può sembrare una formula di rito ma in realtà è molto importante perché ci vuole forza e costanza e tenacia quella che appunto non manca agli organizzatori della giornata di oggi per continuare a parlare di Enzo Tortora ancora a distanza di tanto tempo a proposito di questo a me viene in mente voglio cominciare questo mio brevissimo intervento con due annotazioni a distanza di così tanto tempo parliamo di Enzo Tortora io non riesco a togliermi dalla testa un uno spezzone di un porta a porta di qualche tempo fa diciamo un anno e mezzo due anni fa circa in cui era ospite del dottor Davigo Davigo disse si parlava proprio di errori giudiziari a un certo momento nel suo intervento disse vabbè ma se a distanza di tanto tempo ancora quando si parla di errori giudiziari citiamo Enzo Tortora significa che poi gli errori giudiziari non sono così tanti no? significa che noi magistrati non siamo così male tutto sommato lascio ogni commento ci sono le prove nel senso di quello che dico nel senso sono le registrazioni sul sito della nostra associazione errori giudiziari punto com su tutti i canali social lo abbiamo rimandato più volte questo video è qualcosa che dovrebbe da sé far riflettere come far riflettere un altro dato non vi voglio annoiare con i numeri ma pensate questo mio intervento durerà 3, 4, 5 minuti allora poniamo il caso che duri 5 minuti sappiate che quando avrò smesso di parlare lo Stato avrà speso 250 euro in indennizi e risarcimenti per ingiusta ritenzione alla fine della giornata di oggi di questa maratona oratoria lo Stato avrà speso 25 mila euro in indennizi e risarcimenti per ingiuste ritenzioni ed errori giudiziari non è poco vero? se poi moltiplichiamo per settimane mesi anni arriviamo a quei numeri giganteschi di cui vi ha già accennato Benedetto Lattanzi quando tu provi a parlare di questi temi quindi numeri alla mano con i magistrati allora inevitabilmente si chiudono al riccio negano negano tutto negano anche l'evidenza negano il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi continuano a muoversi con quella che gli anglosassoni chiamano la tunnel vision la visione a tunnel cioè col paraocchi innamorandosi di una determinata tesi investigativa iniziale per continuando a battere su quella dimenticandosi lasciando perdere tutti gli altri elementi che possano mettere in discussione che non collimino con quella loro indagine iniziale negano il fatto di affidarsi ancora oggi a degli elementi che sono chiaramente fallaci nelle indagini negano il fatto di affidarsi a riconoscimenti facciali testimonianze oculari del quale è stata dimostrata anche scientificamente ormai la fallacia negano il fatto di una sciatteria tipica ormai investigativa che ha creato situazioni indegne per una qualunque giustizia di un paese civile c'è un piccolo campionario un piccolo grande campionario di quello che succede dei disastri che combinano certi magistrati è sul nostro sito andate nella categoria innocenti noi ne abbiamo raccolti 850 persone che sono state indennizzate risarcite per ingiusta detenzione cosa dobbiamo fare? cosa si può fare? noi ci rendiamo conto perfettamente che i 5 referendum che siamo chiamati a votare non sono quella cura da cavallo di cui la nostra giustizia avrebbe bisogno non lo sono sicuramente ma altrettanto sicuramente invece sono un primo passo per un paziente che è veramente in condizioni comatose in condizioni disperate per questo è importante che si vada perché finché continueremo a far finta di niente a disinteressarci a pensare che queste cose possono accadere soltanto agli altri noi siamo purtroppo certi che non riusciremo a smuovere di una virgola non aspettiamoci subito tutto una grande riforma dei cambiamenti delle rivoluzioni copernicane della giustizia abbiamo bisogno di quantomeno cominciare a piccoli passi ecco perché è importante cominciare votando questi referendum votandosi a questi referendum perché non si ripetano storie come quelle che vi stiamo per far ascoltare e cioè quelle di Bruno Lago e di Stefano Mazzitelli voglio intanto cominciare a dare la parola proprio a Bruno Lago che ha avuto il coraggio uno dei pochissimi in Italia di far causa ai magistrati da cui riteneva di essere stato danneggiato lascia lui la parola Bruno Lago signori è un piacere per me stare qui oggi perché sento un dovere morale di ricordare Enzo Tortora altri più titolati di me hanno parlato dell'uomo e della sua caratura morale io vorrevo limitarmi a ricordare quella che a me sembra una delle più importanti lasciti che abbiamo ricevuto da lui perché sull'onda della sua vicenda ci fu quel memorabile referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che se non sbaglio risale al 1986 e che produsse poi nell'88 la famosa legge Vassalli di cui tutti abbiamo sentito parlare io a questo punto mi domando e vi domando se siamo stati all'altezza di questa eredità morale di Enzo Tortora e purtroppo la risposta è no perché da un lato la pavidità della politica che è qui ben rappresentata dietro di noi dall'altra la presenza ingombrante di tutti quei magistrati al ministero della giustizia hanno fatto sì che quando concluso il referendum con la vittoria schiacciante evidentemente del sì al fatto di fare una legge sulla responsabilità civile dei magistrati il risultato fu che si produsse una norma che era praticamente inapplicabile non lo dico io che era inapplicabile lo ha detto circa sette anni fa ricordo un ex guarda sigilli la professoressa Severino che ha detto era stata congegnata per non funzionare e lo confermò in quella stessa occasione lo stesso dottor Cantone che all'epoca era presidente dell'autorità contro la corruzione ebbene quali sono le ragioni per cui la legge non ha funzionato non ha funzionato perché è costellata di tutta una serie di trappole che servono proprio a impedire che possa funzionare la prima è tutta la clausola di salvaguardia che stabilisce che un magistrato che interpreta la legge non è mai responsabile di eventuali errori a meno che non si ricorra il caso dell'errore grave errore grave che poi si identificava come quell'errore inspiegabile sul quale la Cassazione in 28 anni è riuscita a tirare fuori le peggiori interpretazioni sempre per dare ragione alla magistratura e andare contro invece i ricorrenti quando poi nel 2015 ci fu la riforma grazie a un intervento della Corte di Giustizia Europea anche lì ci fu nuovamente una situazione di come dire di lavoro da parte di questi magistrati che hanno reso inutile la riforma al punto che giusto ieri ho visto l'onorevole Enrico Costa che ha scritto che su 21 procedimenti che si erano andati a conclusione nel corso del 2021 in nessun caso lo Stato era stato condannato bene io direi che queste sono le ragioni per le quali come hanno detto altri oratori prima di me dobbiamo essere presenti in questi referendum perché anche se manca un referendum che quello che ce l'ha impedito la Corte Costituzionale un referendum sulla responsabilità civile sui giudici è importante dare un segnale e quindi far vedere che l'opinione pubblica è contro la politica è contro un certo tipo di giustizia e su questo quindi io spero che tutti saranno motivati per andare a votare il 12 giugno grazie ora per coprire un po' il panorama politico parlamentare abbiamo l'onorevole Osvaldo Napoli che appartiene a Azione grazie certamente mi ripeto anch'io un ringraziamento a Radio Leopolda e all'amico Roberto Giacchetti per aver organizzato questa manifestazione è estremamente importante io credo di poter dire che il caso Tortra sia stato un fatto direi più inquietante che riguarda la giustizia italiana ma aggiungo anche che oltre a essere più inquietante è stato il precursore della giustizia spettacolo che è durata tantissimi anni e cioè si chiamavano i giornalisti e i fotografi per poter accusare far vedere per televisione i suoi giornali anche chi probabilmente in questo caso c'è stato la durata di tre anni di indagini e di processi nei confronti di Tortra alla fine innocenti io credo certamente che Tortra abbia patito perché negarlo quando si passano questi sacrifici questi momenti estremamente delicati ne subisce anche in termini di salute personale e io sono convinto che lui abbia patito come tanti altri anche questo tipo di aspetto essere trascinato alle 4 del mattino fuori di casa in manette con la televisione davanti e con i giornali davanti è stato veramente gridato vendetta a Dio non poteva succedere in un paese come il nostro ma guardate la cosa che più mi colpisce vado al termine quasi è un'altra è quella che quando un magistrato mette in galera delle persone che poi dopo un anno due anni tre anni quattro anni risultano innocenti continuano a fare i magistrati e continuano a giudicare le altre persone questo è l'errore grave che io ritengo veramente fuori luogo quando tu sbagli un tipo di sentenza di questo genere un tipo di indagine di questo genere non dico che tu debba essere licenziato ma non puoi più giudicare e fare indagini su altre persone mentre invece in Italia chi il magistrato che sbaglia continua a fare lo stesso mestiere che faceva prima vedete alcuni colleghi e vado al termine in Camera dei Deputati sono qua presenti Giacchetti Lupi Costa non c'è qualcuno prima diceva dei dati bene incarcerate ingiustamente 30.000 017 persone dal 92 al 31 dicembre 91 sono risultati innocenti nel solo 2.021 565 italiani sono stati ingiustamente detenuti 1.478.000 sono i risarcimenti dovuti per errori giudiziari 24 milioni di euro solo nel 2021 per ingiusta detenzione io credo che questi siano dei dati effettivamente raccapriccianti pensando come viene gestita la giustizia in Italia finisco dicendo il referendum certamente il collega Enrico Costa ha lavorato molto di azione ha lavorato molto intensamente su questo provvedimento nessuno è contento di questa legge che andiamo ad approvare adesso al Senato non siamo contentissimi però deve essere il primo passo perché possa esserci successivamente delle modifiche molto più intense e noi ci auguriamo certamente che al Senato in tempi brevi incomincia ad esserci il primo passaggio il problema dei referendum è che dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica ad andare a votare e a votare sì grazie dell'attenzione bene ringraziamo Svaldo Napoli e adesso è qui presente e noi siamo felicissimi di averla con noi una ex collega una amica soprattutto Franca Chiaromonte che ha fatto anche lei un sacco di battaglie nella sua vita politica e che adesso attraverso Francesca la salutiamo Franca e attraverso Francesca leggiamo un suo breve messaggio grazie allora permettetemi prima di dire che ho conosciuto Franca all'associazione ex parlamentare e posso dire è stato un colpo di pulmine nonostante venissimo da storie politiche diverse c'è stata una simbiosi e una comprensione che è sorprendente siamo in effetti una bella coppia di fatto e quindi è con molto orgoglio e molta emozione che mi faccio sua portavoce dice Franca telegraficamente è fondamentale un luogo aperto per l'aria e la politica bisogna parlare e discutere e spiegare il referendum perché la giustizia sta male va cambiata a partire dalla separazione delle carriere dei magistrati indispensabile mi sta a cuore la giustizia da sempre per via delle ingiustizie che feriscono la vita mi passano davanti agli occhi i 19 processi ad Antonio Bassolino 19 volte assolto d'altronde Giovanni Falcone ribadirà con forza che non si può investire della cultura del sospetto tutto e tutti Enzo Tortora parlò di referendum per la giustizia giusta che significa valutarne gli effetti simbolici sociali politici a secondo che venga amministrata bene o male in effetti per trasferire Tortora nel carcere di Regina Celi i militari aspettarono che fosse mattina così da garantire a cameraman e fotografi la prima fila in modo da riprendere il presentatore con i ceppi ai polsi e allora il 12 giugno prossimo se io ho fiducia in Marta Cartabia e in generale nella sapienza femminile mi convince però che la sua riforma venga rafforzata con i quesiti referendari grazie Franca adesso due senatori dal Senato Francesco Urraro e Andrea Ostellari Presidente della Commissione Giustizia al Senato bene grazie abbiamo accolto l'invito e ovviamente non poteva che essere così per un momento importante non solo per la politica devo dire ma importante per il paese noi ricordiamo oggi con questo appuntamento un uomo la storia di un uomo che ha contraddistinto un periodo particolare che ha vissuto una una drammatica vicenda ma che con questa testimonianza lui dà voce a tante persone a tante donne a tanti uomini che stanno soffrendo a causa di errori giudiziari che continuano continuano ogni giorno continuano ogni anno errori giudiziari ingiuste detenzioni che contribuiscono quindi come abbiamo anche sentito prima a un dato complessivo negativo del nostro paese in termini di giustizia una giustizia che non funziona ha ripercussioni anche e soprattutto sulla nostro paese sulla nostra struttura di paese sulla ovviamente anche nel lato economico sappiamo bene quanto una giustizia efficiente potrebbe incidere ovviamente su una prospettiva di sviluppo anche nel nostro paese attrattività che viene a mancare a causa dei quasi 5 milioni di procedimenti dipendenze che abbiamo nel nostro paese tra civile penale tributario anche quello un tema importantissimo ora che cosa stiamo facendo e che cosa dobbiamo fare noi come paese e che cosa possiamo fare noi ovviamente come anche politica allora come paese abbiamo il 12 giugno una data importantissima fondamentale che segna la storia del nostro di questo nostro percorso di riforma della giustizia i cittadini sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari che sicuramente non cambiano il mondo della nostra giustizia ma ci aiutano e aiutano tutti a dare un segnale ben preciso allora dobbiamo cercare di parlare di questo anche se oggi se ne parla troppo poco probabilmente volutamente non se ne vuole parlare ma noi ci siamo qui anche per richiamare tutti gli italiani a questo appuntamento fondamentale se qualcuno non vuole cambiare la giustizia beh lo dica magari vada al mare ma se qualcuno invece ritiene che anche oggi la giustizia sta causando errori e ingiuste detenzioni allora si muova apra la propria coscienza apri il proprio cuore e partecipi e faccia partecipare a questo appuntamento per noi fondamentale per la crescita del nostro paese poi ovviamente noi come politici ci siamo come parlamentari ci siamo per condurre la battaglia e le battaglie che stiamo facendo anche in Parlamento abbiamo una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura anche qui ovviamente riteniamo opportuno che le forze siano debbano essere in grado di apportare modifiche a una riforma che non piace a nessuno a una riforma per la quale la NM ha promosso uno sciopero peraltro poco partecipato ma che in qualche modo ha segnato anche qui la storia di questo nostro paese la storia di queste nostre prossime riforme e poi quindi cerchiamo di fare squadra attorno ai principi e ai diritti delle persone e cerchiamo di fare squadra anche in relazione a proposte di dignità proposte che ovviamente dobbiamo essere in grado tutti di portare avanti una trattante e una a mio avviso fondamentale anche per ricordarla oggi è quella che è uscita dalla Commissione Giustizia del Senato e che propone la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari questa è una giornata che ovviamente possiamo dedicare in titolare a Enzo Tortola al ricordo di quest'uomo e in favore di tante persone che anche oggi soffrono a causa degli errori giudiziari quindi facciamo un appello a tutte le forze politiche perché venga calendarizzata anche in aula del Senato e che possa essere discussa e ovviamente approvata in bocca al lupo a noi in bocca al lupo a tutti voi per ovviamente questa battaglia che cerchiamo di fare per il nostro paese e per il nostro futuro grazie 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 al Presidente della Commissione Giustizia del Senato ringrazio anche io Francesca Scopelliti per l'invito per questo momento così significativo per questa riflessione in nome di Enzo Tortola in questa data così importante intorno a questo dato patologico che il Senatore Ostellari ha rappresentato stiamo portando avanti proprio in queste settimane una campagna referendaria per dei temi che tra l'altro non hanno nulla a che vedere con la riforma cartabbia e con la velocità che sta caratterizzando questo processo riformatore che paradossalmente in questa fase ha una possibilità di impegno di risorse in più avendo una attuazione del PNRR del recovery plan da portare avanti per cui il timing imposto dalla Commissione Europea è quello dell'approvazione di riforme di sistema per poter beneficiare di risorse seppur gradualmente chiaramente questa fretta non può e non deve comprimere le garanzie e i diritti fondamentali e queste occasioni come questa mattinata sono particolarmente significative per evidenziare i principi costituzionali in nome dei quali noi ci stiamo battendo da garantisti convinti da rappresentanti del popolo rispetto a dei temi che denunciamo quotidianamente i numeri ormai sono davvero pesanti sugli errori giudiziari sulle vittime degli errori giudiziari sul danno non solo morale ma anche economico c'è un dato che riferisce di addirittura 80.000 euro al giorno pagati per il risarcimento delle vittime dell'errore giudiziario lo facciamo in questa fase in cui la presunzione di non colpevolezza in molti casi sembra un qualcosa di evanescente ma resta un nostro baluardo intorno a cui costruiamo ogni singolo percorso parlamentare lo stiamo facendo in questa fase in cui in Commissione Giustizia al Senato abbiamo all'esame una riforma che non piace a tutti ma che stiamo cercando di migliorare nella valorizzazione anche dei due rami del Parlamento bene abbiamo fatto a porre la questione di un esame compiuto anche al Senato rispetto ad un tema così difficile e così delicato ci auguriamo che questa interlocuzione con Francesca Scopelliti va avanti da tempo ma con tutti i presenti riesca a rafforzare questo fronte comune civico popolare associativo e istituzionale in nome di valori a cui non derogheremo e non rinunceremo mai grazie grazie adesso darei la parola ad un altro amico che pure la vicenda Tortora la ricorda bene perché era lavorava a Radio Radicale come direttore forse c'eravamo vicini Giancarlo Quenzi che è conduttore di Zapping che tutti conosciamo prego Giancarlo Quenzi va bene sì non volevo mancare a questo appuntamento con il ricordo di Enzo Tortora lo vorrei prendere però sotto un punto di vista diverso io ho conosciuto Enzo Tortora quando appunto lavoravo a Radio Radicale mi ricordo andando insieme a Paolo Vigevano e a Sergio Stanzani a Milano a casa sua nel marzo 1984 per proporgli perché gli era già stata proposta la candidatura e Radio Radicale voleva andare appunto a contattarlo e a conoscerlo per offrirgli le sue frequenze i suoi programmi e io credo di avergli fatto una delle prime interviste in quell'occasione in cui lo andammo a trovare a Milano io di Enzo Tortora potrei dire tante cose ma una cosa mi preme oggi io gli devo moltissimo riguardo alla mia formazione da giornalista se io non avessi conosciuto Enzo Tortora se non avessi seguito la sua vicenda se non gli fossi stato vicino in tanti passaggi cruciali della sua vita e della sua vicenda politica e giudiziaria io oggi forse non sarei il giornalista che sono io spesso me ne rendo conto apro i giornali guardo le prime pagine sento le notizie dei TG e sento 50 arresti 200 arresti grande retata tutti in galera la grande truffa di quello la grande truffa di quell'altro il sistema criminale il sistema mafioso e ci sono titoli sparati sui giornali che dovrebbero suscitare subito rabbia indignazione per un paese spogliato dalla corruzione e dal crimine cosa che anche è ma grazie al fatto di aver conosciuto Enzo Tortora la mia prima reazione non è che schifo vergogna in galera buttate la chiave no la mia prima reazione è sarà vero? avranno le prove necessarie per sparare in prima pagina queste accuse? il processo come andrà? questi 200 arrestati questi 300 arrestati saranno condannati? o sarà tutto qualcosa che si scioglie come neve al sole per incapacità per sciatteria per voglia di primeggiare sulle prime pagine? allora io devo ad Enzo Tortora questo riflesso di cautela che ogni volta che leggo un titolo di giornale in cui sembra che abbiano smontato chissà quale apparato criminale che abbiano sbattuto in galera chissà quale mostro la mia prima domanda pensando a Tortora è ma sarà vero? e io di questo lo ringrazio grazie grazie per questa testimonianza adesso ciò interviene una persona che mi è molto cara può venire Cristiano è Cristiano Scardella Sardo fratello di Aldo che è stata una delle vittime della giustizia subito dopo la vicenda di Tortora e quando Enzo andò in Sardegna voglia andare come primo gesto sulla tomba di Aldo Scardella per portare un fiore una rosa rossa radicale vai grazie a tutti grazie a tutti grazie dell'invito grazie a Francesca avevo conosciuto il signor Tortora nel settembre dell'86 come stava dicendo Francesca mio fratello era morto in carcere innocente dopo tanti anni avevano scoperto i veri irresponsabili per l'omicidio di cui era stato accusato mio fratello però ormai era troppo tardi mi ricordo che il signor Tortora lo scelse come riferimento per la sua battaglia contro la giustizia giusta e nella tomba mi ricordo che lui fece una preghiera laica come aveva detto lui che non si poteva morire in isolamento in quel modo senza umanità senza averlo interrogato lasciato solo come un come un cane poi quando i quei censurarono i giudici istruttore perché non aveva interrogato mio fratello signor Tortora prese posizione e disse che mio fratello era il simbolo della giustizia ingiusta che una morte stroncata valeva una censura comunque negli anni ne successero altre cose molte volte sono peggio le cose che ti fanno da morto quando ti violano la memoria mi è rammarico che purtroppo il signor Tortora se n'è andato e sono sicuro che queste cose che ho appena detto non sarebbero successe e sono convinto della validità del referendum perché se ci fosse stata una responsabilità del magistrato mio fratello non sarebbe morto e non l'avrebbero tantomeno arrestato grazie grazie adesso diamo la parola a Renzo Tondo che è un deputato di noi con l'Italia dico bene bene grazie di questa opportunità io vorrei ricordare proprio in questa piazza una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso di essere impegnato nelle istituzioni di essere stato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia che ha consentito a Elwana e Unglaro di compiere il percorso che il papà aveva determinato e che la corte di Cassazione aveva consentito è stata una battaglia difficile ma siamo stati vicini alla famiglia e al diritto voglio portare però un'altra testimonianza una testimonianza di come una sceleratezza commessa dai giudici nei confronti di una persona possa diventare un danno per l'intera comunità io vengo dal Friuli come vi ho detto la regione che ha rappresentato un esempio nella ricostruzione del terremoto ebbene il sindaco di Gemona all'epoca che era un po' l'esempio vivente della ricostruzione venne arrestato alle sei di mattina di un venerdì per poi essere lasciato per tre giorni senza alcun passaggio di interrogatorio perché era sospettato di corruzione ovviamente per alcuni mesi rimase in carcere fu completamente assolto ma si distrusse non solo l'immagine e anche la salute di un uomo ma si distrusse anche l'immagine della ricostruzione del Friuli per alcuni mesi si pensò e si legittimò qualcuno a pensare che anche quella ricostruzione che è stata un esempio per il paese era un esempio sbagliato era un esempio di corruzione noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e oggi siamo orgogliosi di muoverci per raccogliere le firme prima e per votare il 12 giugno a favore di questi referendum che ridaranno dignità al nostro paese grazie adesso vorrei che prendesse la parola Diego Olivieri è diventato un amico perché anche lui vittima della giustizia e come Enzo diceva i miei nuovi amici sono i carcerati così per me sono amici tutte le vittime della giustizia lui è un imprenditore che è stato richiuso al 41 bis con delle accuse lunari che poi si sono svelate come tali ma come dire il danno era fatto grazie buongiorno il mio nome è Diego Olivieri vengo da Vicenza esattamente da Arzignano centro mondiale della pelle fino a qualche anno fa sono qui con piacere a commemorare Enzo Tortora il nostro vescillo la nostra bandiera e anche perché spiegando quello che a me è successo non è cambiato molto dei tempi di Enzo Tortora ad oggi anzi direi che a livello malagiustizia qualcosa sta peggiorando veniamo al mio caso io sono stato arrestato per associazione mafiosa concorso esterno reciclaggio di 600 milioni di dollari 774 miliardi di lire al tempo traffico internazionale di droga grandi quantità e ciliegina sulla torta inside trading manipolavo i mercati internazionali di borse banche titoli e pellami poiché io lavoro nei pellami non sono stato segnalato nessuno mi ha mandato un avviso come si dovrebbe fare che ero indagato la guardia in fidanza normalmente ti manda un avviso dicendo che sei indagato non mi ha mandato niente nessuno e una notte alle 3 e mezzo mi sono trovato con sei agenti dell'agia e due carabinieri che mi dicevano vieni con me di prepararmi una borsettina con dei ricambi che mi dovevano trasferire nel carcere allora il giorno dopo il mio arresto il giorno dopo no il mese dopo i giornali le tv locali parlavano di un intrigo internazionale sventato dalla via di Roma e il Corriere della Sera che ho copia l'ho tenuta religiosamente in edicola c'era già il giornale in edicola perciò non è difficile capire come sia arrivato in edicola il giornale il giorno dopo il mio arresto qualcuno ha passato la storia del teorema composto dai pubblici ministeri di Roma in quel momento la droga e i soldi della mafia passavano dal Veneto 600 milioni di dollari sventato dalla via mega reciclaggio messo in piedi da un clan italo-canadese il Veneto uno snodo cruciale società fantasma e offshore secondo l'accusa i due funzionari avevano i conti svissera su cui far arrivare il denaro sulla rotta del traffico quattro concerie vicentine arrestati due funzionari di banca e due imprenditori di Arzignano Venezuela Canada Stati Uniti Italia Genova i porti di Genova la Spezia Livorno il colossale traffico di stupefacenti nascosto nelle pelli importate dai due imprenditori della Concia Vicentini veniva smistata in mezzo a Europa mentre un paio di funzionari di banca convogliavano i proventi del sistema creditizio attraverso due conti svisseri di Lugano che erano i miei era una vera e propria multinazionale del crimine legata alla mafia siciliana quella scoperta dalla direzione antimafia di Roma che ieri ha arrestato ieri vuol dire che il giornale era il giorno dopo in edicola arrestato i quattro Veneti funzionari e ha perquisito le quattro società vicentine passava dunque anche dal Veneto in particolare da alcune concerie la rotta dello spazio internazionale che ruota attorno al clan itano canadese allora per farla breve per farla breve di tutto questo dopo sei anni non è rimasto nulla nulla il nulla del nulla però dovete sapere che quando i giornali hanno cominciato a diramare la notizia e la televisione tutte le televisioni nazionali davano questo annuncio la dignità e l'onore del sottoscritto sono scomparsi qui si tratta di una tortura non riconosciuta dalle istituzioni da quel momento non sei nessuno ti sequestrano i conti correnti ti sequestrano le società ti sequestrano tutto quanto è nelle tue mani nelle tue possibilità sono rimasto sei anni senza poter attingere un euro dal mio conto corrente senza avere un dividendo della società praticamente vivendo d'aria i miei avvocati che alla seconda terza udiente hanno chiesto al giudice dal collegio giudicante che Olivieri potesse avere un minimo di duemila euro per sopravvivere mi sono sentito rispondere perché io ero sempre presente all'udienza mi sono sentito rispondere che si è alzata in piedi la donna giudice cosa che non fa mai mi lo ricordo come se fosse ieri dice avvocato se fosse per me il suo cliente sarebbe ancora spese dallo stato dove è rimasto fino adesso non me lo chieda più perciò grazie a qualche amico ho potuto sopravvivere sei anni senza poter attingere a un euro dei miei conti personali di mia moglie come se non bastasse perché all'inizio del processo dalle prime udienze si è visto che il castello di sabbia sarebbe crollato perché gli inquirenti non rispondevano alle domande dei miei avvocati non sapevano cosa dire e Anna spavano nel nulla a questo punto cosa hanno fatto Olivieri è un imprenditore sicuramente avrà qualcosa di loschio dell'azienda mi hanno applicato la misura di prevenzione la misura di prevenzione quanto di peggio possa capitare a qualsiasi azienda perché cosa vuol dire entra in un'azienda dovrebbe essere massimo dieci anni invece a me ne hanno chiesti tredici e la guardia di finanza la banca d'italia il tribunale il pm il gip tutti controllano la situazione economica da mille euro in su mi chiedo qual è quella ditta che può sopportare un controllo del genere così stretto e particolarizzato c'è sempre giorno il momento che per un motivo o per un altro qualcuno si aiuta io sono stato fortunato perché mio padre mi ha sempre detto camminiamo dritto non hanno trovato nulla e di conseguenza sono stato assolto perciò processi alla fine me ne hanno fatto tre sono stato assolto sempre con l'articolo 530 il fatto non sussiste e a questo punto mi sarebbe mi sarebbe aspettato di avere un risarcimento quanto meno era dovuto lo sto ancora aspettando io e tutti i 19 imprenditori coinvolti 4 sono falliti 3 sono morti la rimanenza quasi tutti sono fuggiti all'estero tranne che il sottoscritto che purtroppo le radici qui da anni i nipoti e i figli mi hanno trattenuto ancora qua ma il mio non è un caso singolo io ho il coraggio di venire a dirlo ma c'è ci sono molte persone coinvolte che non ce la fanno sono distrutte la tortura li ha ridotti a delle larve umane perché non c'è di peggio che stare quanto tempo in un carcere da innocente i pensieri si accavallano nella mente non sai nulla in 4 metri per 2,70 in 3 persone 2 ore all'aria 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio non sai nulla di quello che esiste della tua vita sei diventato un numero un pacchetto postale ogni movimento sei ammanettato come un criminale è stata dura ma alla fine sono qua che la racconto comunque approfittiamo approfittiamo di questo momento per andare a votare per questo referendum che è poco ma è importante perché si faccia qualcosa perché nessuno deve pensare a me non capiterà mai la mia dita era ed è tuttora una tripla A premiata con medaglia d'oro della Camera di Commercio mai avrei pensato che mi potesse succedere una cosa del genere purtroppo è successa vi prego ascoltatemi andate a votare per questo referendum con un bel sì perché solo chi ha vissuto il problema può capire tutti quelli che dicono ho sentito molti spot pubblicitari di gente che non sa cos'è un carcere i magistrati pensano che un carcere sia una vacanza ma è la dignità e l'onore che vale di cui sei privato che secondo me è la cosa più importante per un uomo a questo punto vi saluto e vi ringrazio e ringrazio la Scopelliti Francesca di avermi invitato bene noi proseguiamo e adesso abbiamo oltre che un collega un amico un altro amico che si unisce a noi ed è Riccardo Maggi di più Europa grazie Roberto grazie a Francesca per l'invito e per l'iniziativa questa giustizia può colpire anche te era uno degli slogan ed è tuttora uno slogan valido purtroppo noi l'altro ieri insieme al collega Enrico Costa che vi ho portato qui e che è probabilmente tra coloro che di più in questa legislatura si sono battuti non solo in questa ma in questa in particolare riuscendo ad ottenere in commissione giustizia dei risultati riuscendo a stimolare l'azione del governo e ad ottenere cose importantissime come la norma sulla presunzione di innocenza con il recepimento della direttiva ad ottenere l'inserimento nel fascicolo di valutazione delle performance professionali dei magistrati all'interno della riforma cartabbia l'altro giorno l'altro ieri abbiamo fatto una conferenza stampa in coincidenza con lo sciopero convocato dall'associazione nazionale magistrati e in quella conferenza stampa siccome noi non vogliamo alimentare uno scontro fra politica e magistratura non ci interessa questo ci interessa parlare dei problemi della giustizia abbiamo presentato una sorta di decalogo con i mali della giustizia e purtroppo ne parlerà sicuramente lui dopo di me la questione dei magistrati fuori luolo la questione della presunzione d'innocenza la questione dell'ingiusta detenzione la questione delle condizioni carcerarie la questione della mancata separazione delle carriere ora vedremo come andrà con la separazione delle funzioni sono tutte questioni che da decenni affliggono non la polemica fra politica e magistratura affliggono lo stato di diritto e la vita dei cittadini nel nostro paese si abbattono su ogni cittadino che per disgrazia per caso per sfiga si trova ad avere a che fare con la giustizia italiana che abbia a che farci nel ruolo di imputato nel ruolo di parte offesa nel ruolo di detenuto qual è però la questione a mio avviso più drammatica che noi abbiamo di fronte e l'abbiamo constatato ancora in questa legislatura ancora in occasione della discussione della riforma che ce lo siamo detti tante volte e lo ripetiamo qui è un timido a mio avviso a nostro avviso è un timido passo in avanti su alcune questioni si sarebbe potuto si sarebbe dovuto fare molto di più molto di meglio ma perché non è stato fatto perché purtroppo dobbiamo dircelo qui dentro un 80% della sensibilità politica della cultura politica della cultura generale di chi abita queste istituzioni il Parlamento il centro il cuore della democrazia rappresentativa è una cultura fortemente giustizialista lo abbiamo visto all'inizio di questa legislatura quando sono stati inaugurati gli interventi sulla giustizia da uno scambio da uno scambio indecente eravamo all'epoca del governo giallo-verde quando lo spazza corrotti che conteneva l'infame riforma Bonafede della prescrizione che conteneva l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione nel 4 bis dell'ordinamento penitenziario quindi nel regime ostativo e l'impossibilità di accedere ai benefici alle misure alternative sostanzialmente dicendo che i reati contro la pubblica amministrazione sono equiparati in tutto e per tutto ai reati di mafia e di terrorismo quella riforma pessima veniva scambiata in quella maggioranza che era ricordiamolo la maggioranza più numerosa che c'è stata all'interno del Parlamento veniva scambiata con la pessima riforma della legittima difesa ricorderete il refrain la difesa è sempre legittima sostanzialmente dando l'illusione ai cittadini che non ci debba essere una verifica giurisdizionale se qualcuno usa la forza anche per difendersi perché dico questo perché ricordo questo perché questo è il problema di fondo e questa era la battaglia politica parlamentare ma anche culturale che aveva fatto che ha fatto e per la quale dobbiamo ringraziare Enzo Tortora e la sua figura cioè far comprendere come il garantismo la giustizia giusta le garanzie le garanzie per il cittadino il fatto di non avere un sistema giudiziario e penitenziario che si abbatta come una mannaia sul cittadino non lasciandogli scampo distruggendogli la vita distruggendogli le relazioni personali professionali la vita familiare come questo fosse il cuore della democrazia e il fatto che dopo 34 anni noi siamo ancora a combattere a discutere di queste cose e su queste cose ci sia una sensibilità minoritaria all'interno del Parlamento ci dà tutta la misura della fragilità della debolezza della nostra democrazia devo rientrare a brevissimo per votare ma vi saluto anche con un appuntamento che noi non essendo stati tra i promotori dei referendum giustizia però abbiamo convocato per il 28 e 29 maggio come più Europa e azione una mobilitazione straordinaria per tutti sui 5 quesiti referendari sulla giustizia ben consapevoli che il problema e torniamo al problema di democrazia che abbiamo nel nostro paese in questo momento è non un boicottaggio sostanzialmente è una tranquilla attesa che questo appuntamento referendario fallisca come avrete visto ed è stato denunciato le tribune elettorali sono state collocate in fasce orarie di minimo ascolto tali per cui se anche tutti coloro che per caso dovessero accendere la televisione e trovarsi di fronte a una tribuna elettorale fossero convinti di andare a votare sì se anche questo avvenisse comunque non si raggiungerebbe il quorum perché tutti quelli che stanno guardando la televisione in quelle fasce orari sono talmente pochi che in ogni caso il quorum non si raggiungerebbe siamo consapevoli di questo chiediamo e chiederemo in tutte le sedi dove siamo presenti che la RAI invece cambi registro da questo punto di vista ma vogliamo fare anche la nostra parte appunto in due giornate di gazebo in tutte le città in tutte le province in cui siamo presenti per informare i cittadini sull'importanza di andare a votare e di andare a votare di andare a votare sì su questi cinque quesiti referendari farlo per la nostra democrazia ed è anche quello che ha chiesto e che avrebbe chiesto di fare in questo momento Enzo Tortora grazie e no perché anche i microfoni hanno un'anima o comunque hanno delle pile quindi se le pile si scaricano bisogna inevitabilmente cambiarle adesso darei la parola a un altro collega e anche esso un altro amico che è Enrico Costa di Azione e chi ha sentito e conosciuto Enrico sa che sui temi della giustizia è uno che ha poco da imparare soprattutto è uno che di battaglie ne ha fatte tante e ovviamente anche lui è qui per parlarci ricordando Enzo Tortora ma anche dell'appuntamento del 12 giugno grazie 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 Roberto grazie a tutti è un vero piacere essere qua e poter testimoniare un impegno a fianco di tante persone tanti amici tanti colleghi che questo impegno lo hanno portato avanti nel corso del tempo guardate occuparsi di giustizia non è facile non è facile perché sembra che questi temi interessino soltanto agli addetti ai lavori o alle persone che hanno avuto qualche sventura molti cittadini non si rendono conto che una giustizia che funziona è un biglietto da visita di un paese che la giustizia è un pilastro della partecipazione civile all'interno del paese ebbene noi abbiamo iniziato questa legislatura con la spazza corrotti abbiamo e stiamo concludendo questa legislatura con la legge sulla presunzione di innocenza e con la riforma del CSM che ha alcune note a nostro giudizio positive che puntano alla responsabilizzazione del magistrato cosa significa responsabilizzazione significa che non ci deve essere la superficialità non ci deve essere la negligenza ma ci deve essere una valutazione degli atti perché troppe volte gli atti vengono posti in essere con superficialità con leggerezza perché semplicemente non c'è nessuno a cui rispondere nessuno a cui dover rendere conto ma non è questa l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che noi vogliamo noi vogliamo ovviamente una magistratura autonoma e indipendente ma la vogliamo anche che sia in condizione di valutare il lavoro di ciascuno chi sbaglia anche nella magistratura deve avere diciamo delle ripercussioni in termine di carriera ecco l'appianamento professionale che c'è oggi col 99% di magistrati positivi alle valutazioni è un qualcosa di sbagliato perché se c'è appianamento professionale non ci sono i bravi e i meno bravi e soprattutto proliferano le correnti quindi io sono convinto che di passi avanti se ne sono stati fatti e se ne abbiamo fatti anche sul tema dell'ingiusta detenzione sul tema delle sanzioni sul tema del fascicolo per la valutazione di professionalità e grazie al lavoro di tutti noi è un lavoro che è silenzioso silenzioso perché molto spesso non fa notizia ma se l'altro giorno c'è stato uno sciopero dei magistrati e c'è stato uno sciopero dei magistrati in cui c'è stata devo dire anche un po' di polemica interna e perché le nostre proposte hanno fatto strada hanno avuto presa hanno convinto qualcuno non tutti certamente i capi correnti non sono convinti delle nostre proposte perché perdono potere però è una attenzione al cittadino quotidiana importante ecco sono contento di essere qua sono contento di essere da questa parte della barricata e soprattutto sono contento di fare al vostro fianco delle battaglie autenticamente liberali grazie quando sento parlare Enrico Costa per un dato anagrafico a me viene in mente sempre il suo papà che ho conosciuto ai miei tempi adesso la voce ha un altro radicale come dire storico Carlo Romeo la sua voce per Radio Radicale è sempre come dire di casa in casa grazie Carlo grazie a te Francesca io non so se riusciremo magari la radio Radio Leopolda sarà molto utile perché qui in piazza col gruppo elettrogeno non si sente praticamente nulla potremmo dire la qualsiasi cosa prima immagine da raccontare è quella di Piero Fassino che esce da Montecitorio e appena vede questo assembramento comincio ad avere un passo di carica che sembrava i bersaglieri perché effettivamente può essere che in qualche contesto queste cose che andiamo dicendo suonano un po' strane però vedere questa accelerazione avete presente le vecchie motociclette di una volta che davi gas e partivano ecco Fassino ha fatto la stessa cosa perché essere qui perché nonostante tutto torniamo seri ma eravamo seri anche quando parlavamo dell'atteggiamento di Fassino e del PD su quello che è il tribunale non da oggi e un certo tribunale non da oggi l'atteggiamento di un mondo che più di 30 anni fa sembra incredibile sia passato tutto questo tempo è stato colpevole è stato criminale perché c'è stata una serie di magistrati assassini o per quello che hanno fatto o per quello che hanno consentito di fare c'è stata una politica che ha preferito giocare sul mostro creando una situazione di come si può dire veramente di linciaggio di isolamento in una storia di un uomo che era che era assolutamente come diceva lui io non sono io sono estraneo è diverso e poi anche i media che è una è una porta ormai fin troppo aperta in merito al coraggio degli organi di informazione italiani e forse la grande lezione di Tortora è quella del coraggio Enzo ci ha insegnato il coraggio e la dignità io posso raccontare mi è stata chiesta qualche testimonianza di Enzo ricordo magari via dei piatti la sua situazione milanese in cui era costretto come si dice in gergo ricordo quando andammo insieme e anche qui sono nomi che fanno impressione a ricordare ma che meriterebbero in un paese che non fosse questo porco paese come si diceva una volta maggiore attenzione Adelaide Aglietta Emilio Vesce sono storie che dimentichiamo perché siamo travolti dalla quotidianità del nulla andammo a Pianosa a visitare in visita parlamentare quello che era stato il carcere e fu una visita molto importante così come ricordo il momento in cui lui si dimise al Parlamento europeo a differenza di quello che succede in Italia le truppe possono entrare ma non possono intervistare i parlamentari e allora noi eravamo lì con la truppe appena finì di parlare Enzo violando le regole io andai a chiedergli una dichiarazione immediata immediatamente il presidente dell'aula che non ricordo chi era mandò un commesso e lì mi ricordo Stefano Andreani che qualcuno di noi forse ricorda che placò il commesso per far finire a Enzo una dichiarazione che era molto importante però parlare di Enzo senza parlare di Silvia è assolutamente impossibile purtroppo quella magistratura assassina ha continuato di fatto a uccidere Silvia che ha subito sulle sue spalle insieme a pochi altri ci sono vedo Francesca ma vedo pochissimi altri quello che era il fronte esterno mentre Enzo gestiva il suo calvario Silvia l'ha pagato veramente con la vita e questo occorre ricordarlo era una giornalista avviatissima bravissima e come accade in questi casi la tragedia finisce per travolgere anche i familiari e credo che appunto ricordare Silvia oggi qui sia molto molto importante l'ultima cosa che io ricorderei con Roberto è inutile dirlo si passa Piazza Colonna si supera Fontana di Trevi dritto per dritto subito a sinistra c'è un posto che si chiama la panetteria ecco in questo momento la panetteria vuota ma non per per lui ma per noi è un è un dramma perché in momenti come questi in cui servono le intelligenze il rigore quante volte abbiamo sentito dire Marco il rigore da vigore sembrava uno slogan dei baci perugina invece era vero il coraggio la dignità il rigore e noi siamo ancora qui oggi e concludo a chiederci se fra un mese questo paese andrà alle urne andrà a dire basta con una giustizia corporativa incapace di autocontrollarsi e di autogestirsi come andrà non lo so io non sono sicurissimo che il progetto di falsaltare il referendum con la solita con il gioco dei prestigiatori il trucco lo fai con la mano sinistra e porti l'attenzione sull'altra mano ecco questo gioco non sono sicurissimo che andrà avanti perché ormai tutti in questo paese hanno imparato che la giustizia è il primo dei luoghi in cui si può valutare la qualità di questo paese dunque un grande abbraccio a Enzo un grande abbraccio a Silvia un grande abbraccio a Marco sapendo che il viaggio che loro hanno intrapreso non è finito con loro grazie bene grazie grazie a Carlo Romeo adesso torniamo a un intervento di una parlamentare nella fattispecie Giuseppina Occhio Nero poi seguirà Migliore e poi ancora seguirà Rosato sai noi non volevamo stare qui perché ci riparavamo dal sole capito è la ragione ah è arrivato per i più fortunati tra poco avranno un riparo perché sta arrivando un potente mezzo sto facendo la radiocronaca di quello che accade e sta arrivando un potente mezzo che ci consentirà di continuare questa nostra maratona senza scuoiarci sotto il sole perché è arrivato una sorta di ombrellone io direi però procediamo tranquillamente continuiamo e diamo la parola a Giuseppina che non si farà distrarre dalle procedure di montaggio dell'ombrellone grazie e soprattutto che non avrà diciamo la fortuna di parlare sotto l'ombrellone grazie Roberto grazie Francesca grazie Radio Eropolda per questa fondamentale campagna di informazione e di sensibilizzazione infatti vogliamo lanciare un appello l'appello è andare a votare il 12 giugno votare sì sì per questo referendum perché lo dobbiamo fare per Enzo Tortora e pensando a Enzo Tortora e lo dobbiamo fare perché è evidente che il rapporto tra magistratura e politica come è stato già detto lo voglio ribadire velocemente in quest'ultimo periodo è un nervo scoperto della storia della nostra Repubblica forse a partire dall'epoca di Tangentopoli e allora è necessario assolutamente andare a votare con convinzione sì il prossimo 12 giugno per poter contribuire con il nostro voto ad una giustizia più giusta perché nell'ultimo periodo io ritengo che il potere delle toghe sia diventato nel migliore dei casi un condizionamento ai governi alle amministrazioni locali oltre che alla vita di tante persone nella peggiore delle ipotesi invece ha addirittura cancellato tutto ciò attraverso inchieste che poi si sono rivelate assolutamente infondate ecco perché velocemente con questo mio intervento voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per questo momento di riflessione fondamentale quindi il mio invito ad andare a votare sì il 12 giugno sì per il referendum sì per una giustizia più giusta grazie bene grazie a Giuseppina non sarà ancora possibile probabilmente per Gennaro usufruire della potente copertura che ci riparerà dal sole ma sicuramente chi viene dopo casualmente magari il presidente Rosato potrà farlo e diamo la parola a Gennaro Gennaro Migliore grazie 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 innanzitutto a Roberto Giacchetti e a Radio Leopolda che hanno voluto questo appuntamento in una giornata che per l'Italia ha un significato particolare per me sicuramente perché è il giorno in cui è venuto a mancare una delle persone alle quali ciascuno di noi deve molto per la sua storia politica per le proprie convinzioni e anche per l'idea che si ha dell'impegno civile Enzo Tortora è stato probabilmente una delle figure che anche interpretando quello che è stato sempre la sua capacità di comunicazione di relazione di vicinanza con le persone è riuscito a tradurre in senso più autentico quello che significa fare una battaglia per una giustizia giusta pagandola di persona ed essendone vittima ed è questo il motivo per il quale la generazione io avevo 20 anni quando morì Enzo Tortora la mia generazione ha molto ancora da imparare da quegli esempi e dalle persone che come Enzo come Marco Pannella hanno tenuto un rigore una capacità di iniziativa una fedeltà nei valori supremi della giustizia perché quello che bisogna dire è che sono stati soprattutto coloro i quali hanno amato di più la giustizia anche rispetto a quelle che erano le deviazioni le storture e spesso i crimini commessi per conto della giustizia io ho avuto l'onore anche di svolgere una funzione di governo legata al Ministero della Giustizia e mi sono occupato molto di carceri qui abbiamo persone che parteciperanno a questa nostra maratona che hanno dato tutta la vita e continuano a darla proprio per individuare anche in questo microcosmo quelle che sono gli elementi fondamentali della dignità della civiltà della possibilità di avere un paese più giusto perché la misura della democrazia di un paese si misura innanzitutto guardando nel buco nero delle carceri e anche a Rita Bernardini va il mio ringraziamento per il suo impegno ed è uno dei motivi per i quali io ho in tasca due tessere quella di Italia Viva e quella del Partito Radicale e quella del Partito Radicale ce l'ho da più tempo perché ritengo che questa tessera mi potrà accompagnare accompagnerà tanti di noi nella realizzazione anche di un percorso personale che non fa del garantismo una battaglia politica ma fa del garantismo una condizione esistenziale potenziale noi siamo qui e voglio diciamo andare rapidamente alle conclusioni perché una maratona oratoria è soprattutto importante perché si possa arricchire di tanti contributi perché c'è un silenzio assordante sul tema dei referendum proposti dai radicali e anche dalla Lega e che Italia Viva e che io personalmente abbiamo sostenuto fin dall'inizio dei tanti quesiti vorrei parlarne in particolare vorrei parlare in particolare di uno che è quello della custodia cautelare preventiva si è molto detto sulla necessità di non approvare questo referendum che è complesso che va a intervenire sulla reiterazione del reato come possibilità della detenzione di una persona sulla base di un presupposto che è quello indiziario della possibile reiterazione del reato e si è anche valutata la complessità escluse ovviamente le attività criminose che hanno comportato utilizzo di armi per mafia per terrorismo che non vengono toccate da referendum su alcune altre in particolare per quelli di violenza domestica familiare che potrebbero in qualche modo essere aggredite in maniera negativa dall'approvazione di questo referendum ebbene io penso che il Parlamento con tutti i referendum con tutti i cinque referendum avrà il compito anche di proporre una normativa che possa mettere nella direzione segnata dai referendum eventualmente anche dei correttivi che possono tranquillizzare e dare anche una certezza a coloro i quali potrebbero essere potenziali vittime di reati che non verrebbero più individuati come meritevoli di una detenzione preventiva ma la detenzione preventiva in sé non può essere abusata come abusata in Italia e quindi noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta chiara a coloro i quali e sono tante migliaia sono stati detenuti ingiustamente e che non possono ricevere solamente la rassicurazione quando questo avviene perché neanche in tutti i casi ciò avviene di un risarcimento economico noi dobbiamo sapere che la limitazione della libertà deve essere comunque e sempre un estrema razio e la possibilità di intervenire sulla limitazione della libertà deve essere misurata e non utilizzata a fini processuali si tratta di questo di un principio generale di civiltà e si tratta anche di avere un'attenzione particolare per i tanti che in questo momento sono nelle carceri in attesa di giudizio non si tratta solo ovviamente di detenzione preventiva ma si tratta anche di coloro i quali sono in attesa del secondo o del terzo grado di giudizio noi abbiamo la necessità di interpretare la Costituzione e l'articolo 27 per quello che dice veramente e cioè che le pene non sono solo una pena ma sono tutte le pene che vengono eventualmente combinate per una garanzia della società e non per una vendetta e questo è quello che io vorrei dire in questa maratona oratoria siccome c'è stata una persona che ingiustamente e pagando con la propria vita come Enzo Tortora ha subito una detenzione illegale anche e soprattutto per responsabilità dei magistrati noi su questo punto dobbiamo intervenire con determinazione e sostenere con convinzione questi referendum grazie 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 a Gennaro Migliore ora si pone intanzitutto saluto Annalisa Angeri grazie grazie ragazzi è bello è bello avervi tra di noi speriamo che andate anche a votare il 18 anzi il 12 giugno che questo renderebbe ancora più nobile questa vostra passeggiata che potrebbe rimanere nella storia peraltro volevamo salutare Annalisa Angeri dei radicali italiani che qui gente che viene che va non tutti parlano ma comunque tutti si associano a questa iniziativa e non potrebbe che farsi piacere ora abbiamo un problema diplomatico abbiamo fatto parlare praticamente tutti i parlamentari al sole casualmente qualcuno potrebbe pensare che diciamo è una cosa fatta apposta per essere un po' lecchini e via dicendo adesso che deve parlare il presidente del partito d'Italia Viva Ettore Rosato è arrivato l'ombrellone si è manifestato l'ombrellone Rosato che è furbo ha detto che il microfono lo spostiamo dopo e lui intanto parla al sole la parola a Ettore Rosato grazie a Roberto grazie a tutti quanti voi che siete qui oggi e grazie all'organizzazione di questo appuntamento di questa maratona di questa maratona non formale ma una maratona di sostanza una maratona se mi consentite anche con un po' di cuore di passione di partecipazione a ricordare una figura straordinaria come quella di Tortora ma a ricordare anche il nostro impegno per il suo impegno per quello che ha significato per il nostro paese perché abbiamo bisogno oggi più che mai di rendere nuovamente vivo una battaglia sulla giustizia giustizia che in 30 anni non è che abbia fatto tanti passi avanti i temi di una volta sono i temi ancora di oggi la giustizia italiana ancora non funziona e la responsabilità di una giustizia che non funziona è un elemento che rende molto più fragile un paese l'Italia è più fragile perché abbiamo una giustizia che non è giusta Tortora ha trasformato la sua battaglia giudiziaria non in un fatto personale ma l'ha saputo trasformare in una battaglia civile ha rinunciato all'immunità parlamentare per dire e per voler dimostrare come una giustizia ingiusta possa distruggere la vita di un normale cittadino lui si è schierato per affermare il diritto ad avere un processo giusto un processo rapido e per poter dire significare come il tema della giustizia non sia un tema riservato a pochi ma sia un tema di tutti io penso che questa sua scelta profonda che lo ha portato a cambiare la sua vita a cambiare la vita dei suoi familiari a cambiare la vita delle persone a cui voleva bene per essere stato travolto da una vicenda giudiziaria assurda sia uno stimolo a ognuno di noi anche qui oggi a testimonianza di una battaglia civile che noi dobbiamo continuare a portare avanti a noi spetta portarla avanti in Parlamento con leggi che siano efficaci e non siano solo enunciate con leggi che possano entrare in profondità nella tutela dei diritti dei diritti di chi è in carcere nei diritti di chi oggi riceve un avviso di garanzia nei diritti di chi viene messo sulle pagine dei giornali e condannato da una sentenza che è una sentenza di un giornalista e non la sentenza di un giudice ma dobbiamo fare questa battaglia anche coinvolgendo gli italiani e il primo modo per coinvolgere gli italiani è fare la battaglia sui referendum del 12 giugno non sono tutti i referendum che cambieranno la giustizia italiana non è con questi cinque quesiti che noi cambieremo tutta la giustizia italiana ma segneremo un passo avanti molto significativo in termini di partecipazione e in termini di scelta profonda che gli italiani hanno di dire è il momento di cambiare io ringrazio chi oggi ha passato passa la sua giornata qui a rappresentare tutti noi ho voluto dare anch'io un segno della forza con cui Italia Viva crede in questa iniziativa mobilitando le sue energie facendo chiedendo anche alle altre forze politiche che si ritrovano in un progetto riformista di partecipare e mettendo a disposizione la sua consapevolezza la nostra consapevolezza che la battaglia sulla giustizia non è una battaglia di nicchia ma una battaglia sui diritti ci siamo sempre battuti per i diritti questo è un diritto il diritto alla giustizia che purtroppo ancora oggi è troppo volte spesso negato e noi a questo diritto al diritto di avere una giustizia giusta ed eco in questo paese non fermeremo mai di dire con forza che bisogna lavorare in sintonia con tutti ma bisogna lavorare con grande chiarezza e senza cercare compromessi troppo a ribasso purtroppo di compromessi a ribasso in tema di giustizia ne abbiamo visti fin troppi grazie adesso approfittiamo e ci mettiamo all'ombra sto per dare la parola a Fiammetta Modena senatrice di Forza Italia e così il panorama dei rappresentanti delle forze politiche che hanno aderito a questa iniziativa si allarga ancora di più vorrei anche dirvi che Gianni Pittella del Partito Democratico che sarebbe dovuto intervenire ha avuto un problema in commissione dovendo presidere la commissione finanze non può passare vedrà se ce la fa dopo ma comunque dà pieno sostegno all'iniziativa così come anche Salvatore Margiotta che è chiesto senatore del Partito Democratico ha detto che sarebbe passato lo aspettiamo ma intanto noi andiamo avanti con i nostri interventi Fiammetta grazie a te scusami Fiammetta approfitto vorrei annunciare che alle 13.30 in punto Radio Leopolda fa il suo giornale radio consueto a quell'appuntamento ma noi continueremo ad andare in diretta grazie a Radio Radicale che ci sta seguendo anch'essa in diretta e dopo un quarto d'ora di GR riprenderemo ovviamente la diretta anche su Radio Leopolda prego Fiammetta scusa grazie grazie moltissimo io ho accettato questo invito con grande diciamo entusiasmo perché vorrei parlare non a chi conosce benissimo la vicenda di Tortora e sa che cos'è cioè un momento vero di cesura nell'ambito della storia giudiziaria del nostro paese ma voglio parlare a chi è nato alla fine degli anni 90 negli anni 2000 a questi ragazzi che magari se sentono parlare di Enzo Tortora hanno dei ricordi sbiaditi bisogna che la memoria sia conservata ma sia conservata soprattutto nelle giovani generazioni perché la vicenda di Enzo Tortora è una pietra miliare nella storia del nostro paese Enzo Tortora era un presentatore un presentatore di una trasmissione televisiva che seguivano tutti gli italiani Portobello che si è trovato in una notte all'improvviso la vita completamente sconvolta non ci voleva neanche credere quando i giornalisti cercavano di avvertirlo pensava che fosse uno scherzo e tutto questo per delle dichiarazioni di pentiti per un'agendina per delle indagini che si è scoperto dopo erano state fatte senza dei fondamenti probatori questa è la vicenda di Enzo Tortora perché fu il primo processo veramente mediatico dove butti una persona in pasto io sono andata a rivedermi negli archivi del Corriere della Sera quello che pubblicavano nel il 18 giugno del 1983 e ho ritrovato la famosa foto di Enzo Tortora ammanettato c'era anche il titolo Enzo Tortora ammanettato e poi sotto lui che dice che è una macchinazione ci sono voluti mesi e mesi e soprattutto un'analisi della corte di appello attenta che ha messo in fila tutta la serie di falsità che ci sono state perché a Tortora fosse restituita una vita una dignità quando è stato connannato in primo grado c'era una folla perché il paese si era diviso tra innocentisti e colpevolisti esattamente quello che vediamo oggi fino a quando la verità non è stata stabilita in corte di appello a Napoli e poi definitivamente in Cassazione vi voglio leggere quello che nel 1986 sul Corriere della Sera del 16 settembre vi leggo un piccolo brano scrisse a commento Gian Domenico Pisapia lui disse ha scritto questo soprattutto quanti continueranno a dubitare chi ripagherà costui cioè Enzo Tortora e la sua famiglia delle sofferenze subite del discredito morale e dei danni materiali patiti ma soprattutto quanti avranno ed è qui che si delinea in tutta la sua gravità e attualità il problema delle responsabilità in questo genere di vicende è il 1986 vi invito se avete l'archivio del Corriere della Sera a rileggere questo pezzo di Gian Domenico Pisapia perché sembra oggettivamente la fotografia di tantissimi casi che ancora oggi noi vediamo sotto gli occhi allora l'Italia vecchia giovane di mezza età non deve mai dimenticare il caso Tortora perché solo se il caso Tortora rimarrà nelle nostre memorie avremo la forza di cambiare in meglio questo paese e la sua giustizia grazie ancora per avermi ospitato possiamo fare anche una foto facciamo una foto sì Radio Cronaca stiamo facendo una foto con Fiammetta fatta la foto grazie benissimo intanto tra pochi minuti parte il GR di Radio Lopolda e a questo punto se c'è e lo vedo vorrei dare la parola a un altro amico che è Sergio Delia che ha stazionato qui per ore e che ovviamente adesso nel momento in cui lo chiamo ah ecco pensavo che aver fatto la classica cosa che è stato qui per ore e poi quando lo chiamo non c'è Sergio Delia grazie grazie Roberto io devo ringraziare in particolar modo Radio Lopolda per aver dedicato questa giornata che è di ricordo di commemorazione a Enzo a Enzo Tortora io ringrazio e sono qui per abbracciare tramite fisicamente tramite la sua compagna Francesca la persona che ricordo come se fosse ieri il momento che lui ha voluto dedicare alla mia accoglienza nel partito radicale eravamo allergife inizi del 1987 in un congresso in cui si decideva la vita del partito radicale era la campagna o lo scegli o lo sciogli e dare bibbia molti di noi che avevano partecipato a una stagione di lotta violenta nella illusione di poter appunto attraverso la violenza cambiare il mondo levare qualcosa di positivo nella storia eravamo stati nel partito violento ebbene in quel congresso consegnavamo il partito della violenza al partito della non violenza del partito radicale ma ricordo c'è un'immagine che non dimenticherò mai che nel momento in cui parlo dal palco dal podio dell'ergife sullo sfondo c'era Enzo Tortora accanto a Maria Teresa di Lascia Enzo Tortora in piedi che applaudiva me no applaudiva il miracolo di un partito che non faceva altro che convertire persone storie vissute anche tragiche anche violente alla non violenza e accanto a Enzo c'era anche Marco Pannella ci sono questi due nomi in questo mese di maggio in cui sbocciano e profumano le rose ecco che li accomuna Marco Pannella e Enzo Tortora sono nati se ne sono andati in maggio però lasciando una scia profumata come una rosa di quello che è stato lo spirito della loro della loro vita di solito si dice e vengono protetti da organismi internazionali penso all'UNESCO a a a quelle organizzazioni internazionali che tutelano il patrimonio si dice patrimonio dell'umanità ebbene io credo che con il suo vissuto con la sua storia con la sua testimonianza con la sua lotta perché non è solo testimonianza Enzo Tortora costituisca un patrimonio dell'umanità come Marco costituisce anche lui un patrimonio dell'umanità perché lo dico perché noi e questo è il ricordo che io voglio fare di Enzo viviamo nelle carceri le attraversiamo le frequentiamo le visitiamo io ero in carceri quando Enzo è venuto a trovarmi è venuto a trovarmi ma quanti detenuti noi ancora oggi per questo dico patrimonio dell'umanità patrimonio di un'umanità dimenticata di un'umanità dolente quella della comunità penitenziaria continuiamo a incontrare detenuti che ricordano e dicono qui è venuto Marco Pannella è venuto a trovarci Enzo Tortora l'uno perché ha convissuto con l'amore della sua vita che era la comunità penitenziaria Marco l'altro perché è stato appunto il punto di riferimento di chi ha sete ha fame di giustizia Enzo Tortora sono due monumenti Enzo Tortora è un monumento alla giustizia giusta poi ci sono quelli che a me è accaduto come Enzo Tortora no non è così invocano Enzo Tortora in realtà non per fare una similitudine un paragone una identificazione si identificano in una istanza in una visione di una giustizia giusta in questo sia Marco che Enzo continuano a vivere e continuano a essere speranza al di là di ogni speranza nelle carceri per i detenuti ecco andrebbero entrambi considerati io dico ufficialmente dichiarati patrimonio dell'umanità la storia di Enzo per la giustizia giusta la storia di Marco per i diritti umani e civili per una giustizia giusta e per un carcere umano il carcere è l'appendice di una giustizia ci può essere addirittura la doppia ingiustizia di una carcerazione da innocente ma anche non fosse tale da innocente il carcere di per sé è di per sé ingiusto cosa bisogna fare in questi giorni come ricordare Marco come appunto onorare questi due monumenti patrimonio dell'umanità c'è una scadenza il 12 giugno bisogna celebrarla nel ricordo nella visione nella testimonianza nella lotta sia di Marco Pannella che di Enzo Tortola facendo una cosa molto semplice al di là dei quesiti nel merito ce ne sono alcuni che sono già riforme dei quesiti ma già il solo fatto di andare a votare per i cinque referendum sulla giustizia cinque sì significa ricordare davvero non in maniera rituale persone che io considero i punti di riferimento della mia vita i punti di riferimento lo sono nella vita di coloro i quali sono vittime e della ingiustizia oppure della giustizia di un carcere che per il solo fatto di essere così com'è è di per sé ingiusto quindi viva Marco Pannella domani lo ricorderemo al Re Bibbia a cui abbiamo dedicato il laboratorio Spessi Contra Spen per ricordarlo oggi ricordiamo Enzo Tortro ma ricordiamoci sia di Marco che di Enzo il 12 giugno grazie a Sergio Delia per questa sua testimonianza di vita vissuta adesso darei la parola a Enrico Morbelli che è il direttore di scuola di giornalismo una scuola di liberalismo chiedo scusa una scuola che davvero dovrebbe essere molto ma molto frequentata buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti io sono Enrico Morbelli prima ero un giornalista del giornale radio e quindi mi sono di fatti presentato dicendo io parlerò per 1.15 e in verità adesso si è sfollata la gente che era in fila qui per arrivare al microfono datti da fare sono passato avanti a qualcuno perché come vedete chi mi sta guadendo ho un bozzo perché ho l'older il cardiologo ha detto vai a Montecitorio e arrabbiati vediamo che effetto sta con l'older ma non credo che parlare di Enzo Tortora per me invece è una passeggiata è un piacere ed è soprattutto una cosa sentimentalmente molto molto leggera pensate che io l'ho conosciuto nel 1954 io avevo i calzoni corti lui già aveva 25-26 anni e presentava il festival della canzone francese a Lido di Albaro a Genova una cosa organizzata da mio padre che era un uomo di spettacolo Riccardo Morbelli ma c'era l'orchestra di Nello Segurini c'era Pugliese che era il capo della televisione peccato che di quella di quella cosa che era andata in diretta e allora la diretta non veniva registrata quindi nelle teche della RAI non c'è l'apparizione di Enzo Tortora come presentatore accanto anche a Maurice Chevalier di quella prima prima manifestazione allora andavano di gran moda c'era stata l'esplosione dopo il festival di Sanremo ne erano nati di tutti i colori pensate c'era pure il festival di Velletri quindi fu un'ondata e che è scemata ma io poi l'ho sempre frequentato Enzo Tortora e proprio a Sanremo abbiamo lavorato assieme era il 1970 era l'anno non so se qualcuno se lo ricorda ancora chi non lavora non fa l'amore ecco era la canzone di Cerentano quello è l'anno in cui ho fatto il mio primo festival per Enzo era mi pare il secondo o il terzo e ci siamo rivisti a cadenza regolare per molti anni ancora al punto che poi dopo ho lavorato con lui a un'iniziativa apro una parentesi Enzo Tortora era un partoriante un partoriante tutti i giorni se ne inventava una una delle cose che si inventò era un inserto dentro gli albi dell'intrepido i famosi fumetti ed era un inserto dedicato allo spettacolo e ci ho lavorato per alcuni anni quindi abbiamo lavorato anche assieme ed è stato al termine di quell'esperienza ma per me invece per quanto riguarda per quanto riguarda la politica fu l'inizio perché nel 1988 che è l'anno in cui lui morì proprio quell'anno qualche mese prima ma si chiamò Scuola 88 di liberalismo nacque la Scuola di liberalismo per l'appunto che inventai assieme ad altri personaggi ormai scomparsi ma che dura ancora e che quest'anno è arrivato alla 118esima edizione la faremo la premiazione verrà proprio qua dietro in confedilizia il 3 di giugno bene questo per dire che quella prima edizione della Scuola di liberalismo per quanto riguardava la giustizia la lezione la tenne biondi Alfredo biondi ma avevamo nell'elenco ancora c'è l'altra le varie persone che avrebbero dovuto parlare di giustizia c'era Enzo Tortora e devo a distanza di tanti e tanti anni tributargli un peana ma soprattutto ricordare un personaggio che ha lasciato una traccia di sé indelebile soprattutto in casa liberale perché in casa liberale c'è prima del caso Tortora e dopo il caso Tortora prima del caso Tortora in casa liberale non si poteva mettere in dubbio una sentenza non si poteva parlare non dico male ma non si poteva criticare l'operato della magistratura non si poteva in quel campo dire nulla perché era uno dei santinummi che secondo la ripartizione dei poteri in casa liberale doveva essere un potere intoccabile poi c'è stato il caso Tortora dopo il caso Tortora per l'appunto anche in casa liberale si è cominciato a dubitare di alcune situazioni e continua oggi non dico che i liberali siano totalmente avversi ma lo vedo anche da alcuni amici che oggi che non c'è più un partito liberale marchiato ma non so parliamo di Enrico Costa è uno di quelli che si sta dando più da fare per la riforma della giustizia quindi ben vengano tanti liberali che si diano da fare per questa cosa ma soprattutto nel prima e nel dopo del caso Tortora c'è da dire avendo io citato il festival della canzone quello francese quello italiano telematch e tante altre cose appunto anche per via del mondo che ho frequentato per tanti anni una considerazione nel mondo dello spettacolo non c'è uno che abbia mai parlato male di Enzo Tortora io non ho trovato quelli che ebbe va bene ma a me la mattina non vengono a bussare i carabinieri nel mondo dello spettacolo no me ne sono venute in mente tante ricordo una perché perché è molto mi ha colpito pure a me una volta un complesso si trovava a Catania il batterista stette male dovettero partire tutti perché gli alberghi scadevano i biglietti eccetera rimase Enzero finché il batterista non guarì lui rimase me lo ha ricordato anni fa in occasione di una delle tante polemiche su Enzo Tortora un impresario Pino Ducimei dice uno che non torna a casa rimane lì finché il batterista non guarisce ma non può essere uno spacciatore di morte e la cosa non era in quei termini ma mi ricordo ancora una volta che ero stato male ma insomma una stupidaggine mi ha inseguito stavo a Udine per fare uno spettacolo per le forze armate assieme a Cesare Perleone ancora me lo ricordo era subito dopo il terremoto beh lui mi chiamava per dire ma è vero che sei stato male curati guarda ma per carità cioè uno che era preso sempre dal desiderio di fare del bene di fronte a delle situazioni di questo genere ma come si fa poi a pensare l'esatto contrario che Enzo fosse uno spacciatore di morte nel nostro ambiente non ci credeva nessuno e non ci ha mai creduto nessuno ecco quello che dico invece nella mia casa politica in casa liberale c'è voluto il caso Tortola perché questo mogol della giustizia con la G maiuscola che non poteva essere mai messa in discussione doveva essere buona per forza beh è venuto meno quindi da uomo mezzo di spettacolo sono felice di averlo conosciuto e di averci lavorato molto assieme da vecchio liberale perché ormai abbiamo tutti un po' di età ebbene da questo punto di vista evviva Enzo Tortora che ha aperto gli occhi anche ai liberali dei quali lui era partecipe era consigliere nazionale del partito liberale mi ricordo le chiacchierate per parlare di spettacolo Bruno Laussi Enzo Tortora ed io durante i consigli nazionali ma poi proprio prima dell'arresto che avvenne prima delle elezioni del 1973 c'era stata una serie fatta per la Quarta Rete ed era una cosa registrata al Teatro Eliseo avevano messo sul palco un trono e lì passavano tutti i segretari di partito ebbene a fargli le due domande c'erano Enzo Tortora e Pippo Baudo e dopo la registrazione dell'ora dedicata al partito liberale passiamo un'altra ora nel camerino di Enzo Tortora a parlare con Pippo Baudo e Valerio Zanone a parlare di politica questa era una sua passione e la passione di molti di noi ed ringraziamo ancora Enzo Tortora per averci aperto gli occhi grazie Federico Vianelli è un avvocato di Treviso è presidente della Camera Penale di Treviso e a luglio l'anno scorso mi chiamò per invitarmi a un convegno e il titolo era dal caso Tortora al sistema Palamara e io gli dissi ma mi dici cosa c'entrano questi due elementi dopodiché ho letto il libro di Palamara e ho capito il sistema di Palamara era il sistema che era stato applicato nel caso di Enzo Tortora in quella vergognosa pagina di giustizia napoletana grazie Federico Vianelli grazie grazie Francesca Francesca Scoppelliti grazie dell'invito che è davvero molto gradito sono onorato di essere qui davanti a Montecitorio ricordare Enzo Tortora Enzo Tortora quando ero piccolo come dire me lo ricordavo come un maestro di raffinata televisione e poi poco più grande l'ho visto spazzato via e poi morto ormai nel mai così vicino ma lontano 1988 a seguito di quella nefasta inchiesta giudiziaria che l'ha ridotto consentitemi la parola forte a un cencio mi ricordo tra l'altro le foto scandalistiche e l'agonia mediatica un uomo rovinato da un'inchiesta giudiziaria e allora a più di 30 anni dalla morte di Enzo di Enzo Tortora mi chiedo mi chiedo se giustizia è davvero stata fatta perché è vero Enzo Tortora ha avuto la possibilità di avere un appello un appello che ha riformato una sentenza ingiusta e che l'ha assolto e per fortuna Enzo ha potuto prima di morire vedere si fa per dire un lieto fine di quella triste pagina che lo ha riguardato dal punto di vista giudiziario però come usava a dire lui non ci sono soltanto gli Enzo Tortora le persone famose ci sono migliaia di persone ingiustamente condannate ingiustamente detenute e che soffrono nelle nostre patrie galere e chiamiamola con il nome proprio Galera perché di Galera si tratta a volte una Galera in cui lo stesso Enzo Tortora ha sottolineato il tratto di umanità nel senso che gli altri coinquilini coatti delle galere davano un senso di umanità e gli stessi operatori penitenziari lo davano e spesso lo danno non sempre ma lo danno il punto è che è un sistema totalmente da rifare da riformare e oggi siamo qui a ricordare Enzo Tortora ma siamo qui a ricordare Enzo Tortora facendoci innanzitutto una domanda lui avrebbe detto dove eravamo rimasti dove siamo rimasti dove siamo arrivati e dove dobbiamo andare abbiamo una grande possibilità il 12 giugno il 12 giugno siamo chiamati a esprimere il nostro voto sui referendum sulla giustizia e dobbiamo andare noi siamo io sono per il sì e sono un forte sostenitore del sì perché potrà dare ma già la fluenza lo potrà dare ma soprattutto il sì deciso compatto della popolazione del popolo italiano potrà dare uno scossone al sistema un sistema che è sfasciato è un sistema sfasciato dove un ministro autorevole con l'autorevolezza che deriva da aver ben condotto non dal fatto in sé di essere stata presidente della Corte Costituzionale ma dal fatto di avere retto con equilibrio la Corte Costituzionale mi riferisco alla Ministra Cartabia sta cercando ha cercato con passi che sono forti ma diventano timidi nel momento in cui la politica tutta non riesce a raccogliere il proprio spirito riformatore o meglio lo spirito riformatore del Ministro della Giustizia viene in qualche modo tappato guardato fermato da una giustizia consentitemi da una politica consentitemi di dire refrattaria perché poco coraggiosa dobbiamo avere il coraggio delle nostre azioni e quindi quale migliore occasione per noi cittadini di esprimere con forza il nostro sentimento è inutile che ci giriamo intorno l'altro giorno i magistrati non tutti i magistrati è stato un flop il cosiddetto sciopero dei magistrati ma una parte della magistratura soprattutto quella associata ha tentato di battere i piedi o i pugni sulla tavola rivendicando il proprio ruolo questo è scandaloso è uno sciopero peraltro che autorevoli giuristi autorevoli personalità cito uno per tutti Carlo Nordio ha definito pubblicamente come uno sciopero illegittimo perché non si rivendica in questo caso un qualcosa di sindacale ci può stare si va a contrastare una riforma si va a contrastare il legislatore cioè proprio coloro che debbono applicare la legge lo vanno a contrastare è un paradosso un ossimoro è un cortocircuito di sistema ma allora qual è il rimedio? il rimedio innanzitutto è andare a votare il referendum il rimedio è quello di arrivare alla tanto sospirata separazione delle carriere a una riforma di sistema che una volta per tutte attui applichi rende effettivo l'articolo 111 della Costituzione io senza voler essere autoreferenziale come quei magistrati che io stesso critico posso ricordare che di qui a qualche giorno cioè il 20 di maggio a Treviso si svolgerà un importante convegno un appuntamento per tutti voi per chi vorrà partecipare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario è tempo di riforma questo ci insegnerebbe e ci ammonisce dall'alto e ci dice di fare e ci insegna Enzo Tortora è tempo di riforma per evitare che un altro caso Tortora e altri casi Tortora si ripetano e che questa ignominia di sistema continui a verificarsi non mi soffermerò sugli altri scempi del sistema sulle carceri sul 41 bis sull'ergastolo stativo beh qui consentitemi una parola timida alla Corte Costituzionale c'era un Presidente prima io scherzavo spesso con tutto il rispetto il Presidente Coraggio che forse un po' di coraggio ha dimostrato questo Presidente potrei dire bene amato il Presidente Amato mi pare dalla sua intervista che non abbia dimostrato particolare coraggio invece il coraggio ci deve essere il coraggio ci deve essere e la Corte Costituzionale è chiamata laddove il Parlamento non interviene ad intervenire basta con questa finzione di sistema basta con la pena di morte nascosta basta con la tortura legalizzata del 41 bis finiamola giungiamo ad un sistema davvero liberale un manifesto liberale un processo liberale un diritto penale giusto minimo come vuole la Costituzione ma come vogliono anche le convenzioni internazionali come vogliono le Camere Penali da sempre penso al nostro manifesto su un diritto penale liberale e quindi forza armiamoci tutti non con le armi ma con la buona volontà e con i nostri voti e andiamo a votare tutti insieme il 12 giugno per dimostrare a tutti che vogliamo una riforma e che non ci piace quello che sta accadendo ormai da troppo tempo e ne siamo stanchi democraticamente legittimamente esprimiamoci grazie ancora a tutti e davvero grazie ancora Francesca Francesca Scopelliti per avermi reso questo grande onore e piacere di essere qui oggi grazie grazie a te Federico ormai facciamo parte davvero di una grande famiglia e per me parlando di famiglia è una sorella Rita Bernardini la storica radicale Rita Bernardini in un'intervista ha detto che lei si sente la mamma di tutti i detenuti e credo che non ci sia persona in Italia più come dire preparata sulla materia carceraria più consapevole di quelli che sono le torture e gli scempi che si consumano all'interno delle carceri italiane è l'unica davvero che può parlarne con piena consapevolezza a Rita testimone anche della vicenda di Enzo Torto grazie Francesca ma intanto voglio fare il punto della situazione di questa maratona oratoria perché dobbiamo spiegare li saluto tutti agli ascoltatori di Radio Leopolda e a quelli di Radio Radicale che questa è proprio una maratona oratoria stile radicale ne abbiamo fatta una di tre mesi a poca distanza da qui era il 1997 e la situazione era analoga nel senso che chi parla qui in realtà parla alla radio perché sulla piazza a parte che qui c'è un sole incredibile c'è un rumore infernale da parte di quel generatore elettronico perché se no la nostra voce non potrebbe essere trasmessa chi viene naturalmente siccome ci si incontra magari dopo tanto tempo si mette a parlare ci sono i saluti per cui l'ascolto è solamente il vostro cioè di ascoltatori che state seguendo Radio Leopolda o Radio Radicale la giornata oggi è veramente straordinaria pensate ricorre l'anniversario della morte di Enzo Tortora 18 maggio e domani ricorre l'anniversario della morte di Marco Pannella due personalità di queste che hanno dato veramente tanto e ancora con le loro storie con le storie della loro vita continuano a darci poiché confido che ci siano ascoltatori anche molto giovani che Enzo Tortora non l'hanno conosciuto magari anche qualcuno che non ha conosciuto Marco Pannella voglio parlarvi attraverso quello che scrisse Enzo Tortora nel momento in cui stava agli arresti domiciliari e nel momento in cui si parlava di referendum sulla responsabilità civile dei magistrati sono sue parole che ho tratto dall'archivio radicale e che fu pubblicato su notizie radicali il 24 maggio del 1988 quindi quando lui già non c'era più scrive Enzo Tortora ero in carcere dalla televisione trasmettevano una esemplare forma di inchiesta dedicata ai magistrati a sollecitarli era Enzo Biagi un grandissimo giornalista che da uno studio poneva loro questa semplice domanda e se un giorno malauguratamente dovesse toccare a voi da quale giudice preferireste essere giudicati e che cosa rispondevano i magistrati all'unisono scrive Enzo Tortora i nostri magistrati tricolori risposero da un giudice inglese da un giudice inglese il disgusto il senso di nausea che provavo e che provo tuttora allora in cella e oggi dopo tre anni agli arresti domiciliari stava toccando vertici incontenibili infatti non li contenne loro signori i magistrati scelgono dunque o sceglierebbero quando si tratta della loro pelle della loro libertà della loro dignità i magistrati inglesi la giustizia inglese a noi invece alla gente a quella gente che possono permettersi di squartare perché intanto non pagano mai dazio lasciano invece il trattamento di famiglia i nostri valorosi magistrati quelli che oggi inveiscono contro il referendum vedete l'attualità sono del resto del tutto simili a certi nostri ministri della sanità che quando si tratta di operazioni che riguardano loro o i loro familiari se ne vanno sì in clinica ma all'estero e prosegue Enzo Tortora la vergogna il caos lo sfascio la disorganizzazione e la corruttela delle saub adesso si chiamano asle usle ma il senso è sempre lo stesso quelli lasciano invece regolarmente agli elettori alla gente al popolo ai cittadini i nostri magistrati anzi le loro magistocrazie le loro emergenze dovessero proprio scegliere sceglierebbero dunque di presentarsi davanti ad un bel giudice in parruppa di quelli col martelletto in mano di quelli che siedono in una confortevole civile corte foderata in legno d'acero giudice ai quali si può dire vostro onore mi oppongo e che ammoniscano praticamente e che amministrano praticamente una giustizia degna di questo nome i giudici inglesi a noi invece lasciano senza rimpianti anzi guai a toccargliele le vergognose procedure di questo paese infame lasciano le torture e i tormenti di un impianto penale che ci squalifica oramai davanti agli stessi turchi o agli iraniani le dolci carcerazioni preventive combinate in nome del nulla o quando va bene in nome di un pentito accettato come se fosse il Vangelo cioè senza l'ombra di una prova un pentito che il più cretino dei cancellieri della Gran Bretagna avrebbe valutato in cinque minuti per quello che è un volgare calunniatore a caccia di sconti di privilegi o di baratti e favori i pentiti quelli che hanno accusato Enzo Tortora questa è una mia parentesi le loro emergenze dunque per se stesse voterebbero all England quanto a noi comuni mortali godiamoci pure Napoli le sue belle gabbie zoologiche gremite di scimmie umane e quei dibattimenti bizantini intrisi di disgustoso sguagliato vernacolo dove il pubblico ministero come nel caso del dottor Marmo quello che fu poi promosso al CSM con stile degno di Mario Merola esibisce protendendo il petto le sue vistose bretelle rosse sotto la maestà della toga ma direi che fra le ragioni non dette contro i referendum questa anche se sommersa è la più indecente i magistrati italiani non si fidano proprio naturalmente dei loro stessi colleghi mi viene in mente Orazio quando dice dei due sacerdoti che si incontrano dovrebbero onestamente mettersi a ridere a vicenda solo pensando alla faccia di coloro che in buona fede nei loro riti e che hanno fede nei loro riti lastiosa direi canina avversione che certi sceti della magistratura quella peggio intossicata dalla politica emergenzialista cioè stiamo parlando di oggi il caso Palamara non dimentichiamolo quella dei teoremi delle campagne delle maxi giustizie hanno impudicamente esibito contro di noi e di per se stessa invece la garanzia che abbiamo toccato il cuore il centro del problema il centro vero e come sono rivelatrici le loro repliche saremmo costretti piangono a fare un'assicurazione gemono in coro i magistrati sì perché si parlava del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati cioè del chi sbaglia paga ma magari scrive Tortora magari i magistrati italiani fossero costretti una buona volta come gli automobilisti ad assicurarsi per danni provocati ad altri ma ve lo immaginate il magistrato che arresta 200 200 omonimi è quello che è accaduto a Napoli davanti all'assicurazione oppure se il referendum passa gemono querule le toghe saremmo costretti ad essere eccessivamente prudenti ma tanto meglio dice Tortora tra un guidatore di tir abituato e male abituato a correre alla velocità che vuole disprezzando codici di vieti di velocità mettendo sotto chi gli pare perché nessuno intanto gli chiederà mai la patente e un camionista che una regolina ogni tanto se la dà io penso sia infinitamente preferibile il secondo e quando riusciremo ad avere una speciale tabella professionale dei magistrati quando riusciremo a vedere gli svarioni i danni le coglionerie professionali di questi di questi intoccabili riescono questi intoccabili in carriere rese assurdamente inarrestabili che accumulano sulla pelle del prossimo non le vedremo mai senza questo referendum basterebbe questo a giustificarne la necessità vedete in questo discorso di Enzo Tortora scritto dagli arresti domiciliari poi verrà riconosciuto completamente non innocente ma come diceva Enzo Tortora estraneo in questo c'è tutta la campagna di oggi meno una cosa la corte costituzionale che Marco Pannella definiva la suprema cupola della mafiosità partitocratica ci ha tolto il referendum sulla giustizia più popolare quello sulla responsabilità civile dei magistrati ce ne ha lasciati altri cinque ma questi cinque referendum questi cinque sì che vi chiediamo di dare il 12 giugno sono un esempio sono un simbolo di una giustizia che la pavida classe politica italiana non è riuscita a riformare in 30 anni le parole sono tante ora voi cittadini penso proprio a quelli che magari sono al primo voto hanno una scheda hanno una scheda referendaria possono incidere sulle leggi e a chi ci dice ma i referendum sulla giustizia sono troppo complicati guardate che ad essere complicate ad essere scritte con i piedi ad essere una porcheria sono le leggi di questo paese e quindi di conseguenza i referendum abrogativi non possono essere che fatti sulla base delle leggi porcheria che ci sono nel nostro paese quindi cinque esempi per una giustizia giusta per onorare veramente il nome di Enzo Tortora nel migliore dei modi grazie ecco adesso facciamo come interventi una pausa da quello che è il mondo politico radicale e do con molta gioia la parola a Carlo Freccero ringraziandolo perché è venuto direttamente da Savona qui a ricordare Enzo io sono molto affezionata a Carlo Freccero perché quando Enzo era agli arresti domiciliari tutte le mattine lui insieme a Paolo Martini arrivavano a casa in via dei piatti 8 offrendo a Enzo Tortora davvero due ore d'aria che erano quelle che gli mancavano perché lui diceva sempre in carcere almeno c'hai l'ora d'aria in casa no lui aveva due ore d'aria tutti i giorni grazie a Paolo Martini e a Carlo Freccero grazie Carlo allora faccio questo intervento con molta amore e con molta passione sono qui oggi per testimoniare la mia gratitudine e la mia nostalgia nei confronti di un uomo che è stato per me un maestro e un amico ho conosciuto Enzo direttamente come collega nella rete 4 di Mondadori ma da tempo lo stimavo e lo giudicavo maestro era più grande di me apparteneva a quella generazione che creò la RAI io ho iniziato la mia carriera nella tv commerciale che in qualche modo ho collaborato a costruire ed ogni volta che ho dovuto citare un precedente un modello un'icona di cui la televisione commerciale rappresenta il naturale sviluppo ho sempre fatto riferimento al Portobello di Tortora Portobello nasce in RAI dopo una lunga serie di successi da parte di Tortora ne cito alcuni Tele Match Campanile Sera la Domenica Sportiva ma si distingue da tutti i precedenti perché è la metafora di quella rivoluzione copernicana che porterà alla televisione commerciale il pubblico a farsi autore della sua televisione nel processo che ECO chiama neotelevisione non so se Enzo avesse teorizzato tutto questo ma sicuramente lo intuì per la sua sensibilità televisiva ho letto la testimonianza della sua assistente Gigliola Barbieri sulla nascita di Portobello Tortora fece tutto da solo leggendo le inserzioni sui giornali entrò in contatto con una umanità fuori dagli schemi che attenzione compravendeva le cose più assurde dai cocrodilli impagliati ai servizi più strampalati lui che era una persona per bene e regolare tra virgolette intuì che era giunto un momento di dare la parola a questa moltitudine eterogenea e borderline e questo gli sarà fatale ma nessuno poteva prevederlo lui regionava in termini televisivi ed anticipò con Portobello il passaggio dalla televisione generalista da tv pedagogica a voce della maggioranza silenziosa Portobello è del 97 la televisione commerciale si afferma nell'80 e in qualche modo Tortore è stato il simbolo degli anni 80 con la sua televisione ha interpretato il passaggio dal capitale culturale alla maggioranza dalla qualità alla quantità nello stesso modo con la sua odissea giudiziaria è diventato la personificazione di una mala giustizia che era figlia di un processo analogo il passaggio dalla qualità alla quantità una giustificazione dove il fare prevalere sul capire dove l'immagine di efficienza contava di più della verità una giustizia in chiave quantitativa anziché qualitativa una giustizia sensazionale il suo arresto fu dirompente per l'opinione pubblica perché era l'apice del successo tutta l'attenzione dei media mainstream si concentrò su di lui ma il suo arresto faceva parte di una retata di 856 imputati che in breve tempo si ridussero di un numero man mano che venivano identificate identità circostanze e coinvolgimenti reali alla fine i condannati furono 120 oggi parliamo di Tortora perché era il più visibile e il più improbabile degli accusati ma si trattò di un'operazione di massa anzi ricordo qui una cosa molto importante che Rodotà intervenne per dire che era solidale con Tortora ma bisognava essere garantisti con tutti è una parentesi molto importante perché ci furono poche persone che abbracciarono totalmente Tortora io credo che questa operazione di grande portata contro la Camorra nascesse da un intento propagandistico per ridare al governo la sua virginità dopo che nel caso Cirillo la democrazia cristiana era scesa a patti con la Camorra per salvarlo l'operazione significava non c'è alcuna connessione o connivenza tra politica magistratura Camorra dato che con questa inchiesta la Camorra verrà nientata cosa molto importante dietro c'era Rognoni lo ricordo per chi non lo sapesse a riprova di quello che dico abbiamo la carriera successiva dei giudici che condannarono Tortora attenzione nessuno subì sanzioni ma al contrario ricevettero promozioni e successi le indagini furono approssimative affrettate prive di riscontri oggettivi e basate quasi integralmente sulla testemunianza dei pentiti la legge sui pentiti era stata introdotta in Italia nell'82 da Cossiga per combattere il terrorismo non premiava e non premia il pentimento reale ma la delazione mi sembra profondamente immorale ma ha una funzione pratica rientra nella rivoluzione culturale degli anni 80 come la televisione commerciale era espressione di una mentalità americana basata più sul pragmatismo che sul diritto più sulla quantità che sulla qualità per la giustizia americana così come la conosciamo dalla serie poliziesca non conta tanto l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato quanto la velocità di assicurare i colpevoli alla giustizia poco importa se tutto ciò può originare errori giudiziari non è il caso singolo ma l'efficienza globale del sistema a contare eravamo abituati a salvaguardare prima di tutto il diritto alla difesa dell'imputato in dubbio pro reo prevale in questa versione quantitativa la produttività e il diritto delle vittime a vedersi vendicate abbiamo introiettato così tutto questo modello da avere chiaramente le nostre come posso dire dimenticato le nostre radici giuridiche tutto ciò ha finito per inclinare l'idea di giustizia ma allora un uso così disinvolto della giustizia era ancora sorprendente non a caso anche se era evidente l'innocenza di Tortora lo ripeto era evidente l'innocenza di Tortora molti opinionisti come Camilla Cederna ritennero che non si sarebbe stato un arresto così clamoroso senza una sufficiente motivazione e lo pensava anche Tortora quando Paolo Martini giornalista mio amico e suo amico li telefonò per metto l'inguardia contro l'arresto di cui aveva avuto notizia scoppiò in una grande sonora risata lo riteneva impossibile ricordo che Enzo era laureato in legge e nella legge credeva fermamente era stato un sostenitore della colpevolezza di Valpreda a Piazza Fontana sulla base della sua imputazione per questo si scusò il seguito quando fu a sua volta vittima della giustizia è un incontro che fece di mattina parlando di Valpreda e nel caso Tortora la legge sui pentiti si rivelò in tutta la sua aberrazione lo dico con forza lo ripeto la legge sui pentiti si rivelò con tutta la sua aberrazione ed anche con un risvolto amaro di comicità se non si fosse purtroppo trasformata in tragedia quando furono chiarite le ragioni dell'equivoco che travolse la vita di Enzo la terribile realtà si trasformò in farsa Tortora fu coinvolto perché un carcerato inviò a Portobello dei centrini da vendere il carcerato era analfabeta e dovette richiedere al compagno di stanza Giovanni Pandico o Pandico lasciamo perdere di scrivere per lui alla trasmissione questo Pandico era uno psicopatico era uno psicopatico con delirio di vendetta aveva ucciso due impiegati perché non gli avevano rilasciato un certificato si immedisimò così tanto nel suo ruolo di intermediario per il compagno di stanza che la sua storia divenne la sua storia i centrini furono smarriti e lo psicopatico concepì un delirio di vendetta Pandico era una sorta di assistente di cutolo e la sua presunta contiguità col capo della camorra indusse altri a testimoniare contro Tortora questo è un fatto che poco ricordano ma fu un fatto importante che il fatto di essere assistente di cutolo e di essere contiguo in qualche modo col capo della camorra indusse altri a testimoniare non c'erano prove ma la testimonianza di camorristi contro un uomo per bene fu data e fu data attenzione e credibilità ai camorristi e no all'uomo per bene fu molto attivo nel solicitarlo durante la sua detenzione ai domiciliari qui ricordo dei fatti molto importanti che nessuno ricorda feci su Rette 4 lui agli arresti domiciliari tre puntate prodotte da Carlo Gregoretti chiamati D Giù G come giustizia sui casi di mala giustizia condotte proprio da Enzo stesso agli arresti domiciliari e mandai in onda una sua lezione improvvisata di educazione civica ad una classe scolastica venuta con me a trovarlo in via dei piatti 8 e fui convocato da Di Maggio naturalmente al palazzaccio di giustizia proprio per questo motivo aveva diritto a prendere la parola Tortora visto che a parlare erano i peggiori come ho sempre ripetuto lui non era innocente era estraneo era estraneo era estraneo e la sua storia aveva un significato che travalicava il suo caso personale e la sua biografia fu in qualche modo come posso dire un eroe e la cosa interessante che ho riflettuto spesso sulle strane vicende della vita di Tortora difficilmente uno sceneggiatore metterebbe insieme una storia così assurda e di fatto c'era solo un precedente l'arresto di Tognazzi come capo delle brigate rosse solo che si trattava di un paradosso della rivista satellica il male nonostante tutto Enzo è riuscito a dare alla sua storia un significato di crescita e maturazione ha scritto ero liberale per studio sono radicale per comprensione sono radicale per comprensione è diventato il simbolo della lotta contro la mala giustizia si è trasformato da uomo di successo in un eroe e le sue disavventure sono state l'inizio di una nuova vita concentrata non sul successo mediatico ma sulla lotta per la giustizia non si è mai arreso e ha fatto del suo caso privato una battaglia di civiltà grazie mille viva Tortora un ricordo grazie grazie un ricordo meraviglioso di Enzo adesso do la parola a Benedetto della Vedova radicale storico attuale sottosegretario agli esteri grazie grazie Francesca ma io sono particolarmente grato a Francesca per questo invito per una per una ragione prima di tutte le altre perché come tanti radicali radiofonici io in quella stagione ero un radicale radiofonico un pezzo vero importante fondamentale della mia formazione politica è stata proprio la vicenda di Enzo Tortora all'incontro con i radicali con Marco Vannella e la sua spinta alla stagione della lotta per la giustizia giusta che poi portò al referendum sulla responsabilità civile dei magistrati e credo che come me tantissimi italiani che seguirono quella vicenda ripeto in particolare da Radio Radicale tantissimi italiani scoprirono l'essenza dello Stato di diritto della separazione dei poteri proprio in quella vicenda e scoprirono anche una grande passione civile e poi politica e capacità politica quella di Enzo Tortora io non non potrò dimenticare l'annuncio delle dimissioni di Enzo Tortora dal Parlamento europeo Parlamento europeo che non gli concedeva aveva concesso l'autorizzazione a procedere ma non concedeva l'autorizzazione all'arresto e Enzo Tortora già parlamentare europeo era stato destinatario di un mandato d'arresto e il ricordo della cronaca di Radio Radicale di Enzo Tortora che arriva se non ricordo male a chiasso al confine a quel confine tra la Svizzera e l'Italia e poi la sua passione civile e politica che si fondevano la sua capacità di raccontare come lui che era un radicale un liberale un intellettuale liberale di fatto lui a un certo punto disse ma lo trovate anche sulla pagina di Wikipedia lui disse io sono liberale perché ho studiato radicale perché ho capito e tutta quella pagina proprio così densa di intrisa di politica e di giustizia e di quanto la giustizia fosse uno dei pilastri di qualsiasi dimensione politica istituzionale liberale quindi Enzo Tortora in questo incontro tra diversi ma esplosivo politicamente e civilmente l'incontro tra diversi con Marco Pannella è stato un maestro di politica liberale è stato un maestro di garantismo non perché fosse un accademico ma perché ha dimostrato con la capacità di interpretare la sua vicenda e trasformarla in una vicenda in una vicenda politica è stato un maestro e mi ricordo che allora le critiche erano no ma voi vi occupate di Enzo Tortora e non vi occupate di tutti gli altri che non sono noti che non sono personaggi televisivi e la risposta potente perché è stata una risposta potente era noi lui Enzo Tortora è il testimone potente di una vicenda che riguarda tantissimi il referendum sulla responsabilità civile dei giudici era esattamente volto a ristorare a dare una possibilità di ristoro a tutti quelli che non erano Enzo Tortora cioè che non erano personalità di cui arresto il cui processo potesse fare scandalo ma ugualmente finivano vittime di errori giudiziari più o meno clamorosi ma certamente pesanti per coloro che incappavano in essi e quindi concludendo questo mio intervento che sarà molto breve oggi noi abbiamo riproposto i temi che noi insieme a Pannella riproponemmo negli anni 90 più volte i temi della riforma della giustizia e la necessità di arrivare a delle riforme attraverso i referendum purtroppo questi referendum che vanno al voto il 12 giugno sono stati abilmente inabissati in termini di informazione in termini di discussione pubblica in termini di discussione politica ieri c'è stato un piccolo cenno di attenzione ai referendum solo perché Enrico Letta ha detto che il PD voterà no ai referendum tranne naturalmente la libertà di opinione di ciascuno io voglio dire e ci mancherebbe altro certo il PD di Letta sta avendo una posizione molto positiva netta responsabile sul sostegno al governo per quel che riguarda la crisi ucraina magari qualcuno si aspettava anche un passo nella direzione della totale autonomia dalla magistratura fosse anche come reazione allo sciopero che è fallito ma che comunque è stato indetto dell'altro giorno contro le riforme per via parlamentare i magistrati applicano le leggi e devono applicarle bene non possono essere anche coloro che pretendono di determinare le leggi che poi loro dovranno applicare sia quelle del diritto penale sia quelle relative all'ordinamento della magistratura quindi nel nome di Enzo Tortora e pensando a tutto quello che quella stagione ci insegnò e quella stagione fu una stagione dal punto di vista civile molto forte importante per l'Italia poi travolta da tante cose dal giustizialismo che portò al populismo il ricordo di quella stagione e degli insegnamenti che tanti di noi certamente io hanno avuto in quella stagione oggi quindi per quel che riguarda la scelta che più Europa ha fatto noi abbiamo detto fin dall'inizio fin dalla 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 decisione della consulta mentre cercavamo di spingere perché arrivasse il via libera della consulta a questi referendum abbiamo detto fin dall'inizio questi referendum sono stati proposti dal partito radicale poi sono stati fatti propri dalla Lega di Salvini noi li appoggiamo perché sono i referendum Tortora Pannella e noi andremo a votare chiediamo di andare a votare il 12 di giugno a votare 5 sì sulla giustizia nel nome di Tortora grazie grazie a Benedetto adesso abbiamo una voce un giornalista il giornalista della libertà nel mio intervento parlavo di un'epoca che può definirsi giornalisticamente il travalgismo ecco abbiamo la voce contro è quella di Piero Sansonetti l'unico o uno dei pochi garantisti che c'è nella stampa di oggi in Italia a te Piero grazie grazie vedete quello che mi colpì anche all'epoca nella vicenda di Enzo Tortora è quello che mi colpisce anche oggi e cioè l'assenza della politica fu un fatto clamoroso fu arrestato un personaggio molto importante fu arrestato un giornalista noto famoso conosciuto da tutti sulla base dopo 48 ore si era capito di nulla di nulla di nulla sulla base di quello che soprattutto in quell'epoca ma poi anche negli anni successivi è stata la piaga del pentitismo non perché è una piaga pentirsi ma perché è una piaga usare il pentitismo come un'arma impropria come ha fatto gran parte della magistratura il processo Tortora nelle sue varie fasi è stato sul piano giudiziario interessante importante ha dimostrato come esistono dei pezzi di magistratura assolutamente fuori controllo e dediti alla sopraffazione ad azioni che provocano più danni di quelli che crea la malavita e pezzi di magistratura invece che sono in grado di esercitare il loro compito e di emettere sentenze giuste quello che fu del tutto assente salvo l'intervento di Marco Pannella e del Partito Radicale fu la politica che non prese nessuna iniziativa che restò immobile che non si occupò della cosa come se non la riguardasse sono passati molti anni iniziava allora la data dell'arresto di Enzo Tortora è un po' la data dell'inizio della Repubblica giudiziaria che poi è cresciuta e soprattutto nel 92 circa dieci anni dopo l'arresto di Tortora è diventato quel castello inespugnabile che oggi conosciamo era nata prima perché aveva iniziato a muovere i primi passi fra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80 quando ricevette la delega della politica la politica disse noi abbiamo un problema la lotta armata e l'estremismo soprattutto di sinistra ti diamo le chiavi fai quello che vuoi quella fu la delega la prima delega che fu data la magistratura che l'ha prese e non l'ha mai più mollata neanche oggi e così arriviamo a oggi c'è scusate se forse un po' schematizzo ma le cose sono così oggi noi viviamo in una democrazia giudiziaria non è che non viviamo in una democrazia sarebbe una sciocchezza dirlo certo che in Italia c'è un sistema democratico ma c'è un sistema democratico con uno squilibrio dei poteri e con un'assenza di garanzia esiste un potere che è in mano a poche migliaia di persone il potere giudiziario che è fuori controllo e ha inauditi strumenti di sopraffazione sulle persone ho sentito oggi le prime parole della requisitoria contro Silvio Berlusconi al processo rubi non so più ter, bis quater, quinqu non si sa sono stati tre, quattro, cinque processi più sottoprocessi perché voi sapete che in Italia la legge che si processa una persona una volta e poi il caso è chiuso non esiste Berlusconi è stato processato per il caso rubi varie volte varie volte assolto ma i processi continuano adesso c'è questo processo che credo si chiami ter, bis una cosa del genere e ho sentito l'inizio della requisitoria impressionante è un magistrato che fustiga il libertinaggio di Berlusconi fustiga i suoi costumi il suo modo di vivere come fosse un sacerdote come fosse un guru non ha nessuna idea evidentemente questo magistrato di quale dovrebbe essere il compito di un magistrato e anche di un pubblico ministero parla vistosamente non alla giuria anche per chi il processo lo sa ha perso anche questo ma parla al pubblico parla ai giornali parla alle televisioni fa un discorso che gli sembra possa essere un discorso che prende il cuore la pancia del popolo ora il problema è esattamente quello del 1983 dov'è la politica? io non chiedo più nemmeno dov'è la magistratura perché guardate io sono stato molto contento lunedì ad apprendere che esiste almeno la metà della magistratura italiana che ha un senso della propria funzione dei propri compiti e della propria missione che è una missione professionale e di difesa del diritto e non è una missione di picchiatori più della metà della magistratura in modo esplicito e anche spavaldo ha detto alla NM sciopera tu io non sciopero io resto dalla parte della legalità vuoi fare un'azione sovversiva fai una sovversione sovversiva ma io non vengo la metà della magistratura si è schierata sul versante del diritto e la metà della politica no? la metà della politica quando ha visto il referendum si può dire si è caccata sotto e questo ha fatto non è che ha fatto un'altra cosa non sono referendum particolarmente radicali particolarmente travolgenti sono delle correzioni modeste a come è stata fatta strame della giustizia italiana e della struttura della giustizia italiana in questi anni piccolissime correzioni la legge Severino ma insomma si fa un referendum per cancellare una legge vistosamente incostituzionale non è che nessuno che ha letto la Costituzione può pensare che è legittimo punire una persona che non è stata ancora condannata no? l'hai letta lo sai si tratta di cancellare la Severino e si tratta di ridurre quel atroce abuso di potere che è la carcerazione preventiva ogni giorno tre persone vengono messe in prigione e saranno dichiarate innocenti più tutti quegli altri che magari non saranno dichiarate innocenti ma bisogna vedere se lo sono e bisogna vedere se meritano la prigione o no ogni giorno viene esercitata una sopravfazione pazzesca pazzesca da parte dei magistrati e l'unica cosa che si chiedeva era una leggera riduzione della carcerazione preventiva perché badate che il refrendo non è che dice che non si può più fare come farei io io se dovessi dire facciamo una legge direi non si può mettere in prigione le persone finché io non le metterei mai in prigione volerei proprio le prigioni ma se proprio le dobbiamo mettere in prigione aspettiamo una condanna non mi sembrerebbe la mia una posizione moderata no il referendum non propone neanche questo propone solo che siano ridotte ridotte alcune condizioni per arrestare ingiustamente sopraffare molte persone e che è successo più della metà della politica indignata detto di no indignata detto di no vedi alla fine mi fido più della magistratura se vado a vedere i rapporti di forza sono stati più i magistrati che hanno avuto le palle di dire alla loro associazione vattene a quel paese e i politici no questo è il dramma Letta dove sei? Letta sei figliolo di Aldo Moro di Aldo Moro quello che fece il grande discorso sulla Locked ebbe il coraggio avviso aperto di mandare a quel paese tutti la destra la sinistra il partito comunista Pierpaolo Pasolini e difese il diritto Moro te lo ricordi Letta chi era Moro? Quella era la sinistra democristiana quelli erano i cattolici democratici te lo ricordi Gui che fu impiccato ed era innocente il ministro della scuola il ministro te lo ricordi Letta Letta non puoi andare appresso a Conte ma come fai? Hai quei padri lì vai appresso a un avvocatino forcaiolo che non sa neanche cosa dice che è capace solo di chiedere che la gente sia messa in prigione il più possibile vai appresso a Marco Travaglio Letta torna con i piedi in terra non ti chiedo di essere di sinistra Moro ricorda questo nome Moro grazie adesso do la parola a un avvocato di Marsala mio grande amico perché io tra gli avvocati ormai ho tanti amici pochi ma buoni tanti e buoni e con lui ho fatto a Marsala tante cose perché lui non solo è avvocato ma è anche sceneggiatore poeta ma tutto il suo pensiero tutto quello che sviluppa è sempre all'insegna della giustizia e delle garanzie per tutti Giacomo Frazzitta grazie grazie Francesca essere qui per me è un'emozione perché così è stata anche l'emozione quando insieme abbiamo deciso di pubblicare lettere a Francesca e quella volta che ho avuto la grande occasione di leggere per primo quelle lettere che Enzo Tortora ha inviato alla sua amata Francesca dal carcere e lì scoprimmo insieme una serie di frasi che poi sono diventate importanti come la frase che poi è stata scritta anche sulla copertina del libro cioè solo i pazzi bambini e i magistrati non pagano per le loro colpe questa era una frase nascosta forse anche un po' dimenticata tra le frasi che Enzo Tortora da dentro quella sua prigione perché non era un carcere era una prigione perché lui è stato un prigioniero non è stato un carcerato e vi è differenza nel termine tra prigioniero e carcerato carcerato è qualcuno a cui seppur in maniera generica si addossano delle colpe il prigioniero è invece colui il quale viene preso contro la sua volontà senza che ha commesso delle colpe dirette e dunque lui dalla sua prigionia dalla prigionia di stato lanciava degli strali importantissimi si rendeva conto improvvisamente a sue spese di come non ci fosse equilibrio nel sistema giustizia e questa è la parola che credo sia determinante ai fini di comprendere dove stiamo andando e che cosa quali errori sono stati commessi lo squilibrio quando si parla di separazione non si parla di divisione si parla di mettere alla pari separare etimologicamente un termine che significa mettere alla pari ed è proprio questo squilibrio che invece noi viviamo giornalmente e noi avvocati stentiamo a spiegare ai cittadini del perché di questo squilibrio che spesso è tangibile e tattile nelle aule d'udienza e lo squilibrio che vi è tra le parti dovrebbero i magistrati mettersi dalla parte degli avvocati e dei cittadini sempre più spesso e loro stesso si renderebbero conto dello squilibrio lo abbiamo visto in questi anni come quando un magistrato è stato sostanzialmente inquisito si sia reso conto e lo abbiamo visto anche recentemente nel processo a Brescia in cui si rende conto che effettivamente vi è uno squilibrio e allora su questo squilibrio bisogna necessariamente porre dei sistemi che possano consentire di mettere alla pari le forze perché da uno squilibrio non viene fuori il valore della giustizia perché la giustizia oltre a essere un diritto è innanzitutto un valore e allora attraverso semplicemente l'equilibrio il valore può contenersi e può soprattutto aprirsi questo è quello che è il testamento morale che ha voluto dare Enzo Tortora con le sue lettere con la sua storia diceva Piero Sansonetti un attimo fa che purtroppo questa vicenda emblematica non ha dato non ha avuto un futuro in senso positivo perché abbiamo tre diciamo tre errori giudiziari al giorno circa mille errori giudiziari l'anno che quindi costano allo Stato ma non è un problema di natura economica è un problema valoriale è un problema di rispetto è un problema di equilibrio tra le parti l'equilibrio dalla giustizia e poi la squadra noi siamo quando andiamo nei processi siamo una squadra perché ognuno di noi ha la maia dello stesso colore abbiamo tutti la stessa toga dello stesso colore quindi siamo una squadra e una squadra per vincere deve rispettare i ruoli degli altri non deve travalicare i ruoli abbiamo però diversi ruoli e questi ruoli sono dati dalla differenza dei cordoncini che abbiamo alle nostre spalle ora nel momento in cui però vi è una parte della squadra che isola l'altra squadra evidentemente si crea uno squilibrio e i solisti non fanno mai un buon gioco e da questo non può venire fuori una giustizia giusta equilibrata giorno 12 si andrà a votare ci sono dei referendum che sono dei referendum che ci danno forse un miglioramento palliativo al sistema perché dicevo questo dovrebbero mettersi dalla parte degli avvocati magistrati di tanto in tanto e dalla parte dei cittadini e guardarsi e quel giudizio che potrebbero dare gli avvocati all'interno del consiglio giudiziario quello fa paura ma noi siamo coloro i quali forse più di ogni altro possiamo dare il feedback ai magistrati sulla giustizia siamo in un'epoca in cui tutti danno i feedback ma i feedback non se li danno chi effettivamente è colui il quale deve ricevere il giudizio lo danno gli altri e quindi anche questo è uno squilibrio e questo squilibrio verrà sistemato va necessariamente calibrato coerentemente con i ruoli di ognuno e nel rispetto di una logica non puoi autogiudicarti in qualche maniera devi ascoltare quello che è il pensiero di colui il quale fruisce ogni giorno del tuo servizio ma lo vediamo ovunque che è così e invece no lì si ha paura perché si ha paura perché forse c'è un potere una istituzione che forse sta diventando un'istituzione indipendente autonoma e forse anche contraria agli altri sistemi e quando è così questo squilibrio si amplifica sempre di più e rischia di rovinare uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia perché la nostra democrazia si fonda su tre pilastri uno dei quali è il potere giudiziario e non può il potere giudiziario avere delle fratture all'interno essere debole perché ha paura dei giudizi degli altri deve mettersi in gioco solamente così è possibile forse avere un equilibrio e forse la giustizia può vincere Marco Taradash che è stata per tanti anni la voce della rassegna stampa di Radio Radicale e lo possiamo sentire ancora il sabato mattina è un radicale dove ha un nome che dice tutto grazie Francesca io ho fatto le rassegne stampa tutte le mattine negli anni in cui Enzo Tortore era sotto processo ricordo come i giornali trattarono l'arresto di Tortora i racconti dei pentiti la sentenza di condanna le infamità e le diffamazioni che avvennero lo ricordo bene ricordo le poche voci dissonanti che sulle prime si manifestarono però io vorrei celebrare come giorno di festa il 15 settembre del 1986 87 non ricordo bene quando il giudice Michele Morello dichiarò Tortora innocente e inflisse in questo modo un colpo durissimo a dei meccanismi della magistratura che si erano invece alimentati di falsi pentiti di antipatie di amicizie televisive o giornalistiche e che avevano creato il mostro buono per fare carriera e carriera la fecero gli accusatori di Tortora come sappiamo bene il 15 settembre il 15 settembre di quell'anno invece la magistratura italiana il processo italiano venne scosso perché per la prima volta si dichiarò che le parole dei pentiti dovevano essere sottoposte a verifica che non bastava la parola di un pentito confermata da un altro pentito a creare una prova ma che bisognava approfondire e guardate non è vero che la soluzione di Tortora grazie al comportamento di Tortora che rinuncia al suo seggio al Parlamento Europeo per tornare in Italia e farsi arrestare ed andare di fronte ai suoi giudici non è vero che la politica italiana restò insensibile sarebbe un torto allo stesso Tortora dire questo perché la magistratura italiana pochi anni dopo fu costretta ad accettare un voto del Parlamento che riformava il codice di procedura penale e che dava la possibilità di un processo di garanzie e non di inquisizione è vero che poi la Corte Costituzionale o la giurisprudenza liquidarono quella riforma del codice ma il Parlamento l'approvò e nel 1999 il Parlamento approvò la riforma dell'articolo 111 della Costituzione e votò un articolo per il processo giusto ma ormai era troppo tardi era troppo tardi perché le cose erano cambiate nel 1992 quando a Milano si aprì un processo tangentopoli che andava a colpire a indagare sulla corruzione che nel Paese largheggiava anche corruzione politica ma poi si trasformò in un'operazione politica chiamata Mani Pulite e dall'operazione Mani Politiche cambiò di nuovo il verso e del ruolo della magistratura e dell'accettazione supina di una gran parte della politica nei confronti del golpe che si realizzava quotidianamente nelle aule dei tribunali da parte di magistrati magistrati alla pubblica accusa generalmente ma anche magistrati giudicanti che creavano il loro potere attraverso la violazione dello Stato dei diritti e dei diritti dei cittadini è una storia lunga questa che non è finita come sappiamo bene è una storia che ha trasformato i processi di Falcone e Borsellino insieme al colonnello allora Mori e al Ross per la quasi definitiva sconfitta della mafia nella storia di un'antimafia che ha colpito non potendo più colpire Falcone e Borsellino il generale Mori e che ha lasciato crescere per decennio almeno un decennio una pista falsa coordinata certamente da una parte della polizia e non si sa da chi altri che ha distratto e deviato per anni la verità sull'assassinio e l'attentato Borsellino oggi noi siamo preda ancora di magistrati che costruiscono la loro fama la loro popolarità televisiva e politica attraverso la violazione costante dello Stato di diritto attraverso la diffamazione di Falcone e Borsellino diffamazione che si attua generalmente con l'elogio a Falcone e Borsellino da persone che hanno fatto il contrario nella loro vita giudiziaria e abbiamo una politica remissiva travolta dall'adesione dalla paura non lo so e che ha trovato nei partiti negli anni 2000 ha trovato in alcuni partiti una difesa senza remore senza incertezza di questa parte golpista della magistratura poi è arrivato il populismo sono arrivati 5 stelle è arrivato il cretinismo spinto all'estremo e ancora oggi noi troviamo un partito che si è molto evoluto e molto cambiato un partito della sinistra che dice no ai referendum perché sarà il Parlamento a riformare la giustizia ma quale Parlamento questo Parlamento può riformare alcunché ha messo Melassa ha messo Bromuro nel tentativo della Ministra Cartabia di fare riforme efficaci e il Parlamento di domani se tanto ci da tanto sarà peggiore perfino di questo no il lavoro delle riforme spetta a tutti noi dovrebbe spettare a ogni cittadino e se c'è una cosa che davvero mi è dispiaciuta durante la fase referendaria è che sia stata sottratta ai cittadini la libertà di essere loro i promotori dei referendum avrebbero avuto una forza enormemente maggiore questa forza è stata consegnata ad altri ed è una debolezza in realtà ma i quesiti referendari che pure non possono arrivare fino a trasformare la giustizia italiana in una giustizia fatta sull'immagine della Costituzione e che difenda lo Stato di diritto tuttavia dai referendum verrebbe terremotata se non altro perché sarebbero terremotate le difese e le fortezze erette a difesa dell'esistenza dell'esistente dalla magistratura organizzata attorno all'NM l'NM di cui il segretario Palamara ha raccontato le vicende da dissociato e non da pentito ha detto ma dissociandosi ha raccontato tutto ciò che noi sapevamo e non potevamo dichiarare con la certezza della prova approvata oggi lo sappiamo Palamara è quella cosa lì che si è descritta e i suoi predecessori e i suoi successori nella NM quel tipo di giustizia proprietaria indifferente alla verità e alla legge proseguono a rappresentare un'ultima cosa ho letto ieri ho ascoltato ieri la commemorazione di quell'uomo che fu il poliziotto Calabresi che era amico di Tortora Enzo Tortora ce ne raccontava sempre ci raccontava di quanto fosse ingiusta la nomea che su Calabresi era ricaduta ci sono stati molti processi a carico dei presunti assassini di Calabresi e sono andati in modo diverso ci sono state anche assoluzioni sentire i media italiani dire il commissario Calabresi ucciso da Tizio Caio di lotta continua non è modo civile di rappresentare le cose perché quando ci sono le assoluzioni saltano su coloro che sanno e che ci dicono guardate è stato assolto ma una cosa è la verità giudiziaria altra cosa è la verità storica bisognerebbe utilizzare questa verità civile perché è una verità sulla strage di Bologna noi abbiamo una versione personalmente insieme a tante persone che non sono pazze non la condividono sull'assassinio di Calabresi io stavo nella gioventù liberale poi nel partito radicale non so ma so che la giustizia è stata incerta e allora ricordarsi che la verità giudiziaria è una cosa la verità storica può essere diversa e una cultura dell'informazione dovrebbe rendersi conto di questo perché se non avessimo avuto il dottor Michele Morello che assolse Tortora nonostante 17 pentiti dicessero la stessa cosa e cioè che lui era un camorrista se non avessimo avuto questo giudice eccezionale oggi la storia sarebbe diversa e Tortora non riceverebbe tutto l'onore che la sua vita prima del processo la sua vita dopo il processo meritano Giorgio Spanger docente merito di procedura penale ma soprattutto un uomo che ha partecipato in quella che è stato tutto l'iter giudiziario processuale e quant'altro nella vicenda di Enzo c'è anche gli atti portano anche la sua firma grazie io ho incontrato Tortora una sola volta a Milano accompagnandolo da casa al palazzo di giustizia quando fu depositato il ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo e noi ci avviavamo al viaggio a Strasburgo ma il mio incontro con Tortora venne prima ma venne indirettamente mi telefonò Marco Pannella perché bisogna ricordare la storia e Marco Pannella venne fino a grado a chiedermi se potevo scrivere la domanda di rimessione del processo il processo si celebrava a Napoli Marco Pannella mi chiese di scrivere la domanda di rimessione io dissi guardai le carte gli dissi con molta onestà non è fondato però io lo scrivo lo stesso fu chiesto a Pisapia di presentarlo in Cassazione di difenderlo Pisapia non lo difese andrò Franco Coppi e la domanda di rimessione fortunatamente visto gli eventi successivi di Morello fu rigettata non c'erano i presupposti onestamente i presupposti per rimettere il processo da Napoli a Roma ma c'è una cosa che voglio ricordare quando si fa una domanda di rimessione questo va dato al partito radicale alla sua forza bisogna notificare l'atto a tutte le parti del processo a tutte le parti solo che nel processo Tortora le parti i coinputati erano 178 ed è la ragione per la quale Coppi non fece la rimessione non chiese la rimessione del Maxi di Palermo perché non aveva la forza di chiederla a notificare gli atti a 800 coinputati noi cercammo il partito radicale si fese carico delle notificazioni sì ma signori forse voi non sapete ma gli imputati non stavano mica in un solo carcere chi c'era a Portazzurro chi è a Lasinara chi è a destra chi è a sinistra chi è a Palermo bisognava raggiungerli tutti nel giro di pochi giorni furono raggiunti con la forza del partito radicale dei militanti radicali furono raggiunti circa 160 persone ma ne mancarono alcuni chiedemmo la restituzione in termini e ci fu concessa quando chiese a Marco Pannella dico guarda che la domanda è infondata mi dice noi dobbiamo farla e la domanda di rimessione fu fatta questo io lo ricordo molto bene perché ripeto ho partecipato sono venuto anche a Roma a parlare con Spadaccia la lieta quelli che erano i rappresentanti radicali di allora ma io credo che c'è qualcosa in più io faccio la procedura penale noi siamo debitori a Tortola di molte cose debitori e siamo ancora debitori a Tortola mi riferisco alla riforma del codice di procedura penale senza la vicenda Tortola nel 1988 considerato tutto la riforma del processo il Parlamento non l'avrebbe fatta perché l'episodio Tortola mise attualmente in una certa difficoltà la magistratura che osteggiava quel processo e il processo fu varato perché c'era stato il precedente del caso Tortola come è stato ricordato prima ma li siamo debitori di un'altra cosa li siamo debitori di un referendum che fu tradito perché l'esito di quel referendum che Tortola volle che era nel nome di Tortola da una classe politica e spiace che qualcuno si sia macchiato del tradimento di quel referendum ed era un grande giurista un grande uomo politico una persona di grande stima però a un certo punto quel referendum fu tradito a Tortola dobbiamo un articolo del codice di procedura penale l'articolo 277 quello che non ha una sanzione che è una norma manifesto sulle modalità con le quali si eseguono le misure cautelari rispettando la dignità della presenza scritto in tutti i lavori parlamentari quella è la norma Tortola ma quella norma Tortola assieme col referendum assieme con la riforma noi non siamo stati in grado di mantenerla quelle promesse perché nel 1992 è stato ricordato da Tara la procedura penale il processo penale fu affossato furono affossati prima dai magistrati da Maddalena dal procuratore di Torino dal suo gruppo il quale affossò la riforma del codice di procedura penale poi ci pensò la corte costituzionale poi ci pensò la criminalità organizzata ma anche il 276 con le manette esibite penso a Bossetti penso ad altri che sono esibiti in pubblico come dire in termini di gogna mediatica noi questo a Tortola lo dobbiamo dobbiamo tante cose a lui e dobbiamo soprattutto una cosa e quindi direi che su questo punto in tema di referendum in feina di modifica che chi ha sbagliato nessuno vuole la caccia alle streghe ma chi ha sbagliato carriera nella magistratura non la deve fare questo è un ulteriore debito che noi abbiamo nei confronti di Tortola perché anche quella cosa fu fatta ma lì non si riuscì a far arrestare la carriera delle persone nessuno vuole fare la caccia nessuno vuole demonizzare ma chi a un certo punto ha commesso degli errori in termini giudiziari questo lo dobbiamo non solo a Tortola ma tutti quelli che quotidianamente vengono assolti nei gradi successivi di giudizio quindi noi siamo debitori oggi qui dobbiamo testimoniare il nostro debito non solo di riconoscenza ma l'impegno a mantenere un codice di procedura penale che si rinnovi a mantenere un 277 che venga tutelato a ritenere che a un certo punto chi sbaglia in magistratura debba pagare perché a un certo punto se no altrimenti il suo testamento sarà stato del tutto inutile grazie 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 Giorgio Spanger adesso vorrei dare la parola a un grande e non mi riferisco naturalmente al suo fisico che è veramente grande alla sua grandezza d'animo Beniamino Migliucci come presidente dell'Unione delle Camere Penali ha voluto come dire ospitare al tavolo dell'avvocatura italiana Enzo Tortora facendo sua la battaglia che era stata di Enzo Tortora e io devo a lui la pubblicazione di quelle lettere di Enzo Tortora che come dire hanno riportato forse alla coscienza umana alla memoria in presa diretta lo scandalo che Enzo racconta nelle lettere di quello che era il caso giudiziario e la condizione delle carceri Beniamino grazie grazie a te Francesca anche per questo invito a questo incontro che per me è sentitissimo Enzo Tortora in una di quelle lettere scritte a Francesca diceva speriamo che questo paese capisca e reagisca beh c'è da chiedersi i passati più di 40 anni se davvero questo paese abbia capito e soprattutto se abbia reagito quando Francesca nel 2015 venne tra i penalisti ci raccontò di questo suo di questa sua perplessità di questo dramma personale se rendere pubbliche le lettere che Enzo aveva scritto dal carcere io le dissi con grande umiltà che secondo me quelle lettere dopo averne letta qualcuna non avevano solo un significato privato commovente denso di umanità ma avevano anche un profondo significato politico in quelle lettere c'era un po' tutto quello che immaginiamo debba essere un processo giusto si parlava della necessità dell'appello e l'appello qualcuno vorrebbe sopprimerlo e senza il giudizio di appello Enzo Tortora sarebbe morto colpevole in quelle lettere si parla dell'attesa di chi sta in carcere da innocente nel nostro paese dal 92 ad oggi sono stati pagati più di 650 milioni di indennizi per ingiusta detenzione ci parlava della condizione delle carceri diceva siamo in sette in una cella e ancora questo paese non si vergogna della condizione delle carceri vedo gli amici di nessuno tocchicaino andate politici che vi sciacquate spesso la bocca con la dignità con l'umanità andate a sollicciano andate a vedere qualche carcere italiano andate a vedere come sono rinchiusi in una cella dove devono mangiare dove devono fare anche i loro bisogni dove non hanno nessuna nessuna possibile intimità e Enzo Tortora ci scriveva anche dell'umanità dei carcerati diceva sono diventati i miei migliori amici quelli che mi sostengono e ci parlava anche della necessità di avere un occhio attento sulle ragioni della custodia cautelare ecco il libro di Enzo Tortora non solo quello delle lettere ma la storia in un paese normale dovrebbe essere messo a disposizione degli studenti nelle scuole bisognerebbe fare capire e questo non per attaccare la magistratura ma per far capire cosa sia il contrario di un processo giusto bisognerebbe portarlo nello scuola per capire quello che è stato e quello che bisognerebbe evitare ancora si parla spesso del fatto che i magistrati spesso arrivano a una carriera splendida indiscriminatamente vedete tutti i magistrati quelli che vollero o arrivarono alla condanna di Enzo Tortora hanno fatto carriera Michele Morello l'estensore di quella sentenza è uno dei pochi che carriera invece non l'ha fatta e allora una domanda dovrebbe essere lecita ma è normale che tutti quanti siano davvero bravi tutti quanti arrivino a essere magistrati di Cassazione possano arrivare ad esserlo che il 99% dei magistrati abbia delle valutazioni di professionalità positive io credo che non sia normale ed è perché in tutte le altre professioni in tutti gli altri mestieri una valutazione deve essere fatta ecco vedete Enzo Tortora con il suo sacrificio perché è bene ricordare che Enzo Tortora e in quelle lettere voi lo ritrovate si è ammalato in carcere si è ammalato per l'ingiusta detenzione si è ammalato per un uomo innocente che stava in carcere senza sapere perché e vi consiglio anche lo consiglio agli amici giornalisti di leggere le recensioni dell'epoca Enzo Tortora era colpevole perché era antipatico qualcuno avrebbe messo in carcere anche il suo pappagallo se avesse potuto erano eppure erano giornalisti di testate importanti giornalisti importanti anch'essi eppure era tutto fondato su un pregiudizio si diceva addirittura finirà questa bonomia delle sue trasmissioni televisive un odio inusitato nei confronti di una persona e per questa antipatia lo si riteneva colpevole si scriveva se i magistrati lo hanno messo in carcere vorrà dire che qualcosa ha fatto ecco questo era il senso di quell'epoca e c'è da chiedersi al giorno d'oggi sotto il profilo della informazione è davvero cambiato qualcosa abbiamo dovuto approvare una normativa sulla presunzione di innocenza noi che la presunzione di innocenza l'abbiamo nella Costituzione ecco noi abbiamo un paese dove ciò che dovrebbe essere normale diventa assolutamente eccezionale sui referendum e non a caso Francesca e gli organizzatori hanno voluto fare questa giornata di ricordo anche in occasione dei quesiti referendari io credo che sia avvenuta una cosa sufficientemente vergognosa la stampa non se ne è occupata per nulla di questi referendum sono rimasti sotto traccia come se non dovessero interessare le persone i cittadini di questo paese vedete probabilmente sotto questo c'è una idea di una normalizzazione che si intende attivare con riforme che sono scialbe con riforme che sono dei pannicelli caldi con riforme che rischiano di essere ancora adeguate perché qualche partito patologicamente debole e patologicamente vicino alla magistratura meglio ai desiderata della magistratura intende cambiare anche questa riforma così debole ecco io credo che i referendum abbiano questo merito intanto si discute di cose che sarebbero rimaste nell'ombra la separazione delle carriere voi sapete che l'unione delle camere penali ha presentato in parlamento una proposta costituzionale di iniziativa popolare e tutti i partiti sono venuti a dire che quella è la proposta che dovrebbe essere attuata di netta separazione tra chi accusa e tra chi giudica il giudice deve essere imparziale e terzo come recita la nostra costituzione distinto da chi accusa e distinto da chi difende ed è anche un fatto culturale è un fatto ordinamentale e queste riforme deve essere chiaro non vengono fatte contro la magistratura ma per la magistratura perché un giudice terzo garantisce a tutti una serenità di giudizio una tranquillità una percezione di una giustizia giusta sulla custodia cautelare ci sono stati nel tempo e ci sono a fronte anche di tutti gli indennizi di cui ho parlato questi abusi queste esagerazioni queste esasperazioni di un istituto che dovrebbe essere eccezionale sì allora ecco la legge Severino anche se il referendum propone di abrogarla tutta il tema è importante che è quello della presunzione di innocenza nel nostro paese si valorizzano più le indagini delle sentenze mentre sarebbe il caso che nel nostro paese si valorizzassero le sentenze e il giudice rimanesse qualcosa di intoccabile tra le parti ed è per questo anche che bisognerebbe arrivare alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura per evitare che un pubblico ministero possa giudicare un giudice e per evitare che la carriera di un giudice dipenda da un pubblico ministero ecco Enzo Tortora ci ha regalato oltre a tutto quello che è stato già detto anche la possibilità di discutere di giustizia di dibattere e di richiamare i cittadini al loro dovere di occuparsi delle cose di giustizia perché la giustizia non riguarda solo i magistrati e gli avvocati riguarda tutti i cittadini riguarda il paese e un paese liberale e democratico non può essere tale se non ha una giustizia giusta grazie grazie a Benemino Migliucci adesso c'è un altro amico un altro che nella vicenda radicale e comunque nella vicenda radicale che ha accompagnato l'esperienza di Enzo Tortora di strada non ha fatto tanta Atos De Luca grazie grazie come si dice sarò breve sicuramente non supererò i cinque minuti allora io intanto ringrazio coloro che si sono fatti carico di questa bellissima manifestazione stamani qui abbiamo fatto politica cosa che nei partiti si fa sempre meno politica si fanno altre cose torniamo tutti a fare politica per ridare primato alla politica per ridare anche una parità di dignità e di forza in questo paese tra due poteri entrambi legittimi e importanti che sono la magistratura e il Parlamento i parlamentari non devono essere intimiditi dalla magistratura la magistratura non deve essere intimidita dalla politica deve fare il suo lavoro è negativo quando le due cose si mischiano per cui la magistratura fa quello che dovrebbe fare la politica e la politica non fa il suo mestiere quindi per avere una vera democrazia questi due importanti poteri devono essere autonomi indipendenti e liberi di svolgere la loro azione io voglio ricordare visto che siamo a Roma e stiamo parlando di giustizia e di processi ma vi ricordate voi quel ballon del sé di mafia capitale perché lo ricordo perché di recente la Cassazione ha detto che non era mafia che era solo corruzione però c'è qualche magistrato che su quella vicenda e sulla pelle di Roma ha pensato di fare carriera anzi in realtà l'ha fatta e allora io credo che sia da finirla col fatto che le carriere dei magistrati debbono avere come vittime i cittadini parlando di Tortora sicuramente anche quel caso richiama questa situazione e cioè Tortora è stato per alcuni magistrati come dire l'occasione di grande visibilità a prescindere dalle responsabilità reali che poi si è rivelato che non ci sono state ma intanto Tortora ha passato un'agonia un supplizio ha passato ciò che non augura a nessuna a nessuna persona di essere sottoposto a quell'agonia mediatica e essere annullato nella sua personalità che questo poi gli ha accorciato sicuramente la vita allora questo è un tema di oggi molto delicato e noi dobbiamo avere il coraggio perché il Parlamento voglio dire noi ora faremo un referendum ricordiamoci che comunque le cose che chiediamo con il referendum le potrebbero anche fare i parlamentari in Parlamento ma perché questo non accade perché in Parlamento il Parlamento è in soggezione rispetto ai magistrati quindi io credo che un paese veramente democratico non deve la sua classe politica deve essere coraggiosa libera e parlare e fare il suo ruolo perché quando sono adesso anche pochi hanno tagliato i parlamentari io sono stato contro perché non vedo perché che facciamo i risparmi di qualche migliaio di euro togliendo la rappresentanza parlamentare dei cittadini ma io credo che quindi debba essere ripristinato questa parità di forza e di dignità tra i poteri dello Stato i magistrati facciano la magistratura i politici facciano appieno la politica e debbono stare con la schiena dritta senza aver paura della magistratura e voi sapete che ci vuole poco a non aver paura della magistratura essere onesti puliti e coraggiosi grazie grazie a Dados De Luca adesso diamo la parola a Maria Masi che è la presidente del Consiglio Nazionale Forense grazie 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 a Francesca per l'invito che ho particolarmente gradito e apprezzato 1983 ero appena quindicenne quindi ricordo da adolescente un episodio che avrebbe poi cambiato anche le sorti della comunicazione quindi non necessariamente in senso positivo e da adulta ma soprattutto poi da giurista avrei poi compreso come quell'arresto e soprattutto quel processo sintetizzava tutti gli aspetti molti dei quali purtroppo ancora oggi sono oggetto di dibattito di tutto quello che non rappresenta un processo giusto a partire dalla spettacolarizzazione dell'arresto della durata del processo dal primo grado dalla sentenza di colpevolezza fino all'assoluzione della Cassazione quattro anni che oggi sembrano pochi tenuto conto dei tempi medi della giustizia ma per chi è innocente quindi non semplicemente non colpevole ma per chi è stato poi assolto quindi per una completa estranetà sono tantissimi soprattutto se sette mesi di questi quattro comunque lunghi anni li ha comunque dovuti trascorrere in carcere quindi l'altro aspetto è proprio quello della carcerazione preventiva per poi passare a quelle che sono state le dichiarazioni che all'epoca quindi chi aveva interesse sono tanti e chi poi non aveva avuto la possibilità di farlo ha avuto modo di farlo negli anni successivi le pretese giustificazioni di quell'anomalia da un non adeguato numero di organico ha un difetto di coordinamento tra gli operatori ha un problema di cancellerie problemi di cui ancora oggi si discute e di cui ancora oggi discute l'avvocatura avvocatura che come è stato detto da chi mi precede ha un dovere un dovere morale io direi anche di più un imperativo categorico che è quello di far comprendere ai cittadini il perché di una non di rivendicazioni ma di legittime dichiarazioni di esistenza di quello che dovrebbe caratterizzare il giusto processo quindi principi di cui ancora oggi fatichiamo a far riconoscere siamo alla vigilia quindi l'anniversario della morte di Enzo Tortora la vigilia dell'approvazione come è stato detto di importanti riforme e anche lì abbiamo necessità di far comprendere soprattutto ai cittadini perché siano necessari dei correttivi per evitare che le situazioni e i sacrifici come quello di Enzo Tortora possano rinnovarsi ma anche se non in maniera così eclatante anche nel quotidiano così come è importante che l'avvocatura sia protagonista e quindi si assuma anche il compito non facile di contribuire alla campagna di sensibilizzazione che compensi almeno in parte il silenzio assordante a cui si faceva riferimento che è quello sul referendum della giustizia perché peraltro anche le riforme che saranno approvate non esauriranno in ogni caso i temi che sono sottesi si faceva l'esempio anche e soprattutto con riferimento alla responsabilità dei magistrati ecco questo silenzio che non si giustifica deve essere in qualche modo compensato senza entrare nel merito di quelli che sono poi i contenuti anche se appare difficile immaginare come l'avvocatura non possa essere attenta a quella che poi è una declinazione dei principi del giusto processo declinati così negli strumenti referendari e a proposito della responsabilità a un piccolo cenno perché anche sotto questo profilo c'è probabilmente un errore di valutazione e anche di comunicazione non c'è nessuna caccia alle streghe non c'è nessuna volontà di distinguere buoni e cattivi o di puntare il dito quel referendum qualche anno dopo rispetto all'83 e l'87 veniva ricordato è stato il primo voto che io ho dato l'ho dato proprio sul referendum della responsabilità dei magistrati poi diventata insomma legge vassallo con un diaframma che è quello dello Stato che pone però anche lì un problema di corretta motivazione non è un problema di risarcimento ma è un problema di responsabilità non è un modo per ripeto di puntare il dito contro tenuto conto che tra qualche giorno noi celebreremo altri importanti anniversari di magistrati che hanno pagato con la vita e quindi con un sacrificio grandissimo diciamo l'ostinazione per quella che era la funzione essenziale che comunque ricoprono e ricopriva e soprattutto per l'applicazione del giusto processo chiudo citando perché oggi 18 maggio ricorre l'anniversario anche della morte di un poeta lui con una famosissima canzone descriveva qualche anno fa la patologia quindi non semplicemente le contraddizioni del nostro paese di un paese ma la patologia mi piace concludere come concludeva non cambierà forse cambierà io sono convinta che potrà cambiare non con l'ottimismo della volontà non neanche con quello della ragione ma sicuramente con quello dell'impegno ed è per questo che ringrazio Francesca e mi fa piacere osservare e rincontrare tanti avvocati che hanno deciso di assumere in qualche modo il testimone di Enzo Tortora grazie grazie a Maria Masi che è Presidente del Consiglio Nazionale Forense adesso do la parola a Guido Camera che è il Presidente dell'Associazione Stato di Diritto ho sbagliato? Italia Stato di Diritto grazie e un sincero ringraziamento a Francesca per l'invito e complimenti a tutti gli organizzatori per questa iniziativa preziosa in un momento come è stato detto dove la disattenzione nei confronti di questo momento referendario importantissimo è massima che contributo può dare uno come me ad una giornata come oggi? il primo è ricordare la figura di Enzo Tortora credo che lui con il suo calvario anche grazie alla notorietà che aveva acquisito in anni di carriera e la sua popolarità abbia contribuito molto più di tante sentenze di tante norme di tanti convegni ad avvicinare la giustizia italiana a quella che dovrebbe essere in un paese realmente liberale e realmente democratico ha detto bene prima Marco Taradasi il Parlamento dopo quell'esperienza reagì come aveva reagito il popolo italiano votando in modo massiccio un referendum sulla responsabilità civile dei giudici che poi fu svuotato di significato purtroppo in nome di un qualcosa che oggi ancora non ci si riesce a scrostare quindi direi che sia la riforma del codice di procedura penale sia l'esito che ebbe quella campagna referendaria vanno al merito della battaglia coraggiosa dell'olocausto personale che subì il povero Enzo Tortora il referendum primo tema devo dire che il 12 giugno io avrò un grande amaro in bocca prima di tutto perché io con le mie modestissime possibilità ho partecipato a quell'udienza del 15 febbraio in Corte Costituzionale dove sono stati bloccati i tre quesiti più importanti in termini di impatto sulla capacità di attrarre la popolazione al voto e sono i tre quesiti sul fine vita in cui ho avuto la fortuna e l'onore di difendere gli amici di più Europa quello sulla legalizzazione della cannabis e quello sulla responsabilità civile dei giudici devo dire che purtroppo la Corte Costituzionale con quella decisione ha mortificato non solo oltre 2 milioni e mezzo di firme di italiani che si erano espresse chiaramente per il diritto di ciascun individuo di porre fino alla propria vita invece di subire delle sofferenze inaudite che gli strumenti della civiltà moderna dovrebbero poter impedire cosa che accade in molti degli ordinamenti anche europei che si ispirano realmente ai principi liberal democratici ma bloccando il referendum sulla responsabilità civile dei giudici e quello sulla legalizzazione delle droghe leggere per uso personale ha sicuramente dato un'ammazzata terribile anche ai 5 quesiti referendari che sono rimasti importanti ciò non toglie che sono estremamente importanti ora io credo perché bisogna votare sì il 12 giugno in modo compatti a tutti i quesiti io credo che le ragioni siano molto semplici la prima perché l'esperienza di questi anni qua oltre 2 milioni di procedimenti penali pendenti con tempi della giustizia che non rendono giustizia a nessuno dimostrano che le scelte verso il giustizialismo e la risoluzione dei problemi sociali attraverso lo strumento penale non aiutano la società anzi aumentano le ingiustizie e aumentano le impunità viceversa dare alla giustizia una dimensione in cui il giudice sia un soggetto realmente terzo e indipendente e imparziale in termini anche di autonomia e indipendenza e di giudizio verso le influenze che possono derivare dal corporativismo dall'autoreferenzialità che sono agevolate dall'unicità e dalla carriera con il pubblico ministero sia anche un bersaglio per garantire efficienza alla giustizia penale magari accanto ad altri interventi come potrebbe essere una depenalizzazione della innumerevole categoria di reati che intasano il nostro processo penale senza dare delle risposte effettive alle esigenze di sicurezza sociale ma poi c'è anche il referendum importantissimo sulla custodia cautelare oggi per chi come me batte le aule di giustizia sa che spesso la custodia cautelare non viene utilizzata per mettere fuori dalla società un soggetto pericoloso ma è una forma di anticipazione di giudizio un'anticipazione di colpevolezza una forma di pressione mediatica e anche nei confronti del giudice che contrasta con la protezione dell'innocente che è il valore fondamentale come diceva il grande giurista Federico Stella che dovrebbe caratterizzare ogni ordinamento liberale e ogni ordinamento liberale democratico altrettanto importanti sono i quesiti sulla riforma della legge Severino la legge Severino quella che prevede l'incantidabilità anche dopo le sentenze di primo grado degli amministratori nazionali e dopo primo grado locali in realtà è un omaggio eclatante alla funzione simbolica della legge perché non ha nessuna utilità perché se qualcuno viene condannato un amministratore esistono già all'interno del codice penale delle sanzioni interdittive anche più invasive perché limitano tutto il diritto di elettorato non solo quello passivo cioè il diritto di essere eletti ma anche quello di eleggere con l'unica differenza che danno un minimo di garanzia in più mentre invece le disposizioni della legge Severino ledono come ha specificato anche la Corte Costituzionale ammettendo il quesito il principio di rappresentatività democratica il pluralismo senza dare nulla di più in termini di garanzia delle protezioni d'innocenza gli ultimi due quesiti che sono squelli sul diritto di voto negli avvocati nei consigli giudiziari e quello contro la norma dell'ordinamento giudiziario che prevede per il magistrato che si vuole candidare al CSM un numero obbligatorio di firme non sono meno importanti per il fatto che la riforma approvata da un ramo del Parlamento la cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario di fatto li sorpassa prevedendo un diritto di voto degli avvocati nei consigli giudiziari e anche un sistema diverso di elezione dei magistrati al CSM di questo si potrebbe parlare ma bisognerebbe aprire un capitolo a se stante ma è la valenza politica del voto che è importante prima di tutto perché il 12 giugno quella legge non sarà ancora efficace perché il Senato ancora non l'ha privata e non è pubblicata in gazzetta ufficiale secondo perché sono due quesiti fondamentali perché l'elettorato possa dire chiaramente al Parlamento che ha il dovere poi di legiferare che due cose non sono accettabili nella nostra giustizia il primo il carrierismo del magistrato che dunque premia il giudice o il pubblico ministero che invece di fare indagini scrivere sentenze ed applicare in modo conforme le leggi ai fatti probabilmente sceglie di adagiarsi su delle logiche di corrente sulle logiche politiche quello sulla raccorda delle firme il secondo il diritto di voto nei consigli giudiziari per garantire il pluralismo nella valutazione dei giudici è fondamentale dare un riconoscimento a questa componente della giurisdizione che è quella dell'avvocatura non si può pensare che l'avvocatura sia figlia di un dio menore l'avvocatura è a tutti gli effetti componente della giurisdizione si relaziona con i cittadini ha un ruolo sociale fondamentale e dunque la presenza nella valutazione dei magistrati che sino ad oggi sono praticamente delle carte veline tutte positive è un'ulteriore espressione della volontà dello Stato di avvicinare la giustizia italiana ad una realmente liberale e realmente democratica grazie e complimenti ancora adesso diamo la voce a un altro avvocato si chiama Luca Bresigar ed è il responsabile dell'osservatorio informazione giudiziaria media e processo penale cioè praticamente del processo che si fa in piazza in televisione e sui giornali grazie Francesca è un onore essere qui è una breve testimonianza la mia io ero appena ventenne quando ci fu l'arresto di Enzo Tortora mia madre aveva un negozio mi ricordo che era frequentato da tantissima gente della mia città e in mezzo a questi clienti c'era un giudice istruttore già allora cominciò l'agonia mediatica io credo che sia stato uno dei casi più importanti di gogna mediatica quello di Enzo si voleva a tutti i costi andare a giustificare l'arresto di una persona importante di un VIP e allora a quel punto le peggiori frasi abbiamo dovuto leggere anche su carta stampata autorevole era diventato per tutti a un certo punto un cinico venditore di morte e la sua faccia e il suo atteggiamento durante l'arresto tradivano sicurezza e quindi in qualche modo si poteva immaginare davvero che lui fosse coinvolto in vicende di criminalità organizzata e chi più ne ha più ne metta mi ricordo che allora ero studente di giurisprudenza e si intavolò questo discorso la gente ne parlava e il giudice parlò con mia madre perché in quel momento io stavo cercando di difendere Enzo Tortora senza conoscere nulla ma perché mi sembrava che ci fosse davvero un escalation un'esagerazione incredibile conoscendolo come presentatore e il giudice guardò mia madre e disse ma sta facendo giurisprudenza io in realtà volevo fare il maestro di tennis in quel momento cioè sarebbe il caso che facesse l'avvocato allora qui davanti a tutti vi dico che e vorrei che sapesse il giudice che non solo faccio l'avvocato ma mi occupo anche dell'informazione giudiziaria e quindi del processo mediatico di ciò che non dovrebbe andare ad influire sul processo vero e proprio quello fu davvero io credo un caso emblematico da lì si partì con l'agonia mediatica e purtroppo si è continuato non solo faccio l'avvocato non solo mi occupo di ciò che vi ho detto sono anche scritto il partito radicale e quindi anche questo è stato frutto dell'elaborazione di quella storia e di quella che è diventata un'icona per la battaglia dei diritti e per il giusto processo cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa pare di sì in realtà arriviamo ad oggi con la presunzione di innocenza non con la presunzione di non colpevolezza ma finalmente viene recepita una direttiva europea tale per cui adesso sui giornali ci dovrebbe essere l'obbligo di usare il condizionale noi riteniamo sia un pannicello caldo ma un passo avanti comunque rispetto a quello che ci ha accompagnato sotto il profilo del processo mediatico e delle sue distorsioni in questi anni io penso francamente che questa sia un'occasione importante per riuscire anche attraverso i referendum ad andare oltre a fare vedere che comunque continuiamo anche in nome di Enzo a batterci affinché la giustizia abbia un corso diverso ho sentito parlare prima di riforme e di riforme blande in realtà tutte le volte che facciamo un passo avanti c'è purtroppo qualcosa che frena quel passo è ora di smetterla l'appello davvero è qualcosa che va salvaguardato Spangheri il professore ha parlato con assoluta condivisibilità dei concetti da parte mia del fatto che comunque ora l'appello diventa un cliché ci è sfuggito purtroppo che laddove facevamo torno a dire passi avanti ci troviamo di fronte alla confezione di una sentenza che diventava fatta per compartimenti stagni per cui diventava appellabile per compartimenti stagni l'appello è ciò che ha salvato Enzo l'appello è come è stato ricordato anche il giudizio di un giudice coraggioso che va al di là dei cliché una sentenza non deve essere giusta e non può essere giusta solo perché risponde a determinati cliché una sentenza deve essere giusta perché è giusta sostanzialmente e allora sì ai referendum in modo compatto ma sia anche all'idea che mi piacerebbe in qualche modo fosse adottata che i magistrati quelli veri giudicanti coraggiosi accanto alle foto che normalmente campeggiano sulla loro scrivania mettessero almeno la foto ideale di Enzo Tortora per ricordarsi che l'errore giudiziario è qualcosa che non deve più essere commesso possibilmente grazie 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 e ora la parola a un altro radicale storico se così possiamo dire un altro di quelli che Enzo Tortora lo ha conosciuto con lui ha vissuto e con tutti noi il dramma di quei giorni e sono molto lieto di dare la parola a Lorenzo Stricklivers grazie grazie a Roberto Giacchetti grazie a questa iniziativa che è veramente bella importante e significativa io lo dicevo ora Roberto ci sono stato in mezzo alla vicenda di Enzo Tortora quindi in questa assemblea di tanta e così alta cultura giuridica io non cercherò di parlare di aggiungere parole sulle questioni del diritto cercherò di dire qualcosa nel senso della testimonianza di quelle vicende a partire dal clima che si viveva in Italia nel momento in cui Enzo Tortora è stato arrestato è una cosa di cui in qualche modo si è persa oggi la memoria perché oggi chiunque dice Enzo Tortora la vittima l'uomo che è il manifesto della giustizia giusta e ricordiamocelo che è stato lui a inventare la formula la giustizia giusta per contestare quella che non era giustizia che era giustizia ingiusta quando Enzo Tortora è stato arrestato tutta la stampa praticamente unanime ha dipinto il mostro ecco finalmente l'hanno preso e c'era un clima intorno intorno a Tortora l'immagine di Tortora queste immagini di questo criminale bieco bieco perché con la faccia di brava persona perché con questa immagine che aveva di uomo buono alla televisione e invece e invece era un complice dei dei peggiori delinquenti e questa era l'immagine che correva che la gente raccoglieva e vedete io ricordo quando Pannella ha detto no ma qui a questo punto qui bisogna fare questa battaglia bisogna presentare Enzo Tortora ho ricevuto una telefonata da Emma Bonino e diceva beh bisogna abbiamo bisogno urgentissimamente di trovare un notaio a Milano perché vogliamo candidare Tortora e ricordo la mia reazione ma qui saremo sepolti dall'indignazione generale è giusta questa proposta non è di un momento di esitazione dire certo d'accordo ci stiamo è giusto ma andiamo ad affrontare una battaglia difficilissima andremo rischiamo di schiantarci perché questo era il clima perché questo era il clima che la stampa aveva creato la gran maggioranza della stampa questo aveva creato ed è stato da allora poi un lavoro di Tortora con Pannella con i radicali ma in primo luogo di Tortora la sua fermezza la sua dirittura questo uomo retto retto perché con la schiena dritta perché capace di indignarsi questo io ricordo il rapporto che quante volte ho avuto con Enzo quello che colpiva di più era la sua indignazione era un'indignazione che non era questo è una cosa straordinaria non era l'indignazione per il suo caso era l'indignazione a partire dal suo caso di quello che stava scoprendo dei casi dei tanti casi di cos'era la giustizia di cos'era il carcere come erano le persone che stavano con lui in carcere e quante erano probabilmente innocente e quanto erano comunque vittime di una giustizia che non era giustizia e allora appunto di fronte a questo l'uomo retto l'uomo diritto il liberale il liberale fino in fondo Enzo Tortora sentiva la necessità di appellarsi alla giustizia alla giustizia giusta contro quella vergogna voleva la giustizia giusta e questa è poi è stata la sua battaglia questa è stata la battaglia dei referendum non occorre che adesso io parli molto di questi referendum se non per ricordare che è una battaglia che continua è ancora quella battaglia la battaglia di Enzo Tortora l'indignazione di Tortora che si traduceva in quei quesiti referendari che grazie a Tortora grazie al suo coraggio grazie alla sua decisione di non accettare la protezione dell'incarico parlamentare di dimettersi per subire l'ingiusta condanna in primo grado e questo ha creato nell'opinione pubblica un moto un moto di indignazione che è stato che si è creato intorno e insieme all'indignazione di Enzo e è diventata una corrente vincente è diventata quella ondata che quei referendum allora ha portato a una vittoria straordinaria nel nome del diritto nel nome della giustizia giusta solo che poi la vicenda è stata del rovesciamento del tradimento grazie al peso della magistratura organizzata che ha convinto le forze politiche a tradire a ribaltare il referendum e poi tutta la vicenda gli anni successivi con il montare nel paese di sentimenti opposti perché a partire da quello che è successo con Mani Pulite dal ruolo della magistratura in Mani Pulite dal ruolo della magistratura in Italia nella vita sociale e politica italiana anche grazie a questo è montato quell'ondata di populismo giustizialista che è forte che è radicato in questo paese e che pesa e che di cui vediamo l'effetto oggi in questi giorni in questa cancellazione vergognosa dei referendum dall'informazione la gente non sa non può sapere i referendum ma in questi referendum che sono ancora quelli che sono ancora quelli che tornano che sono in difficoltà perché la gente non sa neanche non può sapere che si voterà e su cosa si voterà è ancora quella battaglia è ancora quella battaglia che continua dopo tanti anni ed è per questo che è giù la battaglia che oggi è più difficile di allora ma che è una battaglia importantissima è importantissima anche e soprattutto direi quasi perché grazie a questa battaglia anche in settori di opinione pubblica che sono stati permeati dal giustizialismo antigiuridico può crescere se passa l'informazione se passa la notizia può crescere una nuova consapevolezza che noi speriamo possa arrivare il 12 giugno a un successo a questi referendum ai nuovi referendum Tortora ai nuovi referendum Tortora e insieme diciamolo perché anche domani è l'anniversario della sua morte anche il referendum Marco Pannello oggi domani oggi è l'anniversario della morte di Enzo Tortora domani è l'anniversario della morte di Marco Pannella speriamo operiamo perché il 12 giugno il referendum Tortora e permettetemi anche Pannella sia una vittoria della giustizia giusta grazie grazie striche molto bello questo di dire che il 12 giugno si va a votare il referendum Tortora adesso do la parola a Giorgio Varano che è il responsabile un avvocato naturalmente avvocato penalista che è il responsabile delle comunicazioni delle camere penali grazie grazie Francesca sono state ricordate molte cose oggi ritorno a quello che ha ricordato il professor Spanger ma non solo lui cioè che dopo il caso Tortora ci fu un referendum che ebbe inizia con il 90% di sì sulla responsabilità civile dei magistrati però già allora venne meno la politica perché promulgò una legge che di fatto era una legge sulla responsabilità civile dei magistrati ma di fatto inapplicabile inapplicata perché prevedeva un filtro sull'ammissibilità e tutti quanti sappiamo basta vedere i numeri quanti procedimenti poi sono andati a buon fine i referendum perché sono importanti perché i cittadini possono dire la loro l'unico modo per dire la loro sul tema della giustizia e sono importanti anche perché per riappropriarsi della politica la politica intesa non solo come partiti come strutture politiche ma proprio come passione politica dei cittadini in questi anni si sono creati dei vuoti questi vuoti in politica vengono sempre riempiti e purtroppo sono stati riempiti da altri soggetti basta pensare al nuovo ruolo della Corte Costituzionale che io ho seguito come tutti quanti noi la conferenza stampa del Presidente della Corte mi è sembrato un intervento di un politico questi vuoti sono stati lasciati aperti dalla politica e anche nell'ambito del potere legislativo a proposito di riforme a proposito di referendum diciamo di fatto il potere legislativo e il potere esecutivo si sono fusi sono fusi nelle mani del governo basti pensare che tutte le riforme almeno le ultime due o tre in tema di giustizia o di riforma della magistratura sono basate su una delega che il Parlamento ha dato al governo quindi occorre riappropriarsi della politica degli spazi e l'unico modo è partecipare al referendum andare a votare andare a votare sì alcuni sono complicati alcuni sono diciamo magari non sono materie che proprio appassionano purtroppo anche per le scelte della Corte Costituzionale però è importante manifestare la voglia di partecipare alla politica che non si manifesta diciamo quello è un succedanio manifestarla attraverso la partecipazione sui social su altre piattaforme non porta a niente quello che è importante è il voto e bisognerebbe forse anche cercare di interrompere questa deriva dell'astenzionismo che se noi vediamo le elezioni politiche ma anche i referendum nel corso degli anni è una china costante quindi anche per questo e per dare un segnale l'importante è andare a votare quindi andiamo a votare votiamo possibilmente sì e riappropriamoci della politica dello spazio della politica noi singoli cittadini grazie grazie e adesso un altro paio di amici di Italia Viva Iva Scalfarotto deputato di Italia Viva e anche sottosegretario agli interni e poi a seguire ci sarà Cosimo Ferri che è anche diciamo ben noto per il suo impegno in magistratura prego quando Enzo Tortora fu arrestato avevo 18 anni e ovviamente uno di quegli eventi che non dimentichi credo sia una di quelle vicende che ti fanno ricordare esattamente dove eri in quel momento che cosa stavi facendo come succede con i grandi eventi storici fu un arresto che fece grandissimo colpo Enzo Tortora era parte delle nostre famiglie forse oggi noi non siamo neanche in condizione di ricordarci che cosa era la televisione in quegli anni le sue trasmissioni la sua trasmissione Portobello era un appuntamento fisso entrava nelle nostre case eravamo abituati a mangiare con lui a passare il nostro tempo con lui era letteralmente una persona di famiglia e quel giorno quando lo vidi ammanettato io non potei fare a meno di guardare i suoi occhi ed è quello che mi è rimasto probabilmente più impresso di quella giornata e di quella scena Tortora aveva degli occhi indimenticabili che io non credo di aver più visti erano occhi increduli erano occhi assolutamente increduli aveva un atteggiamento del corpo di assoluta dignità di forza era evidentemente capace di gestire quella situazione ma era evidentemente una situazione che non pensava mai avrebbe dovuto affrontare in quello sguardo io leggevo anche una fedeltà alle istituzioni repubblicane era l'incredulità di qualcuno che pensa che in uno stato sano quale quello che lui pensava di abitare a nessuno come lui sarebbe potuta capitare una cosa del genere e io credo che questo sia il vero tema credo che questo sia quello che poi ancora oggi ci resta Enzo Biaggi qualche settimana dopo scrisse una lettera al Presidente della Repubblica Pertini e disse proprio queste parole e disse quello che è successo a Enzo Tortora potrebbe succedere a chiunque di noi e credo che per chiunque abbia un impegno civile per chiunque faccia politica in particolare ma penso che valga per tutti i cittadini tenere a mente che quello che è successo a Tortora potrebbe succedere a ciascuno di noi deve essere una sorta di stella polare nella nostra attività civile nel nostro vivere la democrazia e guardate io penso che lo Stato su questo debba fare una riflessione estremamente seria io lo pensavo anche per un altro caso che è quello di Stefano Cucchi noi cittadini abbiamo in una democrazia noi cittadini deleghiamo allo Stato l'uso dei mezzi coercitivi cioè noi ovviamente non giriamo con le pistole in tasca non ci facciamo giustizia da soli noi deleghiamo tutto quello che riguarda la nostra sicurezza il diritto la giustizia a un'entità superiore che in uno Stato democratico siamo noi il patto sociale quello che ci tiene insieme è che noi singoli cittadini conviviamo pacificamente e quando c'è un problema o quando c'è un atto di violenza o quando c'è una violazione del codice penale ci sarà lo Stato cioè noi che si prenderà cura di risolvere il problema allora quando lo Stato non si avvicina a questa sua funzione fondamentale perché è una questione diciamo una funzione che ha a che fare con la natura stessa della nostra democrazia è l'intera democrazia che si indebolisce quando un detenuto non viene trattato sacralmente secondo il principio dell'Habeas Corpus quando a quel detenuto viene torto un solo capello è la nostra democrazia che soffre quando un innocente viene messo in prigione paga per un prezzo per una colpa che non ha commesso è la nostra democrazia che soffre e dato che la nostra democrazia è il bene massimo che abbiamo questo comporta che tutti gli operatori del diritto e tutti coloro che vivono la democrazia nelle istituzioni e nelle case nelle strade devono pretendere che questi diritti i diritti dell'imputato i diritti del condannato siano sempre sacralmente rispettati e quindi la lotta per una giustizia giusta non è soltanto la lotta per una macchina efficiente per delle risposte che devono arrivare rapidamente ma è il presidio dei valori della nostra Costituzione e della nostra democrazia dico questo perché quando c'è qualcosa che non va io credo che tutti dovremmo essere dalla stessa parte io non capisco lo sciopero dei magistrati se la politica si fa carico di provare a risolvere dei problemi perché i magistrati io penso debbano essere insieme ai politici insieme ai cittadini parte interessata alla risoluzione dei problemi della politica e devono io credo così come ciascuno deve farlo nel suo ruolo rispettare sacralmente anche la funzione che ricoprono io ieri ho letto un'intervista su un quotidiano nel quale un magistrato in servizio diceva di un parlamentare della Repubblica che è un pericolo per la democrazia ora io credo che quella intervista sia un pericolo per la democrazia perché nel momento in cui ripeto un magistrato in servizio tra l'altro con una posizione di leadership dentro una corrente dentro un'area di magistrati dice di un singolo parlamentare eletto dal popolo che può piacere o non piacere ma che riveste una funzione diversa e sacrale quale quella del magistrato che è quella del parlamentare dice che è un pericolo per la democrazia lì è la democrazia che si indebolisce allora quello che penso è che noi dobbiamo essere estremamente rigorosi nel chiedere che i problemi della giustizia che sono molteplici siano risolti dobbiamo chiedere una cosa fondamentale che i magistrati come chiunque rispondano sulla base della loro capacità di produrre un servizio per i cittadini che è un servizio per la democrazia come dicevo e nel momento in cui per esempio chiediamo che un pubblico ministero che istruisce un numero X di questi processi e di tutti questi processi nessuno arriva a sentenza io penso che come in qualsiasi altra funzione nel pubblico e nel privato sia legittimo anzi doveroso porsi un problema rispetto alla capacità di quel singolo individuo di ricoprire quella funzione così importante se un magistrato come chiunque non è soltanto indipendente ma non appare indipendente questo è un ulteriore problema se sulla base di decisioni si costruisce una carriera e si cerca di costruire un consenso quello è un problema perché quella singola funzione viene in qualche modo inquinata dalla ricerca di quel consenso e quell'imparzialità che è un elemento fondamentale che la funzione giustizia deve avere e mostrare ai cittadini viene meno allora io penso questo che a questo punto è fondamentale che noi mettiamo mano a una riforma della giustizia seria noi abbiamo detto che la riforma della giustizia che in questo momento è all'esame del Parlamento è inutile diciamo che non è sufficientemente forte credo che i referendum del 12 giugno siano fondamentali per produrre un cambiamento e per sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica un problema che ripeto è un problema di democrazia il 12 giugno bisogna andare a votare il 12 giugno bisogna porre il problema io credo che dalla magistratura dobbiamo aspettarci una piena collaborazione per risolvere i problemi della giustizia che sono sotto gli occhi di tutti non mi aspetto una contrapposizione della politica ma mi aspetto una collaborazione perché è nell'interesse di tutti noi che quella funzione così delicata sia efficace ed efficiente il sacrificio di Enzo Tortera io penso sia stato in un certo senso quello che ha fatto scoppiare il problema davanti agli occhi dell'opinione pubblica ciò che è triste è che a distanza di quasi 40 anni noi siamo ancora più o meno allo stesso punto il problema c'era allora allora Enzo Biagi disse che quello che successe a Enzo Tortera poteva capitare a tutti purtroppo nel 2022 quello che è successo a Enzo Tortera potrebbe ancora capitare a tutti e questo io penso in uno stato democratico non sia accettabile mai grazie grazie scalfarotto e adesso Cosimo Ferri prego grazie Bobo e grazie per questa iniziativa che penso sia importante sia importante perché oggi il tema giustizia è al centro del dibattito politico è al centro della vita quotidiana di tanti cittadini che chiedono certezza del diritto chiedono una giustizia equa giusta e imparziale quindi momenti di dibattito come questi penso che arricchiscano questo tema la campagna referendaria noi abbiamo sempre detto dall'inizio che è importante la partecipazione che crediamo nello strumento referendario che il Parlamento e la politica deve agevolare tutte le iniziative referendarie tanto che personalmente ero convinto che fosse importante anche votare anche il lunedì e non solo il 12 giugno ma anche il 13 giugno perché quando c'è la democrazia quando c'è partecipazione vince il Paese e quindi penso che sia la vittoria di tutti al di là dei dei quesiti i temi posti dai referendum intanto va detto per chi come noi che siamo alla Camera come parlamentari e abbiamo discusso in questi mesi la riforma Cartabia ecco la riforma Cartabia non risolve alcuno di questi problemi non ha voluto la Ministra volare alto cercare di dare delle risposte precise ai tanti temi che venivano posti al di là dei quesiti referendari ma che sono nel dibattito nella quotidianità della riforma della giustizia di cui ha bisogno questo Paese la Ministra ha voluto volare basso ha voluto dare vita a una riforma scritta in buona parte dai magistrati delle correnti dai magistrati che si trovano in posizioni apicali al Ministero della Giustizia e che riguardava norme che disciplinavano poi la vita non solo dei magistrati fuori ruolo ma anche di tanti temi del dibattito delle questioni della giustizia quindi è stata persa un'occasione abbiamo cercato di stimolare in Parlamento la Ministra a lavorare su una grande riforma ad affrontare i temi importanti e quindi quelli che evitino all'interno del dibattito giurisprudenziale una conformità al precedente ma che valorizzino invece la discussione la dialettica anche tra giudici e non l'appiattimento perché l'appiattimento fa morire la certezza del diritto e porta decisioni non sempre giuste sono tanti i casi su cui posso soffermarmi ma non è questa la sede il referendum diciamolo con sincerità sono però i quesiti scritti non correttamente dal punto di vista giuridico perché hanno il merito di affrontare alcuni dei grandi temi la carcerazione preventiva la legge severino il tema della separazione delle funzioni che al di là di come la si possa pensare e comunque non tocca proprio completamente il problema e quindi perché poi ci dovrebbero essere due CSM e quindi è molto più ampio il discorso che era occasione anche nella riforma cartabia di poter affrontare queste discussioni oggi comunque sia importante la partecipazione ai referendum perché penso che possa essere un segnale importante al di là del quorum che chiaramente è elemento essenziale per la validità del referendum però è importante capire anche dalla partecipazione la sensibilità dei cittadini di fronte ai temi della giustizia molte volte lo vedo anche in Parlamento sono temi troppo tecnici che non vengono spiegati in maniera chiara e semplice e diventano una materia solo per addetti ai lavori in realtà non deve essere così dobbiamo avvicinare il cittadino ai temi della giustizia senza pregiudizi senza demagogia e senza populismo ma facendo capire l'importanza di una giustizia equa nel nostro paese oggi voglio ricordare poi Enzo Tortora perché comunque è stata una grande vittima del sistema giustizia e oggi la sua storia la sua sofferenza perché comunque si parla di sofferenza e non solo di errore giudiziario ma di sofferenza anche dal punto di vista umano deve farci pensare a tutte quelle persone che soffrono anche i tempi della giustizia e penso a quando uno è sotto procedimento penale e quindi quello che comporti dal punto di vista anche umano e psicologico e quindi anche su questo tempi più certi nella risposta e anche a tanti temi come quello della carcerazione preventiva che chiaramente dal mio punto di vista diventa pericoloso escludere per reati gravi ma che deve comunque essere limitata a casi e a quando ci sono i presupposti noi nel 2015 abbiamo lavorato col governo Renzi su una riforma che in qualche modo ha cambiato i presupposti della carcerazione preventiva però poi deve essere applicata nei termini indicati dal legislatore molte volte il legislatore non riesce a essere così chiaro oppure quando la norma diventa frutto di compromesso lascia spazio a delle interpretazioni e devo dire che anche la riforma sulla custodia cautelare su cui abbiamo lavorato al governo alla fine non ha portato a quel cambio di passo visto i dati quindi prendiamo l'occasione dei referendum per partecipare al di là dei quesiti se uno ne voti uno ne voti tutti se comunque chiaramente oggi il messaggio che voglio dare non è solo nel merito ma è sul metodo e sul coinvolgimento dei cittadini di fronte a questi temi perché non riguarda solo chi è vittima della giustizia qui è sotto procedimento penale ma deve riguardare tutti per avere un paese più giusto più equo e dove davvero i cittadini possano contare sulla certezza del diritto grazie e buon lavoro a tutti grazie a Cosimo Ferri e adesso un'altra storica militante dirigente del partito radicale attualmente nella segreteria di più Europa ma un'altra che la vicenda Tortora essendo peraltro a suo tempo residente in Milano la conosce bene Simona Viola grazie Roberto e grazie Francesca avete fatto un lavoro importantissimo un lavoro fondamentale perché è un lavoro di memoria è indispensabile che chi ci ascolta che le nuove generazioni che chi per esempio ha deciso di stare a casa di non fare politica invece ricordi sappia a distanza di 40 anni quello che è successo a Enzo Tortora è giusto è doveroso che venga ricordato in momenti come questi che diventano un bilancio di quello che è accaduto in questi 40 anni e il bilancio è drammaticamente negativo ma prima del bilancio due parole sul mio ricordo di Enzo Enzo era una persona squisita una persona di grande animo un intellettuale e un signore un signore che sembrava un po' uscito dall'Ottocento era una persona che ci lascia questo fondamentale messaggio gli è caduta gli è caduta sul cranio una disgrazia immane come un errore giudiziario enorme come quello che gli è successo e invece che rinchiudersi in se stesso e cercare di limitare i danni o di proteggere la propria vita privata e la propria vicenza giudiziaria cercando di ridurre al minimo gli errori che avrebbero potuto perpetrarsi decide che questa vicenda è politica cioè che la sua vicenda personale è di tutti gli italiani è del paese che quello che è accaduto a lui può succedere a molti altri e quindi come diceva prima Lorenzo Stricklivers cosa fa? Si indigna è l'indignazione di Enzo Tortora di cui noi abbiamo ancora bisogno oggi la capacità di guardare con sconcerto con costernazione quello che accade di prendere la propria vita in mano e di fare di un'esperienza personale un'esperienza politica è una battaglia politica e da vittima di un errore giudiziario da persona che stava negli allori di una televisione che si era conquistato con la sua grande capacità ma era comunque un uomo privilegiato un uomo che parlava agli italiani la sera ce lo ha ricordato Ivan Scalfarotto entrava nelle case degli italiani con la sua trasmissione Portobello è stato portato fuori con quella foto drammatica che è impossibile non ricordare con quella faccia sconcertata incredula in manette fotografato questo è quello che è accaduto e che ancora accade e che lui ha detto non deve più accadere né a me né ad altri ed è per questo che ha accettato da persona privata da persona di spettacolo da persona da un intellettuale quale era di scegliere una strada politica che sarebbe stata altrimenti lontano da sé e che è stato un dono è stato qualcosa che ha offerto ha offerto la propria esperienza a tutta la società e a tutto il paese perché se ne potesse far uso e da lì la sua vicenda parlamentare la meraviglia del suo rinunciare all'immunità una scelta che avrebbe potuto anche essergli pregiudizievole ovviamente nelle vicende giudiziarie avrebbe potuto essere peggio per lui ma lui l'ha scelta con un coraggio e un civismo che sono propri del liberale perché la caratteristica dei liberali il segno distintivo dei liberali è la responsabilità ed Enzo Tortola ha lasciato una storia di responsabilità meravigliosa e voglio ricordare un altro immenso liberale italiano che è stato il primo che ha rotto il muro del silenzio e della connivenza bigotta e convenzionale che ricordava Lorenzo Stricklivers prima della stampa contro Enzo Tortola gettato in pasto ai lettori con le fotodrammatiche che abbiamo visto chi ha spezzato quel muro lo ha spezzato Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia che dalle colonne del Corriere ha detto io so non può essere altro che innocente Enzo Tortola nonostante il potere drammatico che gli si stava schiacciando contro della magistratura e veniamo al suo messaggio politico a distanza di 40 anni Francesca ancora oggi siamo qua siamo qua con una campagna referendaria alle porte perché dobbiamo ancora una volta cercare di sfondare a spallate un sistema giudiziario drammaticamente imperfetto che continua a perpetrare le tragedie di un tempo quelle di Enzo Tortola tutti i referendum di cui stiamo parlando sono referendum di Enzo Tortola del referendum sulla custodia cautelare e di che cosa parliamo se non della custodia cautelare quando parliamo di Enzo Tortola una persona deve andare in carcere prima di essere condannata in circostanze assolutamente eccezionali e inimmaginabili perché altrimenti deve essere considerato innocente non può essere sbattuto né in prima pagina né in galera come è successo ad Enzo e se la norma del codice di procedura penale ai tempi di Enzo fosse stata quella che propugniamo con il referendum la custodia cautelare di Enzo non sarebbe stata possibile quindi è di tutta attualità la vicenda referendaria di cui parliamo e vogliamo parlare del referendum sul CSM e sull'elezione dei magistrati non vogliamo ricordare che la tragedia occorsa a Enzo non è stata soltanto l'errore giudiziario ma il come l'errore giudiziario è successo e quello che è accaduto dopo perché quello che è accaduto è che è stato per una sciatteria imperdonabile che non sono state glette le prove e non sono stati visti gli atti del processo come avrebbero dovuto essere visti e che la procura si è innamorata di una tesi precostituita il racconto del mercante di morte e queste cose quando accadono possono accadere non devono però poi permettere che i magistrati che hanno sbagliato così tanto facciano carriera all'interno della magistratura invece che essere diciamo così contenuti nella capacità di danno che possono produrre perché il potere sulla vita dei cittadini dei magistrati è immane e possono rovinare distruggere la vita e far venire il cancro come è successo a Enzo che se ne è andato per il dolore e per la fatica umana che ha sopportato e allora il referendum sulla domina del CSM è un referendum che cerca di scardinare le correnti cioè quel modello clientelare che ancora oggi protegge i magistrati incapaci a danno dei magistrati capaci perché se sei un magistrato capace non è affatto detto che fai carriera in magistratura mentre se sei un magistrato incapace e sei associato ad una corrente sarai protetto come è stato protetto il magistrato che ha sbagliato ha drammaticamente sbagliato con Enzo ed ecco la straordinaria attualità del messaggio referendario e il referendum sulla custodia cautelare ma il referendum sulla legge severino ci dice ancora della vicenda di Enzo Tortora dove pretende anche in quel caso di condannare alle sanzioni dell'incandidabilità e della decadenza dalla carica per amministratori e politici che abbiano subito soltanto una condanna di primo grado è demagogia è demagogia per dare in pasto i colpevoli all'opinione pubblica figlia di questa cultura drammatica di populismo giudiziario che stiamo vivendo allora a fronte di tutto questo a chi ascolta Radio Eropolda e Radio Radicale a chi cerca di sapere di capire che cosa è successo all'epoca io dico impegnatevi impegnatevi come si impegnò Enzo senza bisogno che siate tradotti in carcere una mattina togliendovi dal letto impegnatevi fate politica perché come dice Emma Bonino se non fate politica voi la farà qualcuno al posto vostro e la faranno tutti coloro che oggi vi stanno con il silenzio sulla stampa che accompagna il referendum vi stanno implicitamente invitando a restare a casa a non andare a votare a restare nel chiuso del vostro privato invece c'è bisogno di impegno e c'è bisogno di politica impegnatevi in Italia Viva impegnatevi in più Europa impegnatevi dove volete ma fatelo perché la politica ha bisogno di energie e di risorse chiudo Francesca ricordando che siamo a Piazza Montecitorio a chi non è qua ma ci ascolta siamo in Italia c'è un poliziotto a 50 metri a destra un altro a 50 metri a sinistra ci stanno osservando con simpatia e con un sorriso voglio dire che qualche migliaio di chilometri da qua a Mosca non puoi neppure entrare in una piazza con un cartello vuoto bianco che finisci chiuso nelle prigioni del Cremlino finisci torturato finisci stuprato finisci licenziato allora questa libertà di cui noi oggi stiamo godendo e della quale approfittiamo giustamente è negata a tutti i democratici che vivono al di là della cortina di ferro di quel grande carcere che oggi è la Russia di Putin viva tutti coloro che in Russia trovano il coraggio e la forza di dire no a Putin no alla guerra fuori dalle carceri i prigionieri politici grazie per questa giornata Francesca e Roberto grazie Simona andiamo avanti con la nostra maratona e chiamiamo con grande piacere Walter Feliciani avvocato e promotore dell'associazione giustizia vivace in prima linea sul garantismo grazie Walter grazie Luca grazie a tutti un ringraziamento particolare agli organizzatori di questa maratona odierna perché come chi ha detto prima di me il ricordo la memoria ci aiutano anche a non sbagliare nel futuro io come tutti quanti noi siamo rimasti segnati dall'arresto di Enzo Tortora dalle foto e dalle immagini dell'uomo in manetta circondato dai due carabinieri che lo tenevano stretto e lo portavano via una persona per bene portata in carcere compiendo il più grande errore giudiziario vorrei tornare un attimo alla costituzione dell'associazione giustizia vivace che è stata un'idea mia dell'avvocato Agnese Di Santo dell'avvocato Pietro Madonia del collega Giuseppe Maria Berruti è un'associazione che vuole contenere al proprio interno magistrati avvocati ufficiali giudiziari e cancellieri perché per noi il mondo della giustizia è un macrocosmo complesso è un macrocosmo formandato da più realtà e queste realtà devono discutere tra di loro devono parlarsi e devono trovare una soluzione perché la giustizia in Italia non nascondiamolo ma va malissimo le riforme della giustizia sono dei pannicelli caldi e questo referendum della giustizia deve essere spiegato ai cittadini noi abbiamo tempo fino al 12 giugno per spiegare ai cittadini che questi referendum devono essere votati deve essere raggiunto soprattutto il quorum le persone devono andare a votare dobbiamo convincere tutti i nostri amici ad andare a votare molti prima di me hanno spiegato i quesiti referendari io e Roberto Giacchetti ne abbiamo parlato in un incontro il 31 marzo presso la sede del terzo municipio e invito tutti i nostri ascoltatori tutti gli amici di Radio Deopolda e tutte le persone che ci ascoltano in questo momento ad andarlo ad ascoltare perché abbiamo cercato di spiegare quali siano i risvolti pratici di questo referendum di rispondere sì a questo referendum perché il cittadino comune fa fatica a comprendere l'importanza del voto degli avvocati nei consigli giudiziari io faccio un invito a tutti i colleghi bisogna andare a votare bisogna far sentire la voce dell'avvocatura dobbiamo parlare con i nostri amici gli dobbiamo spiegare che è importante il voto dell'avvocato all'interno del consiglio giudiziario nel 2006 la proposta di legge di riforma dei consigli giudiziari all'inizio prevedeva la partecipazione attiva dei membri laici poi sono stati lasciati come meri ascoltatori nelle questioni di valutazione dei magistrati è importante anche spiegare che il meccanismo di elezione dei giudici deve essere modificato e bisogna votare sì al referendum per evitare il dilagare delle correnti del correntismo e magistratura dobbiamo fare quest'opera di convinzione dobbiamo spiegare ai cittadini di andare a votare il 12 giugno per questo dovremo continuare a organizzare questi eventi fino al 12 giugno cerchiamo di incontrarci cerchiamo di vederci e parlare di giustizia grazie Luciano Nobili deputato d'Italia Viva stanno per arrivare il direttore del giornale Augusto Minzolini e poi anche il senatore del Partito Democratico Salvatore Margiotta a quale siamo particolarmente grati per il fatto che viene a partecipare a questa iniziativa sappiamo benissimo qual è la posizione del Partito Democratico Luciano Nobili grazie No ma intanto un ringraziamento davvero doveroso e di cuore a Roberto Giacchetti a Francesca Scopellitti a Radio Leopolde alla Fondazione Tortora per aver organizzato questo momento 34 anni dopo le dolorose vicende che hanno riguardato Enzo Tortora è importante è una voce accesa è uno spazio di libertà e di condivisione intorno a temi che sono cruciali e fondamentali io dei miei 5-6 anni ho due ricordi vaghi uno è il secondo Scudetto della Roma la mia squadra del cuore l'altro è l'arresto di Enzo Tortora perché per me bambino Enzo Tortora era una figura televisiva familiare era Portobello era una presenza quotidiana del mio immaginario e il ricordo della dignità con cui lui affrontò una battaglia durissima oltre 270 giorni di carcerazione preventiva poi gli arresti domiciliari la totale delegittimazione con un reato infamante di cui veniva accusato in maniera totalmente ingiusta sono un ricordo nitido dei miei anni di infanzia e fra le tante ingiustizie per questo voglio ricordare il Tortora giornalista il Tortora conduttore televisivo perché fra le tante ingiustizie che sono state fatte a Enzo Tortora c'è anche questo il fatto che quando lo ricordiamo quando parliamo di lui non parliamo di un grande giornalista di un grande uomo di televisione ma parliamo di una vittima di un atroce caso di mal giustizia e anche questo è molto doloroso perché andrebbe ricordato Tortora per quello che ha fatto per la nostra cultura per la nostra informazione e poi è molto doloroso 34 anni dopo quella vicenda essere qui a parlarne con la percezione che non siano stati fatti grossi passi avanti noi ci indigniamo ogni volta che c'è una vicenda che emerge clamorosa ma ogni anno ci sono tantissime storie un migliaio ogni anno tre al giorno di cittadini innocenti che vengono incarcerati per cui peraltro paghiamo una grande mole di risarcimenti che non risarciscono lo Stato italiano spende 30 milioni di euro ogni anno per risarcire le vittime di ingiusta detenzione bene ogni anno ci sono in questo paese al di là degli Enzo Tortora ci sono mille cittadini italiani a cui viene tolto il lavoro rovinata la reputazione distrutta la famiglia distrutta la vita persone che non meritano tutto questo per le quali non c'è alcun risarcimento spesso in un meccanismo corrotto fra mala giustizia e cattiva informazione per cui all'inchiesta e ai danni che un'inchiesta ingiusta produce si sommano anche i danni della diffamazione della cancellazione della società pubblica sono mille invisibili ogni anno e anche per questo e anche in nome loro è giusto combattere abbiamo un'occasione uno strumento che sono questi cinque quesiti referendari non a caso vengono tenuti sotto silenzio non a caso si fa di tutto per non parlarne sono uno strumento importante per questo l'appello e la mobilitazione nelle prossime ore nelle prossime settimane nostra sarà anche allo scopo di fare in modo che questi quesiti abbiano successo e incontrino il consenso dei cittadini perché possono essere uno strumento per cambiare davvero una giustizia cattiva su cui non si incide mai diceva Enzo Tortora in Italia ci sono solo tre categorie che non pagano mai che non rispondono mai i bambini i pazzi e i magistrati purtroppo è così chiunque nel proprio lavoro un politico che sbaglia un giornalista che sbaglia un professionista che sbaglia viene sanzionato nelle attività di chiunque c'è questo eppure c'è una realtà in cui ci sono tanti bravi operatori della giustizia tanti magistrati per bene ma che sono indistinti da tanti che sbagliano che distruggono vite delle persone spesso per futili motivi spesso per errori materiali e i numeri di cui ho parlato mille casi all'anno non parlano di un problema fisiologico ma parlano di un problema patologico del nostro sistema giustizia anche per questo continuiamo questa battaglia anche per questo ricordiamo Enzo Tortora anche per questo ringraziamo Radio Leoporda Roberto e Francesca per questa bellissima giornata grazie e adesso la parola a Roberto Giacchetti allora come preannunciato sono arrivati sia Salvatore Margiotta deputato del Partito Democratico che Augusto Minzolini Salvatore deve scappare via e quindi a questo punto gli do volentieri la parola e lo ringrazio moltissimo ripeto perché ci mancava una presenza diciamo che venisse anche da un'area politica che sappiamo perfettamente ha fatto una scelta diversa e però Salvatore è uno che nella sua storia certamente non si troverà in difficoltà a motivare qui le ragioni rispetto al referendum e soprattutto le ragioni di una battaglia sulla giustizia giusta che Enzo Tortora ormai tanti anni fa ha lanciato prego grazie Salvatore intanto grazie a Roberto parlare tra Luciano Roberto e Augusto Minzolini è cosa come dire non da poco non entrerò nel merito dei singoli referendum e di come voterò su ciascuno di essi mi pare che parlare di Enzo Tortora in un anniversario che riguardi Enzo Tortora ci debba far riflettere soprattutto sul tema della carcerazione preventiva al di là della tecnicalità per cui non c'è dubbio che l'abolizione della legge così com'è creerà qualche problema per cui io speravo che ci si mettesse mano ci sono purtroppo troppe vicende che riguardano la carcerazione preventiva che io conosco che ciascuno di noi conosce che messe insieme mi fanno pensare che sia assolutamente necessario una riforma di questo istituto il caso di Enzo Tortora è il più eclatante nella testa di tutti noi risuonano le parole che disse alla fine della sua deposizione sul io sono innocente mi auguro con tutto il cuore che lo siate anche voi è una di quelle frasi che secondo me nel solo ascoltarle fanno venire i brividi purtroppo conosco troppi casi in cui la carcerazione preventiva ha rovinato esistenze ha rovinato esistenze professionali ha rovinato imprese ha ucciso politici e carriere politiche ma saremmo ingiusti se pensassimo solo a questo i numeri dicono io i numeri tengo moltissimo e quindi non voglio citarlo per non sbagliare il dato ma i numeri dicono che le persone che sono in galera in attesa di giudizio quasi sempre persone deboli molte di loro immigrati molte di loro senza in grado di pagare una difesa che riesca a dargli una mano sono numeri spaventosi cioè c'è tanta gente che fa per sei mesi la carcerazione senza che abbia avuto una sentenza di condanna a me questa cosa fa capponare la pelle e quindi credo che sia giusto che la politica non solo si interroghi ma trovi soluzioni il referendum certamente non è la soluzione migliore di tutte lo dico anche da parlamentare di lunga data che sente di avere il dovere di fare le leggi prima che i referendum le correggano e però se non c'è altra strada quella è la strada più giusta per cui la mia decisione in tal senso è che alcuni dei referendum pur non avendoli sottoscritti io li sosterrò voglio dire un'altra cosa politica che mi ha colpito molto non volevo parlare per non entrare in polemica ma insomma oggi c'è un'intervista di Ermini vicepresidente del CSM a Repubblica dice a un certo punto la riforma cartabia non è epocale ma è utile e io mi chiedo ma se se non si fa una riforma epocale oggi quando la si fa e questa frase mi ha molto colpito anche per questo sono qui grazie un grazie davvero grande a Salvatore e ritorna al suo lavoro e a questo punto mi fa molto piacere dare la parola alla terzo direttore di oggi abbiamo avuto stamattina Barbano abbiamo avuto Sanzonetti e adesso Augusto Minzolini grazie sono molto contento di essere venuto qui per tanti motivi intanto per la figura di Enzo Tortora io credo che forse è stato il primo esempio in cui un paese sordo probabilmente diciamo abituato a ragionare in termini che diciamo la magistratura la giustizia deve essere giusta per forza ha capito che possono che esiste anche una giustizia ingiusta cioè una giustizia che di fatto è formale ma nel contempo di fatto crea tanta ingiustizia dopo di lui lo hanno scoperto in molti e il dramma è esattamente questo che da allora però nessuno si è ribellato tante delle questioni che hanno un po' caratterizzato la vicenda tortora a cominciare dalla custodia cautelare e tutto il resto cioè dimostrano che di fatto questo paese malgrado una serie di interventi legislativi che ci sono stati è rimasto nella condizione di allora abbiamo fatto diciamo delle riforme spizziche e bocconi ma nella realtà tutto è rimasto quello che era io quello che penso è esattamente questo abbiamo avuto una fase in cui delle figure togate si sono sentite onnipotenti se vediamo diciamo e ragioniamo sulla storia di questo paese degli ultimi 40 anni ci sono stati personaggi che con un'iniziativa giudiziaria con un'inchiesta un'indagine che poi molto spesso non ha avuto nessun esito hanno cambiato il corso della storia e purtroppo questa cosa qui va avanti continua diciamo ad esserci con un meccanismo perverso che crea una miscela in cui non ci si capisce più tra giustizia politica tra protagonismo mediatico e imparzialità tutto è rimasto diciamo confuso creando soltanto un numero di vittime di cui è costellata la storia della Repubblica inoltre cosa non indifferente il maggior problema che noi abbiamo come paese è l'assenza di una classe dirigente in questo è stato questo modo di gestire la giustizia che ha creato una condizione così deficitaria perché da una parte da un momento all'altro è stata spazzata via un'intera classe dirigente dall'altra la lezione di non avere delle garanzie la lezione di capire che se uno si espone rischia ha portato tanta gente a disinteressarsi della politica ormai è difficile trovare qualcuno che si cimenta che si butta in mezzo che cerca in ogni caso diciamo di fare quello che dovrebbe fare diciamo un paese esprimere la migliore classe dirigente e dargli la possibilità di gestirlo tutto questo non c'è stato ma immaginate soltanto le contraddizioni che ci sono io una di fatto l'ho vissuta esattamente come Enzo Tortora Enzo Tortora si è trovato in un momento per cui per le istituzioni per il Parlamento era un perseguitato per la magistratura era invece un pregiudicato la stessa cosa è successa a me e capite il dramma perché da questo punto di vista se credi nelle istituzioni se credi nella magistratura se credi nella politica è chiaro che questa situazione è sospesa da una parte all'altra ti dimostra che tutto quello che pensi non è così chiaro è tutto relativo non sai alla fine neanche se davvero sei nel giusto o meno tutto questo purtroppo però non è cambiato anche la riforma io dico il tentativo della cartabia secondo me è intaccato pochissimo questa situazione qua in più in una condizione del paese in cui prima avevamo dei PM onnipotenti queste figure strane ora non c'è neanche quello perché loro stessi i vecchi diciamo santoni di una volta sono stati vittime esattamente dello stesso gioco per cui abbiamo una sorta di impotenza determinata dal fatto che è difficile immaginare in questo paese abbiamo diciamo chi governa questo paese è solo una grande palude questa palude però che cosa fa viene mantenuta dal fatto che una parte ne ha soffruito si sente garantita e un'altra non ha la forza per cambiarla non ha la forza per cambiarla per un motivo molto semplice per un sentimento che è quasi diciamo ovvio per paura quando io vedo diciamo quello che sta avvenendo nella campagna referendaria che si è svolta in sordina che di fatto diciamo non è che in questo momento diciamo vedi senti nell'area un referendum che soprattutto ci riguarda tutti ci riguarda proprio diciamo nella nostra carne perché il sistema la questione giudiziaria va avanti da 40 anni ti dimostra che nessuno vuole impegnarsi perché per la paura forse di perderla questa occasione però se ragionassimo tutti così se davvero c'è noi dovessimo fare soltanto le cose in cui siamo sicuri in cui siamo sicuri di vincere chiaramente non avremmo cambiato il mondo abbiamo un po' l'esempio lì dell'Ucraina se per caso di fatto gli ucraini ci fossero stata l'aggressione russa e avessero dovuto farsi i conti su quante comorabilità avevano di vincere o meno non avrebbero neanche tentato tanto per essere chiari di combattere allora io credo che da questo punto di vista sia necessario da parte di tutti una mobilitazione pensando perché lo vedi davanti a tutti che sei nel giusto e magari casomai anche diciamo ribellarsi a questa sorta di congiura del silenzio che sta caratterizzando la vicenda referendaria io mi dispiace l'ho scritto ma immaginare che un referendum così importante di referendum così importanti si svolgano soltanto un giorno solo beh ti dà l'idea che c'è una sorta di complicità un atteggiamento che punta diciamo a far perire sul nascere ogni tentativo di riforma e la stessa cosa vale per quanto riguarda la campagna io credo che chi è interessato i comitati i partiti tutto quello che di fatto si è mosso sulla giustizia dovrebbe mobilitarsi e far sentire la sua voce grazie ringraziamo Augusto Minzolini direttore del giornale e sto per dare la parola a un altro collega Massimo Ungaro collega ovviamente Italia Viva e vorrei però annunciarvi che siccome siamo passati dal sole a 40 gradi e iniziano a cadere le prime gocce di pioggia è del tutto evidente che non tanto per chi parla che potrebbe anche prendere la pioggia ma abbiamo tutti i macchinari che se inizia a piovere impediscono di poter proseguire la nostra maratona che comunque va avanti dalle 10 di stamattina quindi comunque siamo fatti le nostre quasi 7 ore e lo dico così per preavvisare per preavvisare anche Radio De Bolda e Radio Radicale che magari saremo costretti a interrompere prima e intanto do la parola a Massimo Ungaro Io ringrazio Roberto per aver organizzato questa fondamentale iniziativa di commemorazione a 34 anni dalla morte di Enzo Tortora e quindi mi sembra importante esserci e partecipare a questa maratona oratoria siamo in diretta su Radio Leopolda e anche su Radio Radicale saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e ovviamente mi complimento per questa importante iniziativa politica che è fondamentale è fondamentale perché ovviamente noi ci vogliamo essere un partito garantista ma non lo facciamo per noi lo facciamo per il nostro Paese in cui a volte ci si dimentica che garantista non è un campo non è una parte garantista è soltanto volere il rispetto dei valori costituzionali quindi non esiste una equidistanza tra garantisti e giustizialisti come alcune persone vorrebbero farci credere e quindi garantismo è soltanto il rispetto dei valori fondamentali perché è importante perché Tortora non è stato soltanto una meteora un caso unico in realtà è stato un caso il primo di casi eminenti di mala giustizia di mala informazione io ovviamente non ero nato in quegli anni ma so molto bene ci hanno tramandato come il Paese si era diviso tra colpevolisti e innocentisti tra chi si era messo contro chi si era messo a favore chi si discuteva nei bar e in ogni posto su appunto la presunta colpevolezza di Enzo e quindi è importante anche ricordarci oggi che poi quanto sia fondamentale come volete la nostra Repubblica la presunzione di innocenza un valore spesso calpestato però consentimi Roberto io vorrei fare un'altra riflessione un pochino più di nicchia in quanto voi sapete io ho vissuto la maggior parte della mia vita all'estero e come italiani all'estero a volte ci sentiamo un po' lontani dai temi della giustizia perché si affatica a capire che sulla giustizia in Italia c'è un rapporto speciale e unico nel nostro Paese un rapporto unico di come appunto vanno un po' rimessi in equilibrio i rapporti tra il sistema giudiziario e il sistema politico io capisco anche che nel nostro Paese è ormai evidente che tutti i disservizi o comunque le decisioni sbagliate prese dai magistrati non vengono veramente punite non ci sono veramente sanzioni non ci sono veramente conseguenze è anche per questo motivo che noi continuiamo a chiedere che venga introdotta la responsabilità civile per i magistrati poi se guardiamo un attimo e facciamo un passo indietro storicamente capiamo molto bene che per un Paese con la storia come la nostra era fondamentale negli anni 40 dopo la guerra creare un sistema in cui appunto si frammentasse il potere politico in quanti più rivoli possibili e soprattutto non ci fosse il limite all'azione giudiziaria quindi era molto comprensibile nel dopoguerra per i motivi storici che ci hanno portato a quello ma dopo 70 anni dobbiamo cominciare a ripensare il fatto che appunto ci sono stati gli abusi che vanno in qualche modo limitati che vanno in qualche modo su cui bisogna intervenire per cercare appunto di porvi rimedio e quindi è importante ricordare Enzo Torto e il suo sacrificio per ricordarci che il tema della giustizia è un tema fondamentale su cui dobbiamo intervenire innanzitutto appunto per cercare di applicare dei bilanciamenti o comunque dei pesi e cercare di evitare che ci sia un'azione illimitata dell'azione penale che appunto può portare delle tragedie personali Enzo Torto è solo il primo di una lunga di una lunga coda di casi di mala giustizia o comunque di persone che sono state condannate ingiustamente e questo ci ricorda appunto la nostra azione politica in Parlamento e nelle istituzioni per appunto rinquilibrare e cercare di mettere i paletti e anche per questo è il motivo che noi voteremo sì ai referendum sulla giustizia del prossimo giugno è importante farlo e speriamo ovviamente questo è il mio auspicio e so bene che vi devo attenere a tempi britannici visto che sta per arrivare a un temporale e non vorrei che insomma l'equipaggiamento venga messo in condizioni manomesse è importante ricordarci sul fatto che la guerra non è finita insomma che questa guerra è un po' eccessiva ma questo conflitto tra i diversi poteri dello Stato continua ed è importante che si arrivi a una pace a una vera pace a un cessato il fuoco tra magistratura e politica un conflitto cominciato negli anni 90 con mani pulite che forse aveva anche una sua ragione ma che ovviamente è completamente degenerato prima con l'Italia dei valori di Pietro e poi è completamente degenerato nell'antipolitica del Movimento 5 Stelle quindi io credo che ci sono anche ottimi motivi politici per far sì che questa non rimanga una battaglia di nicchia o di una piccola ridotta di pochi partiti ma che venga invece abbracciata come una gran iniziativa culturale e politica anche dei partiti di massa e da tutta la società italiana e per questo che è importante essere qui in piazza per ricordare Enzo Tortra e noi ci saremo oggi come anche l'anno prossimo ti ringrazio grazie grazie a Massimo Ungaro soprattutto grazie al tempo che continua ancora a tenere ci consente di dare la parola a un'altra amica che non ha davvero bisogno di presentazioni ed è Margherita Boniver che è venuta a trovarci e alla quale diamo volentieri la parola così come viene grazie quando Francesca Scopelliti mi ha chiesto di venire e partecipare a questa maratona ovviamente non ho potuto che dire sì e dire sì anche con entusiasmo perché le battaglie per la giustizia giusta sono le nostre battaglie sono le battaglie dei socialisti quando c'erano i socialisti erano le battaglie per Forza Italia quando ho partecipato anche a dei dibattiti molto vivaci sono le battaglie con i nostri amici e compagni radicali che abbiamo portato avanti da anni con il compianto Mauro Mellini avevamo messo in piedi un'associazione che si chiamava per l'appunto giustizia giusta ma tutto ciò evidentemente non basta il lungo e doloroso e drammatico calvario a cui è stato sottoposto Enzo Tortora è una vergogna assoluta credo che tutti quelli che hanno preso la parola in questa manifestazione abbiano detto più o meno le stesse cose è una vergogna in assoluto soprattutto per la magistratura italiana non so se quando adesso fanno i concorsi per la magistratura portano in evidenza quello che è stato probabilmente il processo più orrendo più drammatico più sbagliato un orrore giudiziario senza fine con reati accusato di reati Enzo Tortora senza la minima senza il minimo riscontro e poi quando poi alla fine si è in qualche modo arrivata è una conclusione opposta a quello che ritenevano i giudici nessuno di questi ha mai chiesto scusa né a Enzo Tortora né ai suoi familiari che hanno evidentemente compartecipato a questo doloroso calvario e già questo significa aggiungere vergogna alla vergogna e all'impunità in qualche modo sappiamo lo sappiamo perché abbiamo visto negli anni che i magistrati che avevano commesso questo clamoroso errore giudiziario non hanno mai avuto un interruttore di carriera hanno continuato imperterriti a svolgere le loro mansioni come se nulla fosse e addirittura poi quando c'era stato il referendum voluto dai socialisti e dai radicali per la diciamo permettere fine a questo tipo di errori e di sbagli per i quali poi appunto i magistrati non sono mai chiamati a rispondere abbiamo visto che le cose hanno continuato imperterrite nel loro corso veramente vergognoso quindi una vergogna per la magistratura una vergogna per la nostra democrazia una vergogna che tutto questo continui in qualche modo disconoscendo le parole che Enzo Torto aveva lasciato per iscritto quando diceva speriamo che la mia vicenda personale in qualche modo sia da monito e sia in qualche modo una faccenda irripetibile purtroppo invece la storia ci ha insegnato che questi errori giudiziari si sono ripetuti all'infinito le cronache anche quotidiane sono piene di questi misfatti veri e propri sappiamo che tutte le misure che sono state messe in atto per cercare di raddrizzare questo vergognoso andazzo questo fallimento della magistratura poi la giustizia è una diciamo una base fondamentale per ogni democrazia quindi evidentemente anche per la democrazia italiana tutti tutti questi sono stati diciamo questi tentativi sono stati riscontrati con una sorta di fallimento quindi cosa ci rimane oggi ci rimane evidentemente il momento referendario si dovrà votare io credo con convinzione mi auguro che ci sia poi il numero legale per il quorum per questi referendum voluti e sostenuti da alcune forze politiche osteggiate evidentemente da altri il giustizialismo purtroppo impera ancora nell'aula alle mie spalle abbiamo visto i tentativi assolutamente vergognosi di abolire la prescrizione di abolire ogni sorta di tentativo di riforma di quello che era il giusto processo di affossare ogni tentativo riformatore e non giustizialista da una classe politica che si è rivelata troppo spesso debole ricattata o addirittura che si è voltata dall'altra parte quindi in nome della memoria della vicenda di Enzo Tortora credo che questa battaglia per la riforma della giustizia in Italia debba continuare fino a raggiungere gli scopi di scopi desiderati quindi viva l'Italia e viva la giustizia giusta grazie 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 a Margherita Boni per adesso prima di dare la parola a Francesca Leoncini che è consigliera comunale a Roma peraltro tra i primi eletti della lista che era stata presentata la lista civica in appoggio a Calenda insieme a Casini vorrei dare la parola perché anche questo con Francesca abbiamo pensato di inserire nella nostra iniziativa vorrei la parola a Fabrizio Barbone che ci legge prima di dare la parola a Francesca Leoncini e agli altri che verranno ci legge alcune delle lettere che Enzo Tortora ha scritto Fabrizio prego grazie buonasera a tutti io prima di leggere la lettera però volevo un attimo leggere quello che come si dice la post fazione finale del libro che è molto interessante a quasi 30 anni dalla morte di Enzo Tortora la sua compagna Francesca Scopelliti consegna alla memoria degli italiani una selezione delle lettere che il celebre giornalista e presentatore televisivo le scrisse dall'inferno del carcere nel quale era stato sbattuto per pentito dire arrestato nel 1983 per associazione camurristica e spaccio di droga la star amata da decine di milioni di italiani vive in quei giorni l'incubo di una giustizia ferma al medioevo e promette di battersi fino all'ultimo non soltanto per affermare la sua estranetà alle accuse ma anche per denunciare le aberranti condizioni di vita dei detenuti promessa mantenuta Enzo Tortora diventerà di Lidia a poco il grande leader politico della battaglia per una giustizia giusta culminata con la vittoria schiacciante poi tradita dal Parlamento del referendum per la responsabilità civile dei magistrati uno schianto che non si può dire carcere di Regina Celi giugno 1983 mia cara Francesca so che non vuoi che io dica grazie ma è difficile evitarlo spero di far uscire questa lettera qui tutto è infinitamente per me assurdamente difficile burocratico lunare mi tiene in piedi solo la volontà di dimostrare a quelli che amo di essere innocente e di uscirne a testa alta ma è stato atroce Francesca uno schianto che non si può dire ancora oggi a sei giorni dall'arresto chiuso in questa cella 16 bis con altri cinque disperati non so capacitarmi trovare un perché una ragione trovo solo un muro di follia se è possibile questo Francesca è possibile tutto sono cambiato dentro credimi sono diverso amaro distrutto se resisto lo faccio per un orgoglio disperato e per dimostrare alle figlie a tutte le persone che mi stimano e che mi hanno amato a te a tutti che non sono un gangster mi verrebbe da ridere amore se la cella non fosse vera le manette autentiche le notizie messe sul serio non so cicciotta se domani giorno dell'interrogatorio il tuo buon dio o i miei dei o la rabbia lucida che mi divora mi daranno la forza di convincere i magistrati che hanno preso un abbaglio mostruoso che è tutta una montatura ma di chi e che questo è solo un incubo terribile ma il male è fatto sai è il mio lavoro polverizzato sarà lunga forse è improbabile ricostruire la verità perché io non voglio mezze misure voglio battermi fino all'ultimo per uscire pulito amore non so niente credimi te lo giuro con lacrime agli occhi è come se mi avessero catapultato sulla luna ora so che tutto è possibile è come se mi avessero accusato di aver ucciso mia madre mi dicessero di averne le prove grazie cicciotta per le tue parole ti stringo forte al cuore ma non ti nascondo ho paura per la prima volta in vita mia ho paura sei giovane cambia paese questo non esiste più se è possibile annientare un innocente così è possibile tutto sì spero di vederti ma devo dire spero Francesca sarò forte per voi ma il cuore mi si spezza dentro a poco a poco l'umiliazione è indicibile qui non si è più uomini ma bestie Francesca sono una bestia che ragiona e parla come un uomo ma che serve sono innocente quanto te o Silvia ma a che serve grazie ti stringo forte al cuore sì dormirò in questo lezzo e gli unici amici sai chi sono i detenuti in cella che mi hanno guardato in faccia e mi hanno detto non c'entri e terrò la tua mano nella mia ti stringo forte prima di giocarmi tutto o quasi tutto nell'interrogatorio e di domani amore sii benedetta penso adesso posso la parola a Roberto Giacchetti che presenterà la presento io Francesca Leoncini consigliata del Comune di Roma grazie Fabrizio devo dire che le parole lette da Fabrizio tratte dalle lettere di Enzo Tortora dal carcere ancora oggi a 30 anni dalla sua morte toccano profondamente il cuore e sono drammaticamente dolorosamente attuali in un paese in uno stato democratico come l'Italia in cui c'è una giustizia che purtroppo lede i diritti dei cittadini invece di difenderli e tutelarli ancora oggi è assurdo che la giustizia possa essere o una gogna politica e mediatica oppure un labirinto in cui i diritti del cittadino si perdono e vengono lesi se non annullati e pensare che 30 anni fa quando Enzo Tortora all'apice della sua popolarità viene scaraventato dalle vette dell'Olimpo televisivo al girone dantesco del carcere da un magistrato che poi non dovrà rendere conto a nessuno di quello che è stato uno degli errori giudiziari più drammatici che la storia ricordi non c'erano ancora stati quelle che sono oggi riconosciute come le due gogne politiche giudiziarie più drammatiche come quella di mani pulite e poi per ritornare alla capitale la cosiddetta mafia capitale eppure ancora oggi dopo 30 anni il sacrificio di Enzo Tortora che per la prima volta in Italia ha acceso ai riflettori davanti all'opinione pubblica e ai cittadini di quello che è lo Stato in cui versa la giustizia del nostro Paese uno purtroppo dei nodi politico costituzionali irrisolti in questo Paese in cui manca una riforma costituzionale completa e che nel 2016 purtroppo il referendum ha mancato ancora rimane un nodo acceso 30 anni dopo sono ancora le gogne politiche su cui magistrati che non devono rendere conto a nessuno se non al CSM che con sanzioni ridicole mette mano ad errori che costano purtroppo la vita ai cittadini se non la vita materiale perché Enzo Tortora purtroppo anni dopo aver riconosciuto pienamente i suoi diritti purtroppo è stato strappato alla sua famiglia da un male incurabile invece molti cittadini vedono la loro vita i loro diritti la loro dignità professionale l'esa è portata via da magistrati che purtroppo utilizzano spesso la giustizia per fini politici se non addirittura per come abbiamo visto negli scandali portati alla luce uno fra tutti il caso Palamara soltanto per interessi personali e di parte credo che un paese come l'Italia che ha una democrazia costruita negli anni con il sacrificio dei cittadini usciti dalla guerra partigiana dai volontari non meriti una giustizia del genere io credo che un paese democratico senza una giustizia degna di questo nome non possa dirsi tale io credo che questa sia la vera emergenza democratica italiana una riforma della giustizia e la cosa drammatica è che per questo paese per il Parlamento non è la priorità e la nostra vera battaglia è scendere nelle piazze il referendum che si terrà il 12 giugno è una delle occasioni che abbiamo per portare davanti all'opinione pubblica italiana il tema della giustizia sia un'occasione purtroppo per i cittadini italiani a meno che non si trovino invischiati e mischiati nella giustizia ordinaria questa non è una priorità sembra una priorità soltanto per chi si trova coinvolto per chi porta avanti una carriera politica o delle battaglie all'interno delle istituzioni invece questo è un tema che riguarda tutti noi perché prima o poi fare i conti con il sistema contorto del nostro sistema giudiziario sono tutti un sistema giudiziario con tre gradi di giudizio con soprattutto con dei magistrati non tutti perché dobbiamo ricordarlo che all'interno ci sono delle professionalità che hanno dedicato la loro vita hanno sacrificato se stessi a questi a questi principi però all'interno ci sono bisogna anche dirlo bisogna anche dirlo che bisogna bisogna ordinare e ridisegnare il sistema professionale quindi dividendo anche le carriere tra i magistrati e i magistrati inquirenti e quelli giudicanti perché tutto questo non va che ad appesantire e soprattutto a rendere torbido quello che invece dovrebbe essere un percorso lineare che invece di ledere le garanzie istituzionali costituzionali del cittadino dovrebbe andarle a garantirle invece oggi assistiamo al fatto che un cittadino quando si trova coinvolto in un percorso giudiziario inizia si trova avvolto in una spirale degna di un girone dantesco dove perde ogni diritto costituzionale e non può essere così la giustizia deve garantire i diritti costituzionali non deve lederli o annullarli ne va di un sistema democratico quale è lo stato di diritto italiano e io trovo assurdo che nel 2022 quella che è la repubblica nata dalla lotta partigiana abbia una giustizia che non è quella degna di un paese europeo ma del peggiore paese retrogrado e dittatoriale le lettere di Enzo Tortola dal carcere sembrano le lettere di un moderno Antonio Gramsci con la differenza che Antonio Gramsci era stato sprofondato nel carcere di Regina Celi dalla dittatura fascista mentre invece Enzo Tortola dal sistema giudiziario di un paese democratico quella della repubblica italiana quella che si ispirava tra gli altri anche a intellettuali e politici come Antonio Gramsci io penso che chi viva in questo paese chi svolga un'attività professionale attività polia chi sia un rappresentante istituzionale a tutti i livelli dello stato italiano non possa sopportare questo ma siamo ancora in pochi a dirlo siamo ancora in pochi perché perché pensiamo che questo coinvolga soltanto una minima parte dei cittadini italiani quando invece coinvolge tutti e non solo coinvolge anche il nostro sistema economico ma non soltanto quello civile quello politico economico che è a sostegno del progresso e dello sviluppo di questo di questo paese ma quante sono le aziende che non vogliono investire in Italia perché proprio a causa dei cavilli burocratici che sono creati anche dalla lentezza del nostro sistema giudiziario un paese senza giustizia non ha futuro un paese senza giustizia non è un paese democratico un paese in cui uno dei tre poteri fondamentali dello Stato è l'unico potere che nella costituzione definita dai nostri padri costituenti purtroppo è l'unico potere illimitato senza che abbia un un limite sancito da qualcuno che possa che possa giudicare magistrati che non devono rendere conto a nessuno del del loro operato io credo che questo sia il vero il vero problema il vero limite della giustizia italiana e purtroppo sono stati troppo pochi i casi isolati anche se drammatici abbiamo stiamo parlando oggi nel trentennale della morte di Enzo Tortora ma sono stati altri casi altrettanto drammatici io penso per esempio quella che è stata probabilmente la gogna politico-giudiziaria per eccellenza che purtroppo nel nostro paese agli inizi degli anni 90 ha sancito il il passaggio tra la fine della cosiddetta prima repubblica la seconda per esempio al sacrificio di Bettino Craxi che purtroppo anche in quel caso non è servito ad accendere ad accendere un faro sul sul fatto che alcuni giudici alcuni magistrati utilizzino il loro potere a fini politico-giudiziari senza perseguire quello che giustamente dovrebbe essere invece il fine democratico quello di realizzare e perseguire oggettivamente la pena una giustizia giusta penso che questo non sia soltanto un termine ridondante credo che forse possa rendere agli occhi dei cittadini anche quelli più semplici anche quelli che sono forse più distanti dalla drammaticità di alcuni eventi il fine che noi vogliamo realizzare in Italia partendo da questi referendum del 12 giugno che forse sono un piccolo faro marginale che si realizzeranno purtroppo in occasione dell'inizio dell'estate con una con una visibilità mediatica molto ridotta ma penso che sia dovere di tutti noi soprattutto quelli che hanno una un ruolo istituzionale sforzarsi per esemplificarli a tutti nelle scuole oggi si fa ancora troppo poco per spiegare ai ragazzi il valore del nostro sistema costituzionale e soprattutto di quale sia il ruolo civico degli attori costituzionali sia a cominciare a cominciare dai magistrati nel 1992 il sacrificio di due grandi magistrati quelli di Falcone e Borsellino fecero vedere quale di quale stoffa sono stati in grado di portare avanti quale senso dello Stato hanno avuto certi magistrati e soprattutto come proprio all'interno del sistema giudiziario stesso abbiano avuto ostacoli e sabotaggi e già anche questo molti anni dopo il caso Tortora avrebbe dovuto mettere luce di alcuni aspetti opachi e torbidi all'interno del sistema giudiziario mentre invece molto spesso oggi chi è che parla di giustizia sono stati quegli stessi magistrati che invece all'epoca hanno sabotato quel lavoro ecco penso che oggi abbiamo una grande opportunità con questi referendum l'opportunità di parlare di nuovo all'opinione pubblica senza fraintendimenti di quali siano le priorità per la giustizia quindi il 12 giugno bisogna andare a votare con convinzione sì ai referendum soprattutto con l'obiettivo di dare una giustizia giusta a tutti i cittadini e rendere finalmente piena dignità a tutti nel ricordo del nome di Enzo Tortora grazie grazie a Francesca intanto salutiamo Massimo Wertmuller che è arrivato qui a cui tra poco daremo la parola prima adesso diciamo in questa maratona ce ne siamo inventate di tutte e adesso tentiamo anche un'operazione che è veramente oltre i limiti del possibile però c'è una ragione per cui la facciamo perché la persona che stiamo tentando di fare intervenire via telefono è una persona molto importante riguarda tutta la vicenda di Enzo Tortora perché è uno degli avvocati il principale avvocato che ha seguito tutta la vicenda di Enzo Tortora nella sua fase fin dall'inizio e fino poi al risultato della soluzione in appello si chiama Raffaele della Valle è un avvocato che adesso se non erro è a Milano e che quindi non poteva essere presente fisicamente ma che ripeto lo dico per chi ci ascolta da Radio Leopolda lo dico per chi ci ascolta da qua lo dico per chi ci ascolta da Radio Radicale è chiaro che stiamo tentando un'operazione che non è esattamente tecnicamente tra le migliori però speriamo che qualcosa si riesca a trasmettere io non so se dalla regia se no io posso continuare a parlare ancora anche adesso io la sento avvocato della Valle buonasera la sentiamo noi stiamo facendo questa maratona oratoria in ricordo di Enzo Tortora e lei sicuramente ha dei ricordi molto più importanti dei nostri essendo stato a lui accanto in quanto difensore in tutta la vicenda giudiziaria di Tortora e poi se lo ritiene anche abbiamo collegato questo alla battaglia sulla giustizia giusta che per noi nell'appuntamento del prossimo 12 giugno con il referendum ha sicuramente diciamo una continuazione rispetto a quello che Enzo lanciò fin dai primi anni 80 prego avvocato della Valle Francesca Francesca come vedete mi vuoi assumere perché ho sentito pochissimo del contenuto hai sentito pomo ma guarda se tu adesso fai questo questo adesso come capite diciamo Roberto Giacchetti stiamo facendo questa cosa che diciamo è anche in sé divertente però l'unica cosa sicura è che la voce si sente tutto sommato bene lo dico ai tecnici che ci stanno assistendo e che erano molto preoccupati per la qualità io pensavo che sarebbe stato molto peggio quindi non appena adesso in privato Francesca mi dà la conferma possiamo chiedere all'avvocato della Valle Raffaele della Valle ripeto uno degli avvocati il principale avvocato che ha seguito Tortora in tutta la sua vicenda un avvocato che è un noto avvocato milanese e che ci può portare il suo contributo quanto prezioso in una maratona che ha come oggetto certamente il ricordo a 34 anni della morte di Enzo Tortora e contemporaneamente come abbiamo spiegato nei nostri interventi anche però l'obiettivo di collegare questa battaglia per la giustizia giusta di cui lo stesso Tortora l'avete sentito negli interventi che abbiamo oggi avuto qui in piazza volle chiamare così la battaglia per la giustizia giusta e che saluto peraltro altri amici che sono venuti a trovarci l'amico Ruggeri di Forza Italia che oggi Forza Italia diciamo era stata un po' nell'ombra nella nostra manifestazione invece oltre che con la senatrice Modena che ovviamente è intervenuta e siamo felicissimi di aver avuto ma ecco dalla camera non avevamo visto nessuno è arrivato un eminente esponente di Forza Italia che saremmo ben lieti di ascoltare così come vorrei capire se siamo in grado possiamo possiamo a questo punto andare credo Avvocato della Valle buonasera e grazie del suo intervento ringrazio per avermi chiamato e per avermi permesso di dire queste poche parole in occasione di questo ricordo di questa grande uomo che è stato Enzo Tortola grande uomo grande amico e grande studioso e che in sostanza deve essere tenuto in grande considerazione e soprattutto perché ha cercato di porre l'attenzione sui problemi o meglio sul pianeta giustizia in generale quello che dobbiamo dire oggi a 34 anni di distanza dobbiamo chiederci che cosa è servito se è servito qualcosa il sacrificio di Enzo Tortola perché è chiaro che la morte di Enzo Tortola è da attribuirsi allo sfaceno alla disintegrazione psicologica e fisica che ha studito dopo quella improvvisa e inerfasta iniziativa che si era concretizzata con l'arresto del lontano 17 giugno del 1983 un arresto privo di qualsiasi elemento di riscontro privo di qualsiasi non dico prova privo di qualsiasi elemento di sospetto un arresto eseguito con prove 000 indizi 000 sospetti nulla ora quell'arresto ha rovinato la persona di Enzo Tortola che purtroppo ci ha lasciati e ha aumentato un po' l'opinione pubblica perché da allora Enzo è riuscito a focalizzare l'attenzione su alcune problematiche prima tre volte ovviamente l'abuso della custodia cautelare che allora si chiamava la cautelazione preventiva e prima ancora direi l'abbiamo posto noi sul passetto la problematica della separazione delle carriere perché da allora si capiva chiaramente che l'ustizio del pubblico ministero aveva una tale di devastante vorrei dire in questo caso potere anche rispetto all'autorità giudicante per cui c'era uno squilibrio notevole tra la posizione del pubblico ministero rispetto a quella dell'avvocato e cosa è cambiato da allora su questa tematica nulla è cambiato sì ci sono state delle riforme che dal punto di vista verbale dal punto di vista formale potrebbero anche soddisfare qualche palazzo però in realtà la custodia cautelare è cambiata solo di nome la carriera ha usato il bel nome custodia cautelare quindi ricordare l'angelo che si stodisce quando poi si finisce in galera nel processo le carriere italiane hanno delle strutture che sono molto da criticare e su cui c'è molto da discutere ma il problema rimane il potere del pubblico ministero che è rimasto invariato anzi direi e si è potenziato perché con la l'istituzione della super procura si è creato l'ufficio del pubblico ministero che sovergia le altre fasi i pazienti troviamo di fronte oggi a un quadro di questo genere ci sono due pugilatori e l'arbitro sono in particolare che l'arbitro non è il terzo stude perché è troppo contiglio troppo vicino alla figura del pubblico ministero quindi c'è una posizione bilanciata non ci sono riforme che possono tenere se prima non ci va la forma della separazione delle carriere il pubblico ministero deve essere distinto distante dal giudice in modo che allora il giudice sia veramente certo e in modo che allora il giudice sia libero di giudicare che non si visca la dipendenza o l'influenza del pubblico ministero Raffaele sì ecco grazie io ti ringrazio moltissimo io spero di essere perché purtroppo non si sente niente no no guarda noi ti abbiamo sentito bellissimo saluta tranquillamente Raffaele noi intanto andiamo avanti e con a questo punto se Massimo Wettmuller vuole lo accogliamo volentieri al microfono grazie io ringrazio voi allora Francesca Scopelliti e Clara Veneto mi hanno coinvolto in questa situazione in cui io non sono né avvocato né politico né giù né tantomeno giudice di niente ma come privato cittadino posso soltanto dire qui la mia umilissima e piccolissima opinione che è quella che poi insomma la partecipazione civica in qualche maniera a noi ci regala sempre secondo me regala una nobiltà a questo quarto d'ora che noi chiamiamo vita di questo passaggetto che chiamiamo vita gli dà uno spessore che altrimenti non avremmo perché saremmo solo occupati a pensare al nostro ombelico e al nostro orticello questo paese secondo me ha tante cose ma proprio tante che possono essere migliorate ma non c'è dubbio che la legge capirai io fino all'altro ieri mi battevo per i diritti degli animali che nei ordinamenti giuridici sono considerati oggetti e non soggetti per cui figuriamoci c'è oggi non mi fa piacere ricordare qua sempre umilmente eh sempre umilmente che la partecipazione civica e l'impegno civico in questo caso si traduce in uno strumento che è il referendum sono è necessario è indispensabile perché stavamo dicendo anche prima che anche chi dice io non mi interesso della società della politica della società civile della comunità nel momento stesso che lo dice già sta prendendo una posizione io credo e sto qui anche per questo anzi soprattutto per questo che il viso per bene eh di Enzo Tortora come è successo a me che da quando fu e io ero un ragazzetto piccolo che pensava solo a giocare ma insomma da quel momento mi ha segnato lo sguardo mi ha segnato il cuore perché è una vicenda che ti entra dentro violentemente e non mi ha più lasciato oggi io sto qui perché davanti a me davanti a questi occhi io vedo la faccia per bene di Enzo Tortora e penso che un altro caso come quello di Enzo Tortora di mala gestione delle cose dove non ho capito se addirittura un errore giuridico lo ha portato dove lo ha portato non debba mai più accadere quindi l'unica cosa che posso dire è andate per favore partecipate per favore votando nel referendum per migliorare la giustizia dopodiché vado a qualcosa che assomiglia al mio mestiere come sono andato come sto andando va bene e che devo fare io ce provo ma allora mi avvio verso il mio mestiere un po' più verso il mio mestiere leggendo una lettera di Enzo la verità deve vincere voglio vederla in piedi diceva Enzo da Bergamo il 30 agosto del 1983 mia cara cicciotta vedi ecco il tuo nome grazie per il quadrifoglio pensa cicciotta il tuo espresso impiega tre giorni per fare 70 km ma io spero che a quest'ora tu abbia ricevuto la mia lettera e ad Anna ho spessissimo affidato tanti messaggi per te il mio silenzio ciccia non è dovuto che a una spaventosa crisi di adattamento travasato dall'inferno di Roma a questo più vivibile ma non meno duro intollerabile carcere perfino il mio fisico ha dovuto riadattarsi ora l'ho rappezzato uso questo termine perché non amo le bugie credimi qui nessuno può star bene soprattutto un innocente che per quanto si faccia forza e me ne faccio amore non può non attraversare crisi di depressione profonda ma anche nel silenzio tu devi sentire è vero le mie parole ho impiegato tanto tanto tempo a coordinare le voci amiche della mia difesa di chi si ribella dico a questa infamia settembre questo sarà il mese gli uomini che con incredibile leggerezza tengono della gente in carcere sono ancora al mare io ho imparato non so se te l'ho detto che esiste la spazzatura umana mi hanno trasformato in quella con un disprezzo totale per l'angoscia che ti infliggono i mali incancellabili che ti infergono ma non rattristarti so che è inutile dirtelo ma te lo dico pensavo stanotte che piano piano i giorni della nostra gioia appena tre mesi si avvicinano ai tre mesi di piombo e di incubo che sto soffrendo quasi ogni giorno di felicità dovesse essere scontato con uno di pena si forte non ti avvilire anche tu non prestare orecchio soprattutto agli ignobili deliri dei rotocalchi infami quasi come chi mi accusa sai di avere le chiavi del mio cuore custodiscile per ora in questo doloroso silenzio cicciotta mai mai avrei creduto che esistesse un universo così straziante vile ingiusto sotto la crosta di un'italietta che non sa non ci pensa non vuol sapere ma ora frustato a sangue da questa realtà il mio compito è uno far sapere e non gridare solo la mia innocenza ma battermi perché questa inciviltà procedurali questi processi che onorano per paradosso il fascismo vengano a cessare perché un uomo sia rispettato sentito prima di essere ammanettato come un animale e gettato in carcere su delazioni di pazzi criminali sono stanco alle volte ciccia il carcere sfibra fiacca riduce deboli con la sua ossessiva monotona interminabile ruota di ore poche le cose che ci consolano fra queste le lettere delle persone care le tue ciccia non disperare non dubitare non temere capito? sia questo un muto silenzioso patto tra noi due ti stringo le mani ti abbraccio forte non sono cambiato sono solo impegnato nella più disperata violenta giusta delle battaglie spero solo che sia l'ultima la vita non è stata buona con me ho pagato tutto anche quel po' di felicità con amarezze infinite ma passeranno sai che sono realista e so che la battaglia tra la verità e la presunzione più assurda sarà tremenda ma la verità deve vincere voglio vederla in piedi e abbracciarti finalmente sii tranquilla lavora io so che passare da una condizione di ruota di una macchina a quella di costruttore portarischi problemi affanni ma sei domina no dimostralo e io in compenso dimostrerò di essere forte ti abbraccio con tutto il mio bene Enzo quindi c'era di mezzo la depressione quindi è stata un'ingiustizia che non si può dimenticare allora che la giustizia quella giuridicamente l'iter la burocrazia sia migliorata fermo restando e lasciando da parte chi ha fatto il Falcone e Borsellino vero ce lo ricordano chi ha fatto il proprio dovere di rappresentante dello Stato nel modo giusto ovviamente salvo quelle figure lì buonasera e grazie a tutti grazie davvero a Massimo Bertmuller a questo punto darei la parola ad Andrea Ruggeri deputato di Forza Italia che ringrazio davvero a parte delle battute di prima per essere qui a testimoniare anche con la sua presenza l'interesse per questa battaglia grazie Roberto grazie a tutti sono passato soltanto per farvi i miei complimenti perché il ricordo di Enzo Tortora è una cosa che secondo me vi dà molto merito quello fu il primo caso diciamo di giustizia mediatica e sommaria di un gentiluomo peraltro grandissimo professionista che aveva intrattenuto milioni di italiani in una maniera di cui oggi abbiamo grande nostalgia e che venne consegnato diciamo purtroppo alle cronache che ne distrussero la reputazione prima ancora che la vita io credo che quel problema oggi sia ancora tuttora attuale credo che noi abbiamo davanti a noi una grande opportunità quella del referendum per poter cambiare il corso della storia la storia che è cominciata tragicamente ai danni di Enzo Tortora e che oggi riguarda molte molte altre persone a cui quel caso purtroppo ha insegnato poco e mi spiace dire che oltre a Enzo Tortora diciamo ai tempi io credo si sia iniziata una lunga serie di errori a volte colposi altre volte meno colposi che hanno infangato anzitutto il buon nome di una magistratura a cui tutti noi teniamo però che vogliamo autorevole e dunque diversa francamente il caso di Tortora è stato un caso senza precedenti ripeto se lo ricordano tutti quanti però è diventato il paradigma di vicende che tristemente e analogamente si sono poi succedute nel corso dei decenni successivi e cui oggi ancora non si trova una soluzione il caso di Enzo Tortora deve ricordarci una cosa che vale valsa per lui e vale oggi per molti altri purtroppo e cioè che in un processo non si entra mai da soli che la propria reputazione viene irrimediabilmente compromessa spesso anche al di là delle assunzioni o delle archiviazioni o in un luogo a procedere successivi a un arresto clamoroso e che spesso e volentieri l'errore di un magistrato causa danni addirittura a imprese dipendenti che perdono la possibilità di emanciparsi socialmente di guadagnarsi da vivere e quindi insomma vengono trascinati anch'essi in quello che superficialità o a volte a peggio ancora dolo causano quindi davanti a noi abbiamo un'occasione io ringrazio tutti voi per ricordare un gentiluomo a cui l'Italia deve delle scuse almeno quella giudiziaria e per ricordare a tutti quanti voi che siete all'ascolto il fatto che dobbiamo andare a votare perché è una giustizia che giustizia è la negazione di essa stessa e perché non si ripetano casi orripilanti come quello che voi oggi meritoriamente state ricordando perciò vi ringrazio Roberto Giacchetti ti richiamo ai tuoi compiti di moderatore ritorna qui pure a condurre questa giornata che peraltro così piccolo aneddoto mentre Giacchetti percorre diciamo lo spazio da qui al microfono ricordo insomma segnò anche una certa ipocrisia del mondo dello spettacolo che insomma non ebbe il coraggio di schierarsi apertamente a difesa di un gentiluomo che ripeto oggi ripiangiamo tutti per come esercitava fantasticamente la sua professione bene io vi ho rubato già troppo tempo complimenti ancora grazie e lascio ci mancherebbe e perciò lascio il microfono a Francesca prego prego grazie grazie mille adesso sono molto felice di dare parola a Clara Veneto che è un avvocato di Roma molto capace ma anche perché figlia di cotanto avvocato che si chiama Armando Veneto con Armando Veneto che è un grande avvocato calabrese fra l'altro non solo condivido come dire una territorialità essendo lui di Palmi e io di Nicotera quindi in Calabria ma anche questi principi sacri del garantismo e dello stato di diritto e li difende in ogni occasione e in qualunque posizione lui si trovi un grande uomo che ha una grande figlia che si chiama appunto Clara Veneto grazie a Francesca grazie a tutti voi ma che dire dopo questa presentazione che evoca anche riferimenti più alti diciamo così come quella che è stata fatta poc'anzi da Massimo e la giornata che è interamente dedicata al ricordo di Enzo Tortora mi piace pensare però che l'evocazione richiamo a questi riferimenti così alti non sia come dire fine a se stesso non sia soltanto la marcord di quello che è stato ma invece sia finalizzato a recuperare una speranza che noi io da più giovane spero di poter portare avanti la speranza quella della riscoperta di un senso di responsabilità che tutti noi ciascuno di noi come operatori del diritto certo ma soprattutto come cittadini avvertiamo perché la storia di Enzo Tortora non sia una storia che si richiude in se stessa è stata fatta in vano purtroppo siamo ancora a distanza di 30 anni a parlare in termini di battaglia a fare richiami a valori di combattimento come se fosse la contrapposizione di forze un punto che dà equilibrio invece credo che adesso occorra stemperare questa 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 dialettica occorre recuperare un dialogo la funzione magistratuale è una funzione altissima purtroppo la verità è che non tutti i magistrati la interpretano e la intendono in questo modo noi dobbiamo fare sponda finché la forza buona della magistratura sia capace di espellere da sé chi questa funzione interpreta in senso distorto distonico quello che ha portato alla sofferenza e al sacrificio di Enzo Tortora che non è un sacrificio isolato quando si dice che purtroppo ancora a distanza di 30 anni molte cose non sono cambiate e tante cose sono ancora immutate non diciamo una banalità lo diciamo con il senso di una visione lata di quello che avviene nelle aule di giustizia ed è vero purtroppo che quello che avviene nelle aule di giustizia è considerato abbannaggio o meglio area di interesse esclusivo degli operatori del diritto e non è così perché la tenuta democratica di un paese si misura rispetto e in funzione quasi esclusivamente dei valori e dei diritti della persona che vengono tutelati a maggior ragione quando l'arroganza del potere entra a gamba tesa nella vita delle persone e allora perché questa funzione di accertamento anche giurisdizionale si muova entro il perimetro normativo rigido e rispetto delle regole che per primo soprattutto chi deve disporre l'accertamento ma ancora di più chi deve disporre del provvedimento che decide nel bene e nel male della vita di una persona si svolga con quel rigore con quel rispetto delle regole per il quale l'avvocato e soprattutto il cittadino comune è chiamato e ritorno al punto iniziale a quel senso di responsabilità e allora la riforma che si intende portare avanti anche se con lo strumento dubbio sul quale possiamo esprimere delle criticità del referendum è una riforma che è una riforma che interessa il cittadino perché la verità purtroppo è che ci si sente toccati solo quando una indagine lambisce se stessi o persone a sedicine non è così purtroppo la giustizia intesa in senso alto come esercizio della funzione punitiva dello Stato deve avere al centro il fatto dell'uomo ma ancora di più l'uomo che rimane al centro del processo e non può essere messo ai margini essere sfocato sullo sfondo in favore di una di piegato ad altre esigenze quali che siano certamente non commendevoli certamente che non dovrebbero trovare ingresso e spazio in ambiti di giustizia effettiva allora per questo mi limito a dare come dire una testimonianza del valore della forza che anche come avvocato giovane richiama il senso di responsabilità mi sia consentito anche dei giovani magistrati che per primi possono fare in modo che si recuperi quella fiducia nella giustizia oggi purtroppo tanto minata è la mia speranza e recuperiamo quella speranza perché l'esempio di Enzo Tortora ma anche dei grandi che adesso si avviano al limitare delle loro vite non si riduca a nulla e non ci lasci ancora una volta privi di contenuti e privi di prospettive questa è la nostra speranza questo è l'invito non solo a documentarsi nell'assenza purtroppo di una informazione che latita ed è rivolta ad altre vicende per carità assolutamente serie ed importanti ma non meno di questa che è una occasione probabilmente irripetibile rispetto alla quale ci sono degli afflati come dire di benaltrismo cioè si dice ci vuol ben altro che una riforma questo si dice per evitare la riforma cominciamo dalle cose che è possibile fare cominciamo con convinzione a portare avanti noi per primi oggi giorno come facciamo io in aula d'avvocato ma ogni cittadino nell'esercizio dei propri diritti e dei propri doveri non ultimo quello di andare ad esprimere la propria volontà attraverso il voto referendario che poi non si dica che si fa qualcosa rispetto al quale non siamo d'accordo perché chi non partecipa perde secondo me il diritto di critica quindi andate a votare sì a referendum grazie Francesca grazie grazie allora adesso diamo la parola al professor Alfonso Celotto che è professore ordinario di diritto costituzionale a Roma 3 se non sbaglio ho detto giusto bene diamo subito la parola ringraziamo Gianfranco Pannone noto regista anche noto per aver fatto il film onde radicali e qui stiamo giochiamo in casa in qualche modo prego professor Celotto grazie grazie mi sento veramente emozionato e contento di poter dare questa testimonianza in fondo anche io ho un passato radicale sono stato capo legislativo di Emma Bonino del 2006 e quindi anzi lo voglio dire e lo voglio ricordare la sera che si decise di staccare la spina Welby venne invitato a casa di Pannella un momento memorabile veramente della mia vita da giovane professore di capire come si fa la politica noi siamo qui per Enzo Tortora per questi 34 anni e Enzo Tortora è l'esempio della mala giustizia è l'esempio di come la giustizia dovrebbe funzionare e di come non ha funzionato e quindi questa circostanza questa ricorrenza vengono accanto ai referendum del 12 giugno sappiamo che l'istituto del referendum è la principale occasione per il popolo di esprimersi direttamente di partecipare alla democrazia sappiamo anche che il referendum che proprio i radicali hanno lanciato negli anni 70 e negli anni 80 ha un po' perso il suo senso soprattutto perché sono stati fatti coesiti su temi molto minori e molto poco importanti e quindi speso c'è una disaffezione dal referendum questo referendum sulla giustizia riguarda peraltro aspetti minuti del referendum stesso perché non è che cambi la giustizia cambiando il numero di volte che un PM può diventare giudice o intervenendo su quello che è la modalità di elezione dei consigli giudiziari ma tuttavia è un segnale è un segnale importante per far capire il popolo cosa pensa della giustizia e quale tipo di riforma vuole quindi secondo me è importante andare a votare proprio in nome di Enzo Tortora e per una giustizia più giusta chiudo con un aneddoto la giustizia non è un potere ce lo dice la Costituzione è un ordine la giustizia ma questo perché lo diceva Montesquieu che quando teorizzò la divisione dei poteri disse benissimo che la giustizia ove si consolida potere diventa troppo forte troppo pericolosa e Montesquieu raccontava e proponeva una cosa incredibile che i giudici fossero eletti e restassero in carica quattro mesi e basta prova per non consolidarsi noi dovremmo andare alla radice di tutto questo e ripensare alla giustizia grazie grazie a questo anche per questo aneddoto che effettivamente è stimolante potrebbe essere una proposta di legge da fare nei prossimi mesi approfitto appunto per ringraziare e chiedergli di avvicinarsi al microfono Gianfranco Pannone adesso c'è un amarcordo perché Gianfranco ebbe anche la sfiga di dovermi accompagnare ogni tanto anzi di aver scelto di accompagnarmi ogni tanto durante la campagna elettorale quando mi candidai al sindaco di Roma e poi però soprattutto il grande merito di Gianfranco per quanto mi riguarda è quello di essersi inventato un film impossibile cioè un film su una radio che è il radio radicale che si chiama Onda Radicali che peraltro ha avuto un grandissimo successo è stato anche finalista in qualche nel Davide Oladello nella parte ovviamente documentari però soprattutto che oggi gli chiediamo di dirci due parole su Enzo sulla battaglia sulla giustizia su quello che vuole grazie molto volentieri Roberto grazie Francesca per questo invito io forse sono l'unico che sono l'ultimo che può lasciare una testimonianza reale non ho conosciuto Enzo Tortola però ricordo che quando è accaduto insomma il fattaccio insomma era il 1983 io avevo 20 anni ero uno studente universitario non amavo particolarmente Enzo Tortola come presentatore per noi ragazzi all'epoca Portobello rappresentava un programma un po' vetusto un po' più per anziani però per me fu una scoperta e lo dico letteralmente anche in famiglia scoprire un po' alla volta quest'uomo perché mio padre è laico e socialista quindi vengo da una famiglia di tradizioni socialiste quindi in qualche modo ricordo questa cosa molto giusta e bella che diceva mio padre ovviamente ci sono magistrati magistrati il politico lo puoi mandare a casa il magistrato no questo diceva sempre papà molti anni fa ed ero fondamentalmente d'accordo per cui io ricordo che in quei quattro anni dei processi seguimmo la vicenda la vicenda appunto Tortola con grande attenzione e Tortola per me divenne una figura cara nel senso che era qualcuno un signore molto elegante che aveva una sua eleganza anche nel parlare nel muoversi nel non scomporsi e che soffriva e quanto l'ho capito dopo tutto questo leggendo magari le testimonianze occupandomi di mondo di onde radicali del film ed era un signore con molta eleganza decise di fare della sua battaglia la battaglia di tutti questo aspetto io lo trovo fondamentale specialmente in un paese addormentato come l'Italia in cui molto spesso non si ragiona e non ci si chiede i perché di tante cose nell'interesse di tutti e questo aspetto io lo trovo estremamente grave sarà perché appunto da ragazzo ho mangiato pane politica facendola anche attivamente vengo da una famiglia con delle tradizioni particolari però la storia di Enzo Tortola è entrata nel cuore mio e della mia famiglia ed è stato bellissimo ritrovarmela un bel po' di anni dopo realizzando appunto onde radicali uno dei capitoli di onde radicali questo film documentario e ti ringrazio Roberto per averlo citato lui stesso è un testimone tra l'altro tra quelli di maggior verve del film grande attore quindi se un giorno il politico non ci sarà ci sarà il grande attore Roberto insomma per farla breve e trovarmi la scelta è stata buon precisa c'erano quattro storie da scegliere tale tante possibili perché una radio come Radio Radicale meriterebbe 30 puntate noi dovevamo chiudere tutto in poco più di 70 minuti una delle quattro storie che abbiamo scelte in un arco di tempo che va dal 76 da Giorgiana Masi e arriva agli anni 2000 appunto Antonio Russo giornalista assassinato in quella Russia che vedeva già la loro protagonista il signor Putin insomma per farla breve abbiamo scelto questa storia questo capitolo e quindi il capitolo dedicato a Enzo Tortola che non può essere che insomma in qualche modo non esauriente perché limitato a poco tempo pensato insieme ai coautori Marco Dell'Omo e Simonetta Dezzi è una parte importante del film a tal punto che con Marco Dell'Omo stiamo e questo diciamo è una novità insomma in qualche modo stiamo pensando anche che la storia la vicenda di Enzo Tortola ma anche di quel maledetto processo alla nuova camorra organizzata degli anni 80 di cui nessuno ricorda più nulla perché poi chissà che il caso Enzo Tortola non serviva a coprire anche altre cose oltre diciamo a certe manchevolezze chiamiamole così dei magistrati di allora ci sta facendo venire in mente ci stiamo già un po' lavorando su a un progetto anche seriale su quegli anni sul caso Tortola e sul caso nuova camorra organizzata non bisogna dimenticare ma il nostro è un paese ricco di memoria ha anche troppa memoria forse da conservare ma la memoria a volte è necessaria per ricordare chi siamo e che cosa possiamo fare di meglio rispetto al nostro passato e anche a tanti eroi del passato sicuramente la battaglia sulla giustizia è una battaglia importante sostengo anch'io questo referendum e non mi importa assolutamente nulla se avendo le mie idee politiche posso trovare sulla mia strada compagni persone che sono magari la pensano diversamente da me perché le battaglie civili sono battaglie civili e valgono per tutto e ce lo insegna proprio la storia dei radicali e aggiungo anche magari dei migliori socialisti e tutto questo io penso che sia importante insomma questa testimonianza per ricordare un uomo che ho avuto modo di scoprire purtroppo attraverso la terribile storia che ha vissuto in qualche modo mi porta ai giorni nostri ci sono ancora battaglie da fare e una di queste sicuramente è quella di questo referendum che dovrebbe in qualche modo aiutare a mettere un po' più in ordine nel mondo della magistratura e dei tribunali e sappiamo bene sarà che un fratello avvocato quindi segue un po' le vicende a distanza quanto oggi sia complesso l'apparato diciamo della magistratura e quanto c'è bisogno di nuovo quindi nel ricordo di Enzo Tortora pensiamo al presente e pensiamo a tutto quello che noi possiamo fare come cittadini io faccio il regista sono una persona che fa il regista ma sono anche un cittadino e dove posso portare una testimonianza attraverso i film o di persona i miei film o di persona come in questo caso io ci sono grazie ecco devo dire che abbiamo mantenuto dei tempi e rispettato i nostri orari e tutto però abbiamo ancora il tempo per un ultimo intervento al quale tengo molto perché si parla di un amico ancora un avvocato ma grande amico è Fabio Frattini di Tivoli anche lui della grande famiglia dei garantisti veri grazie grazie a te Francesca ecco quando Francesca mi ha invitato avevo problemi grossi a partecipare e ho fatto di tutto comunque per arrivare all'ultimo momento allora avevo preparato un intervento lungo ma anche un intervento brevissimo quindi il mio intervento invece sarà assolutamente breve per evitare di andare a superare quella soglia che è se lo sbaglio delle ore 18 io non sono qui oggi a parlarvi delle ragioni per cui all'appuntamento con il referendum noi dovremo andare e votare assolutamente sì andare e portare gli altri a votare assolutamente sì lo sono per questo perché sicuramente chi mi ha preceduto tanti autorevoli esponenti del mondo politico del mondo professionale della cittadinanza tutta l'avranno espresso meglio di me io sono qui per onorare la memoria di Enzo Tortore e per ringraziare Francesca Scopelidi che con la sua testimonianza quotidiana da anni sta portando avanti le battaglie per la giustizia Enzo Tortore è stato fonte di ispirazione per l'unione delle camere penali da sempre ci sono alcuni osservatori che si sono ispirati alle sue battaglie quando lui in queste splendide lettere parla di quello che è il carcere di quello che è la detenzione quando ci fa capire quanto la pena deve andare verso la rieducazione e non verso la tortura quando parla del rapporto tra l'inchiesta e i media per cui quello che sta avvenendo oggi secondo l'opinione pubblica un arrestato è già colpevole è quello che lui già tanto tempo fa ha testimoniato con la sua presenza noi abbiamo creato degli osservatori l'osservatorio sull'informazione giudiziaria e sui media l'osservatorio sul carcere e un altro osservatorio fondamentale l'osservatorio sugli errori giudiziari anche se quello di Enzo Tortore forse non è stato un errore ma è stato un orrore abbiamo tante tante battaglie che lui ci ha indicato e che cerchiamo di portare avanti e una di queste sicuramente è quella della campagna referendaria davanti all'oscurantismo che c'è stato da parte di tutti i media da parte di tantissime forze politiche che non hanno parlato affatto delle ragioni del sì piuttosto che delle ragioni del no ecco questo impegno di Enzo di questa giornata ci deve portare tutti a impegnarci per andare il 12 giugno e per portare quante più persone possibile a votare sì grazie grazie non so se questa penna è tua peccato perché se non fosse stata tua non avessimo trattato il padrone della penna era un bel ritrovo prima di chiudere la manifestazione diamo la parola al segretario romano della Margherita Marco Cappa che peraltro ci ha scusate dopo otto ore di sole di Italia Viva Marco Cappa che ci ha accompagnato diciamo a fasi alterne per tutte queste ore e gli lasciamo la parola per chiudere rapidamente perché poi dobbiamo andare a chiudere i programmi la programmazione anche perché il segretario ultimo romano della Margherita è stato Roberto Giacchetti quindi lo ringrazio per questo impegno che è costante che diciamo rappresenta un punto di riferimento per tanti di noi unisce diverse generazioni e questa sua lotta al fianco di battaglie non importa se minoritarie maggioritarie anzi ci siamo divertiti di più quando sapevamo che eravamo in pochi a farle ma consapevoli che erano battaglie giuste e la battaglia in questione quella di cui discutiamo oggi è certamente una battaglia giusta una battaglia per una giustizia che sia davvero in grado di offrire il giusto processo quello a cui ci ispiriamo sia nell'ambito di quello che stabilisce la nostra Costituzione ma che ha un impianto ben più risalente e che ben hanno spiegato i giuristi che si sono alternati qui oggi cito per tutti però l'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ma sul giusto processo credo che ci sia tanto da fare ancora e le applicazioni normative richiedono un'interpretazione univoca da parte degli organismi giudicanti e spesso anche tra quelli inquirenti abbiamo assistito anche nella quotidianità nella nostra attualità a scelte che sono certamente discutibili però appunto in uno Stato in cui si applica lo Stato di diritto lo dico anche da avvocato quindi essendomi esercitato quotidianamente nell'applicazione della disciplina normativa credo che sia importante che la politica si interroghi lo faccia con criterio determini quelle che possano essere le scelte con proposte legislative e dove questo organismo il Parlamento non riesce a essere così incisivo purtroppo non lo è stato su questo tema e in molti casi abbiamo assistito a una timidezza che onestamente non è all'altezza del ruolo che merita il tema in questione ecco credo che la voce referendaria sia la voce più importante quella più incisiva a chi è cresciuto a pane il referendum e che ci ha trasmesso questa passione oggi abbiamo visto in questa più che maratona staffetta ideale che si sono susseguiti interventi veramente importanti di leader storici di leader attuali di giovani e meno giovani io credo che ci sia stata una voce unica in ricordo di Enzo Tortora si può e si deve fare qualcosa di più la voce referendaria il 12 giugno deve essere quella che ci porti a votare sì a tutti e cinque i referendum quindi grazie a Roberto grazie a Francesca e a tutti voi ai volontari alle forze dell'ordine che ci hanno accompagnato in questa lunga giornata grazie 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 Marco Francesca vieni che abbiamo quattro minuti per salutarci poi parte la programmazione vorrei semplicemente dire abbiamo avuto in otto ore più di 60 interventi abbiamo sentito veramente delle cose straordinarie non solo dei ricordi ma anche diciamo il senso vero di una battaglia che va avanti ricordiamo che noi ci siamo collegati idealmente con il 12 giugno giorno in cui si voterà per il referendum auspichiamo che questa iniziativa possa essere una delle tante iniziative che puntino a fare in modo che il 12 giugno si raggiunga il quorum sul referendum e per le ultime parole lascio la parola a Francesca che anche oggi ha dimostrato poi quanto il valore delle battaglie sulla giustizia non siano cose che si trovano per strada ma che sono figlie di un'attività di un impegno che va avanti da anni grazie io il grazie lo devo dare a Roberto Giacchetti davvero eccezionale e ha dimostrato di avere anche una squadra fortissimi nel senso che tutto ha funzionato benissimo e siamo stati eccezionali nel mantenere 10-18 senza mai una battuta di arresto quindi complimenti Roberto per tutta l'organizzazione e sono particolarmente felice perché davvero è una giornata dedicata a Tortora e questo mi rende particolarmente felice Tortora è stato protagonista e lo sarà anche nei giorni futuri perché sarà lui a guidare il comportamento politico sociale e porterà spingerà i politici ad assumere degli atteggiamenti consoni alle parole che hanno consumato in questa occasione e quindi da trasferire al loro elettorato io vorrei solo fare una preghiera oggi è mancato non è venuto un mio carissimo amico che è il sindaco di Capalbio Gianni Chiellini e non è venuto perché la moglie ha avuto un incidente quindi non poteva lasciarla sola e ci tenevo molto alla sua testimonianza perché se vogliamo raggiungere l'obiettivo finale sul referendum forse bisogna dare maggiore responsabilità proprio ai sindaci i sindaci sono i padri di famiglia sono quelli che possono dialogare con il loro elettorato e quindi indicare qual è la strada migliore tutti noi dovremmo fare la stessa cosa con i nostri sindaci con quelli che conoscono insomma usiamo tutte le risorse nelle nostre mani questa è l'ultima chance che abbiamo se vinciamo il referendum abbiamo una prospettiva di stato di diritto e di giustizia giusta se dovessimo perdere questo referendum non oso pensare che cosa può immaginare intanto grazie a tutti è un grande grazie 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 a Roberto Giacchetti per avermi ospitato qui grazie ovviamente il grazie va esteso a tutta la redazione Radio Polda che ci ha aiutato perché tutto questo non sarebbe stato possibile i tecnici di Radio Polda che ci hanno aiutato ringraziamo anche Radio Radicale che ha anch'essa seguito in diretta questa manifestazione ringraziamo Benedetta Fabrizio insomma tutti coloro che magari da dietro le quinte ci hanno aiutato a rendere così perfetto il va bene l'incedere delle persone che sono intervenute e clamorosamente abbiamo iniziato alle 10 e alle 18 come previsto chiudiamo davvero un grazie a tutti e appuntamento mi raccomando alla 12 giugno per il voto sul referendum grazie